un gioco questa volta andremo a provare insieme al buon copertilt ea ciao di prato solo perdoni è che non sono molto lucido un po di febbre quindi tranquillo tranquillo praticamente io in realtà ho sentito un riverbero fortissimo si ritrava nel provvedì vabbè dai proviamo a vedere se abbassa un po il volume così non dovresti sentire e c'è anche il buon sparta che come ho detto prima buonasera le signor sparta è a che sarebbe l'admin della pagina di facebook di paire in taglia e ok 15 un ora questa sera della sua presenza visto che comunque anche lui è stato uno dei degli eletti dei pochi e poche persone che hanno avuto accesso alla letteralmente sì sì perché comunque sono veramente quattro gatti quattro gatti non lo so dunque io per esempio su questa cosa ho invece una mia piccola posizione poi chiaramente non sono non ho seguito molto da vicino la situazione di imparsa part però per esempio nella vita di age of impasse definitivi di show loro hanno la beta no è rimasta chiusa poi l'hanno aperta in turi a 30 mila nuove persone e la chiave non è arrivata nonostante avesse fatto applai tipo mesi mesi fa quindi secondo me la cosa una un'open beta la cosa di vita così beta ok ma un'open beta poi eventualmente tra messa aperta a tutti in modo tale e trovi altrimenti feedback possibili questa cosa è beta quindi chiaramente sono d'accordo sono d'accordo al 30 non è open di fatto questa è la closet quindi giustamente molto più ristretta perché chiaramente sì ma adesso non conosco bene lo studio che ha prodotto insomma questo gioco ma credo che sia uno studio indie comunque non da un budget elevatissimo anche secondo me questa scelta di fare i personaggi molto poligonali che è una scelta stilistica abbastanza simpatica anche in linea un pochino con diciamo così come se fosse una pixel art però in 3d diciamo così tra virgolette ok mi sembra molto dovuta diciamo più che altro ad uno scarso potere di produzione di oggetti modellati in maniera troppo specifica non so se sono su questo non mi trovi d'accordo non lo so ti modellare maniera non mi trovi d'accordo per comunque ricordiamo che le chiavi che io e adesso copper stiamo utilizzando sono stato offerte proprio da dallo il programmatore stesso che è in italiano tra parentesi quindi è stato gentilissimo a farci questo vicino comunque più volte ha avuto modo anche di vedere qualche volta lui che programmava in twitch quindi in diretta no secondo una scelta è una scelta di stilistica sì perché comunque se ci pensi bene adesso vanno molto di voga i giochi retro no game 8 a 8 bit che se tu dici la grafica è semplice però magari ma guarda io sono un fautore della pixel art a me piace non sto dicendo che non mi piace magari questo anche più facile per cioè magari per la programmazione dei poligoni c'è adesso ovviamente un conto è fare cioè non devi non devi fare i dettagli facciali e le animazioni facciali esatto quindi magari può dare loro più tempo per dedicarsi ad altro quindi magari sia effettivamente quello infatti che volevo dire sare non mi sono forse spiegato certo c'è semplice però quello volevo dire comunque diciamo che per quel pochissimo che ho potuto provarlo anche non è messo meglio da quello che stavamo dicendo precedentemente questo gioco è un rts molto classico che si rifà moltissimo age of empires 2 anche proprio le primissime fasi di gioco sono molto simili con un centro città dei cittadini le pecore insomma per ottenere il cibo le risorse sono le stesse di age 2 confermi si sono esattamente le stesse e non fa bisogna dire che stranamente le risorse c'è il cibo è spostato a sinistra c'è prima c'è il cibo poi c'è la legna bisogna dire che attenzione alla caudì la gino no 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 è che mi sono ritratto sorpreso perché dicevo a questo punto mette proprio come age non lo so poi comunque adesso vedremo io davvero l'ho provato quattro minuti poi ho provato a fare un mini overlay veloce l'ampo proprio per per questo per questa live adesso qui credo intanto una stanza e quindi l'ho vista perché allora innanzitutto da quel questo penso che sparta sia più esperto fra noi arriverà anche devo qualche più info di voi probabilmente sul gioco ma non troppe ok allora so praticamente una cosa che vuol dire che non è stato intuitivo subito che bisogna cliccare sul proprio profilo per scegliere la civiltà perché ogni civiltà tipo un eroe o forse due avevo letto non ho capito bene attualmente sono gli azze che ne hanno due ma sì comunque credo che l'idea del solutore sia questa ok a due ok e cosa fanno esattamente queste eroe che non ho ancora avuto avuto modo di personalmente di provare allora andando sugli azze che che l'unica real alternativa si può vedere che questi eroi danno delle delle dei bonus diversi alla propria civiltà ha ho capito beh mi viene in mente un po tipo come imparare non lo so sarebbe giocato imparato si 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 è che c'è il guerriero e poi c'è il stratega il guerriero fa tanto da me mi pare 100 punti non si fa la civiltà customizzata se non ricordo male fire art no no intendo che praticamente lì nel centro città tu potevi addestrare un era ok no ok pensavo un'altra cosa si è praticamente era fortissimo l'eroe quello che sto stratega che dava un buff potentissimi tuoi guerrieri l'errore guerriere invece faceva schifo si faceva danno però c'era inutile uno solo non cambiava quindi voi dite mi è venuta in mente adesso questa cosa dei vari però non sappiamo qual è il migliore perché non abbiamo ancora il bilanciamento adesso stavo leggendo stavo leggendo qua e diceva punto h h h avete capito ruler rona e warrior un guerriero e si è il guerriero formidabile e potenzia i guerrieri azzechi vicini e lancia delle lanche vabbè di giovellotti e tali mortali e questo qua il governatore sarà il governatore potente completa sempre tipo civilization sai come migliori civilization bello che ti ecco bravo si è molto più se si è venuto comunque sì ci sta come cosa mi piace alterò invece cosa che fanno per esempio allora bizantino belisarius outstanding general che può evocare lol che figata un'armata un'armata isca può evocare un'armata isca carina fa tipo gli ologrammi fa che cosa l'armata di esca e dai bellissimo va bene vabbè io prendo la cd prende gli arabi perché sono pagano o cinesi parlando a questo sceglierlo coming in 0 a non c'è però è disponibile ho capito e salatino giustamente però mancano ancora un pochino di cose mi sa per essere una beta così vicina al rilascio per esempio a vabbè ma forse magari è bilanciata nel senso che è funzione stabile e loro avranno una cosa di beta ancora più avanti un closet si ho capito vuoi dire è possibile che sono ancora provando ma per esempio stavo vedendo che i bizantini non hanno il ruler è ma ha detto lui che per esempio che non è c'è vero non lo sappiamo lì c'è ma io penso che 202 però due eroi è di design secondo me è visto che tutte le popolazioni abbiano due eroi sì sì ci sta ci sta che è scelta noi che sei costretto a prendere solo quello ci sta esatto 12 voleva attaccare pure voglio andare sull'economia perché non posso andare bizantino ed economia se stessi capito che a prendo gli arabi che non so cosa facciano e small facciamo da due contro due con la mappa facciamo grande fratelli e perché mi piace il verde e partiamo in case mettete ero ready e sono partito e lei è tipo commessa craft in teoria quando tutti sono pronti automaticamente il gioco va col caldo a in automatico se si è come sta craft ho visto prima bellino bellino mi piace il numero 14 14 14 14 14 14 14 14 state come esatto ok allora partiremo quindi con il centro c'è alle lezze c'è un piccolo lag tipo quindi ma però c'è non posso cliccare nulla però penso che se tipo il caricamento per tutti ma sì quando mostra quella ma io solito cos'è sta roba io ho un capone di qua fuori ma stiamo scherzando ecco una cosa che manca il punteggio per esempio a meno che che morto è andato è morto sparte adesso ad essere stato demo che si può tenere il punteggio importa a in afk si è preso punteggio importante però non è che devo dire che mi piace un sacco la grafica è molto pulita molto nitida la debita di guerra è bellissima è sicuro è molto simile ai joff and players online si è bravo il concetto è simile ci sta io allora non sono un amante della grafica cartoonish in generale cioè a me piacciono gli 8 bit come stavo dicendo prima la pixel art perché mi piace l'effetto come dire fumetto perché in due di mente un gioco in due dimensioni secondo me ci sta benissimo trova pennello l'effetto fumetto diciamo così un po meno mi piace diciamo sui giochi in tre dimensioni infatti anche il cell shading oppure una grafica come questa che è proprio con colori con una palette di colori chiarissima brillantissima e poligoni molto semplici mi dà un po di giocattoloso gioco per bambini proprio non lo so perdonatemi però è un mio limite lo so però non lo so ognuno ai propri difetti tranquillo coppiti vogliamo vedere lo stesso ma guardi ti posso dire che ho visto una mappa e penso quella fosse nel deserto no e devo dire che un po il perdevo la vista c'era veramente a troppo chiare di giorno ha perché c'è il giorno e notte se non sbaglio non so esattamente bene cosa faccia la notte ma è un aggiunta gratuitissima perché mi viene in mente tipo guarda worldcraft treno ha certo sì secondo me quella si potrebbe sottratenzi come cosa c'è no dovrebbero avere anche su sarro quello che ti dicevo dire artù il giorno e la notte sulla cosa ti ricordi che ti dicevo di czar gioco un pochino vecchio 8 di ambientato nel camelot praticamente e c'era e che comportava in quel caso non ricordo male c'era anche lì e ciò giocato tantissimo fa non ricordo niente però mi pare che ci fosse di chiara non comportava niente se no ma era una cosa di bonus statistiche per non mi ricordo sinceramente ma non tantissimo più che altro serviva per contare il tempo proprio in alcune missioni mi ricordo della campagna era importante rispettare che tipo se non riuscivi a vincere entro tre notti per dire per dentro cose di questo tipo ricordiamo che non ci sono epoche quindi praticamente parte lo zoom bellissimo mi piace bello pulito come cioè ormai non rts è fondamentale sì dai ci sta non si possa ruotare non penso cioè non riesco a fare ma sono un imbecille mi sono gambizzato l'economia gambizzato mi sono gambizzato l'economia come la peggio mafia proprio esatto ma non mi dite guarda non mi dite ma non so chi è giocatore è rosso ma cosa sto combinando ma chi era il rosso gli edifici mi sembrano altre cose cioè ma non c'è scritto a chi appartiene la c'è non potevo leggere a chi appartenesse la non c'è ancora queste cose anche a me che è questa una religia allora che comunque dice voi non avete avuto modo di esplorarlo tutto questo gioco hanno avuto modo di provarli e tutte le civiltà hanno unità dei monaci tramite il tempio a tutte sì solamente che la seconda della civiltà il monaco ha un potere speciale diverso rispetto a diciamo le specie di tipo vita unica ho capito sì non mi ricordo quale civiltà ad esempio un monaco può evocare un aurea che rallenta l'esercito nemico a partire un esempio forte fa molto sì sì ho capito che diciamo da questo punto di vista è molto più fan di questa cosa però mi piace si è molto più vicino ai gif mitologi come mettono mitologi un po sì infatti che altro mi ricordo in paia realtà anche quando c'era appunto il mollo che evocava i vulcani si ti dico è belle le pestilenze vulcani quello può raggiungere ma nell'epoca moderna lì che c'era di andy sneer il profeta lì nudo però quella era bello stiamo scherzando aiuto e notte non vede nulla no ma io praticamente gli abitanti catarifrangenti c'è sono bir di smeraldo oh salve ma c'è provato vieni snig allora ma io per fare il potenzialmente economico bisogna di pagare 400 di legname what the fuck pare di sì amico senta allora lei mi scusi signor serpente cioè ho capito micra micra non si è sposta ma sono pure diversi a ton disaccorta di nulla nel frattempo cioè hai trucidato il mio suddito leale e non c'è ma chi con chi ce l'hai scusa con te con me io ho trucidato chi non ho toccato niente io c'è ricordo scout ecco c'è prima guarda dov'è il mio scout è morto cioè eh sai com'è non so cosa sia successo eh me ne sono accorto eh quindi sei tu che ho ucciso il mio o io ho fatto una strage sì però ormai è stato pagato con col sangue l'attuto affronto marrano oh no oh sì sì oh madonna comunque ah non c'è tipo la forma ah si tieni la posizione queste cose qui no col cavolo ecco una cosa mi piace molto è il blur so che può sembrare strano ma è veramente equilibrato è fatto proprio bene il blur quando sposti la visuale buonasera salve 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 tutti quelli che ci stanno seguendo vorrei domandare se siete in game o sì sì siamo in game guardaci intanto dalla e la e se vuoi va bene ehm avete una stima per quanto avete abbiamo tanta stima di te di te comunque ehm qui sta iniziando ad andare un po' scatti a te a ha ha si ha fatto un po' una bottigina di lag no io non mi sono accorto stavo vedendo la il tech quindi non forse potrebbe essere una questione di di frame rate però non ne sono sicuro non mi sembra molto ottimizzato questo purtroppo devo dirlo perché nonostante effettivamente la potenza computazionale questa cosa qui non dovrebbe essere estremamente elevata ho il computer che mi sta andando a mille col clock sparato a mille bisogna dire che allora il gioco ottimizzato per sé è molto e molto molto leggero perché pesa 400 megabyte poi non so nella ris finale per forse non era una un giga e 7 forse non è sì scompattato però il download iniziale era ah vabbè comunque un giga e 7 installato questo sì sì ecco esatto vabbè certamente si vede come dire non non è per per essere critico o altro in maniera sterile ma si vede diciamo che il gioco abbastanza tutto semplicino diciamo abbastanza tutto qui tra virgolette non lo so cioè allora non è che ci siano ma neanche io voglio dire dal punto di vista proprio del motore di ma il motore è la realtà grafici si non so come spiegare aspetta che intanto sto facendo altre cose e qua un center oddio non riesco a capire sono stupido io comunque qua ok no volevo dire non è che ci sono che ne so cose particolari tipo un motore fisico è a real engine ok però la real engine può essere configurato in mille modi differenti e non è che basta che sia però ed è fighissimo innanzitutto va ottimizzato ok non è una critica sto dicendo se è quello che si vede ok e poi effettivamente sono delle unità che si è molto semplice insomma che si muovono croce un'altra unità e attaccano difendono solite cose presente la stessa cosa fatta con gli sprite invece fatta con con i poligoni ma non chiesto cioè nel senso invece dire sì però non c'è per esempio l'implementazione di una fisica particolare capito per fare un esempio ok o di dettagli grafici particolari o di effetti particellari non so se mi spiego eh ma è un gioco concettuale l'RTS cioè in questo caso sì ma io sto io tu l'RTS lo puoi fare mille milla modi diversi non è che devi per forza farlo in un modo non so che se mi spiego no vabbè non fa niente adesso giochiamo poi ne parliamo dopo ok ok ovvio ma anche se non riesco neanche a spiegarmi mentre sto giocando che sembra che dico delle cose idiote ma ma anche cioè penso che proprio la dire che mancano quelle future che rendono questo gioco diverso da Age of Empire a parte questo voglio dire che è abbastanza basilare cioè capite voglio dire mi sembra abbastanza basilare sinceramente è bello cioè non sto dicendo una cosa basilare può essere anche eccezionale non sto dicendo che è brutto perché basilare è tutt'altro ok cioè se è fatto bene se è progettato bene è un bel gioco però ne ha poche di feature capito questo sto dicendo ecco forse adesso è più chiaro non so se però però capito cosa vedete hai poche opzioni di evoluzione cioè puoi fare poche cose no ci sono proprio pochi contenuti cioè sì nel senso allora la grafica è molto semplice le animazioni sono molto semplici non ci sono effetti particellari non c'è una fisica implementata in un modo particolare per quello che sto dicendo chiesa poco però questo discorso ancora nell'ambito del motore grafico o del gioco in sé l'ambito del proprio del comparto tecnico sì e poi un attimo perché differenziamo il gameplay dal dal comparto tecnico ok che è una cosa diversa quello sto dicendo sì 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 no stavo cercando di capire cosa intendevi esattamente perché mi era chiarissimo non si può fare un terzo cento città sì però deve essere all'ultima età della civiltà il libro ma è detto beh noi comunque stiamo provando ancora qualcosa da zero ah una cosa con un'altra secondo me che effettivamente potevano essere magari cioè allora ho visto tipo quella cosa degli assassini no? cioè tipo che c'è un'unità le azze che hanno un'unità invisibile poi catturare i nemici e queste cose qua ma tu sei a seco scusate? no 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 però c'era il video promozionale che ti facevava che ah eh sì 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 parlava di questa cosa e come cosa è fantastica solo che secondo me dovrebbero usare un pochino di più cioè se no sembra veramente cioè è un rischio è un po' come sai i giochi sai i giochi rpg che dicono è un buon clone di diablo 2 no? è un clone quindi già le gambe tagliate perché è una cosa molto brutta cioè perché se tu dici un bel rpg è un bel clone di diablo cioè capito? quindi secondo me si si le scorse di mettergli eroi per esempio è una cosa sicuramente in fondo di una porta aperta eh hog in fondo di una porta aperta comunque io penso che la maggior parte del fatto che la maggior causa per cui questo gioco pesa poco è che effettivamente ha delle texture veramente minimali perché essendo praticamente tutto quanto cartoonisce le texture non sono ad alta risoluzione sono per lo più cose quasi monocromo spalmate in upscaling molto probabilmente cioè se tu vedi le texture degli alberi fondamentalmente sono verdi diversi sono tutti verdi diversi oppure addirittura un unico verde è un unico verde con le ombre probabilmente addirittura come dice lui questione di motore grafico che fa la luce dinamica cioè in questo caso neanche dinamica è fissa e ti fa le ombre praticamente non so se la telecamera può ruotare questo acquistarebbe una cosa carina che si vedrebbe un'eventuale luce dinamica in quel caso la telecamera potesse ruotare circolarmente sarebbe una cosa carina da vedere tecnicamente non so se mi spiego sì 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 quello eh io questo stavo cercando di dire che non riesco a parlare mentre gioco purtroppo e vabbè ma tanto perdi lo stesso sì quello è certo non non era ti voglio bene l'intenzione vincere questa questo facendo chiaramente noi non sappiamo i bonus delle marciviltà insomma se ci sono dei bonus nascosti come per esempio ci sono dei age ma io non credo sai perché age per me l'hanno gli hanno creati i bonus nascosti bilanciando dopo l'uscita del gioco in maniera postuma secondo me eh secondo me sì non lo so bisognerebbe vedere se nelle primissime versioni c'erano o no proprio intendo Age of Kings 1.0 non lo so sta cosa di non poter fare centricittà quando vuoi comunque vabbè poi è una scelta degli sviluppatori per carità però secondo me non è giusto nessuno è libero di fare un po' quello che vuole cioè se vuoi fare il terzo centricittà l'altra tiara poi con la militare ok è affare i tuoi però secondo me dovrebbero dare la possibilità di scegliere se vuoi morire insomma cioè nel senso tu vuoi fare economia ok va bene te lo faccio fare poi muori e cioè la prossima volta ci penserai meglio ecco sì va bene deve essere anche perché se uno vuole boomare vuole fare una cosa di questo genere se non gli dai le possibilità di base è un pochino complicato adesso che stanno aumentando le unità mi inizia a laggare veramente a bestia tantissimo sì io ho selezionato i preset ultra praticamente volevo vedere come se la cavava perché comunque il gioco come ti ho detto io è vero che l'area engine 4 insomma è un bel mattone se non l'ottimizi si è allora puoi anche renderizzare una sfera e far impallare un pc con la real engine 4 insomma se non l'ottimizi bene comunque ci devo dire che ho l'impressione che dovrò abbassare le le impostazioni speriamo che si possa fare al volo però non sto laggando penso che è una scheda grafica più potente della tua semplicemente beh guarda il tuo è di una generazione più recente eh sì lo sai te lo insomma sì comunque è molto bella questa grafica cartoon molto stessa io però purtroppo non riesco ad apprezzarla tanto sapete cioè per quanto sia una grafica ben sviluppa perché allora oggettivamente questa grafica è molto gradevole è molto pulito cazzo mi sta attaccando malissimo e no è molto è mi ha distrutto l'anima aiuto non me l'aspettavo sto facendo tutte le cose economiche vedi boomer eh eh ho hai visto no vabbè ho perso male comunque mi stava laggando da morire comunque stavo dicendo la grafica ma tu mi lasci solo adesso contro sparta sei pazzo tanto adesso ne posso parlare no ma mi faccio battere non ho intenzione di di riprendere sinceramente comunque così almeno ne posso parlare e sto dicendo la grafica è realizzata molto bene per il concetto che volevo esprimere perché è incredibilmente pulita è gradevole gli zoom sono veramente molto belli e addirittura vedo che c'è anche un filtro che se zoom almeno adesso che è notte cambia addirittura colore e probabilmente questo è per è una cosa scenografica però sono quelle piccole chicchette che ti danno la come dire la sensazione di un prodotto pulito molto bella questa cosa io mi faccio battere ragazzi non ricostruisco il centro città mi faccio battere e una cosa che non so però secondo me dovrò implementare il campo visivo che se sono su una collina posso vedere più ma non lo so se questo perché forse questo c'è eh perché in teoria la real engine può gestire le traiettorie e la fisica diciamo di per sé capito? ci mancherebbe quindi in teoria dovrebbe poterlo fare eh sarebbe bello i miei cittadini si sono pixelati nel frattempo quindi molto ovviamente c'è anche da parte del motore stesso c'è la possibilità cioè stavo vedendo una cosa oscena sembra quasi che i cittadini siano nudi tra l'altro ma cosa? non sto scherzando qui sembra che non ci siano sto inquadrando i cittadini zoomando sembra che abbiano le bracche calate tantissimo forse è la civiltà che è così ah sì forse è la civiltà wow ma perché mi vuoi così male io non so giocare sparta comunque stavo dicendo ehm stavo dicendo per come è stata pensata è stata realizzata molto bene cioè si capisce che il concetto era quello di fare una roba cartoon diciamo così di un certo tipo con un certo stile grafico ed è stato realizzato molto bene cioè rende l'idea è pulito è gradevole è luminoso forse un po' troppo in alcuni casi come dicevi te precedentemente però l'idea di star giocando ad un pochino una cosa un po' plasticosa un po' giocattolosa non me la tolgono devo dire che forse per esempio gli edifici no adesso che notte è molto difficile per esempio gli stimi cioè questa monocronia diciamo così penalizza molto esatto sembra che sia tutto mancano i dettagli i dettagli che sebbene non fondamentali tuttavia contribuiscono a rendere comprensibile e gradevole quello che si vede potrebbero per esempio cioè non bisogna esagerare troppo a fare le cose minimali altrimenti inizieremo a giocare i giochi che hanno soltanto quadratini in bianco e nero e ci stiamo avvicinando a quello che penso ma per esempio un'idea potrebbe essere di fare un bello scudo solo edificio bello in vista tipo un cavallo un arco e una spada ah beh sì certo sì 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 ho capito con un simbolino sopra che ti indica il tipo di cioè che sembra stupido però per esempio un contesto così che come si chiama la lobby? eh adesso la creiamo subito ehm restare i quit comunque a me si è bloccato eh come si è bloccato? è normale è normale ah eeeh allora comunque a me spuntano ancora le lobby di Eug una è un game devo proprio dal task manager devo proprio terminarlo ho tre quattro tranquillo e l'altra copre è scarso ok la nuova stanza dovresti riconoscerla è in tuo onore no aspetta ho sbagliato devo fare più slot anche gli di che la lobby si si ah ah like i like like e no aspetta update .... no, c'è 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 ok ciao Ok sono entrato, se non ho problema mi sento un minuto proprio di numero, torno subitissimo Vai vai Aspettatemi Ok, allora, Sparta è OP, l'ho visto Quindi sto pensando a cosa fare Facciamo noi tre contro Sparta, ok, così dovrebbe essere equilibrato Io ok, ho messo i team come hai detto tu Cosa? Non ho capito che hai detto Intanto ci sono già, ci sono sei spettatori che stanno guardando Questo showdown fra Copper, Demon e Eog contro Sparta Per bilanciare Eh sì, guarda che, ma mi sono quanti cavalli avvenuti addosso Purtroppo no, perché volevo vedere la mappa globale ma mi si è bloccato il gioco Ecco un'altra cosa, io ho fatto Resign, non ho fatto Resign Quit E la visuale non potevo muoverla, cioè potevo usare solo il mouse per muovermi E non potevo muoverli liberamente invece Non so se... Vabbè vabbè, giochiamo E non c'è Sparta, non c'è Ci sono, ci sono Ah ok Allora, tutti i team 1 tranne Sparta e team 2 LOL Ti do pure la mappa da due contro due Così hai... Non neanche capito quando esce l'eroe in realtà È l'espiratore Comunque... Non ci siamo privati L'eroe non dovrebbe uscire mai Cioè dovrebbe essere tipo un leader esterno a quello che è il gioco Da quello che ho capito Un po' come in Geoff Empire 3 Eh, esattamente È tipo una passiva? Ah È tipo una passiva, è più esatto, sì È come se... No, è una passiva La definizione è perfetta Ah, pensavo proprio che ci fosse l'unità che guidava l'esercito No, non credo sia Ma la mappa è un eroe È che insieme ha perso nel guardo Ciucuno Ciucuno Eh Vabbè, proviamo Eh, Copper Team 1 Ah, giusto, scusami Eh, una domanda La mappa è un po' più grande, no? Eh, no, vabbè, dai Va bene, va bene, va bene 3.3 Comunque vi invito Cioè non è che sia un esperto Però vi invito a vederla Cioè rispetto a Age in cui siamo abituati È molto più veloce Sì, è molto più veloce Ma più che altro Una cosa che sembra una cazzata Ma non la è a livello di gameplay È il fatto che Quando tu stai cazzando di età Vuoi utilizzare le sue città per fare gli abitanti Eh sì, sì Quello è tanto Siamo quello che stai facendo Ok, abbiamo capito che a sport è super pro Quindi No, ma in realtà no Vabbè, secondo me ho giocato più di noi Cioè io ho già spero che cosa facesse la mia civiltà Non mi ritengo di essere un frouse però Ah, Damon? È bravo Sto distruggendo il microfono Ok Ah, io ho preso una civiltà che fa arciere Quindi Lo vediamo Ma io ho la mappa già vista Perché avete deciso Solo tu perché sei speciale Sì, l'ho messo io esplorata Per facilitare noi Ok, ok Adesso tipo Sparta farà tipo Tutti cose Mi piacciono le mappe già esplorate Sono sincero Eh, lo so Però cos'è più Eh, ma A proposito le mappe Non sono procedurali qui, vero? Qui sono già predefinite? No, sono tutte Generate random Sono procedurali? No, chiedevo perché non ho neanche mai avviato una partita Per cui No, no, ma c'è scritto Era C'era in un trailer Diceva Sott'aggiunte le mappe procedurali No, ma va Ma sempre quelle uguali No, ma Davvero? No, erano quelle Oh my god Gran che Non ci hai mai giocato allora Eh, l'ho provato una mezz'ora Poi No, non lo fa per me No, ma è carino come gioco Secondo me aveva delle trovate che erano veramente ottime E altre un po' meno Sì, esatto Però è un gioco fornitato Eh, ha avuto sfiga comunque Bisogna dire che era molto meglio di come secondo me lo raccontano tante persone Anch'io l'ho provato pochissimo, dico la verità Però da quel poco che ho potuto giocare La campagna è più bella È più bella di quel È bellissima Campagna Meno sono innamorata Non è che ci volesse tanto per fare le campagne meglio del 2 Eh, ora Diciamo la verità Anche Ma non è che Ha una campagna Ha una lore sua Non è che sta facendo I personaggi storici Ha una lore Ah, ci sta, capito Così è È massonica Non sto scherzando C'è i templari È bello Perché ci entramo Vabbè, ok Sì, che ci sono state parlando Scusate Della lobby massonica Ma no Vabbè No, no, no Fermi Ci sono pecore Ah, però devo dire che non ammazzano tutte le pecore che trovano Non l'ho capito Cos'è che lo fanno? Non ammazzano tutte le pecore che trovano Ah, sì Quelle non vanno in chiede spray Quello sì è vero No, ma la mana dal cielo Sì, è vero Che vanno una per una Fanno le cose per bene Il macello Oh, come sono disciplinate queste pecore Che poi veramente anche questa cosa, no, ma Porca miseria Quelli di Forgotten Empires Dico Ma mettetela una patch del cavolo Dove i cittadini non scannano le pecore a caso Come si pinga Come si pinga, guys Ci vuole pochissimo per uno script Alt più clic sulla minimap L'ho scoperto adesso E qua, guys E qua, se esploratore E qua, se esploratore Ragazzi, scusa Dove, dove Facciamo un appello a reti unificate a Forgotten Quelli di Forgotten Quelli dello studio Che stanno Eh, cosa, per cosa Attendo Eh, di 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 Ma Vedi che le loro email sono Piene così di Di quelle cose Di Sparta Ma viene tutto Però c'è Fino a quel C'è un bug Che Un bug Che Non mi funziona più la selezione Multipla Riquadro di selezione Eh Non mi funziona più il riquadro di selezione Cioè Seleziona più unità Oh Eh, o che non è difficile Il riquadro di selezione Quando tu selezioni più unità con il riquadro di selezione Ah, è vero, è vero Anche me non funziona Anche me non funziona A me funziona perché Sono raccomandato Se 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 clicchi sulla minimappa Dove succede Allora Non funziona con unità singola Ma con più unità funziona No, invece a me non funziona Più al contrario Ma non ha Sento Ma adesso ho cliccato sulla minimappa Come diceva lui E adesso rifunziona Avevo paura che Si sia baghato il tasto tab Eh Alt Scusami È proprio un bug Allora È proprio un bug brutto Cattivo Cattivo Bug Cattivo Ma non capisco Io ho Ma cos'è sto coso? Una cosa che Quando distruggite un edificio Ah ma non è la mia unità quella Ah lol No non funziona più neanche adesso Oddio Ma chi è che ha il C C C Ce 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 Cazzo eh Eh Non Boh Io le ho fatto Mi sono fatto il colore È blu È l'alleato Lizz Don't kill me Che è sta roba Produce chips No non le voglio le Le chips Esatto Buone le patatine Ma cosa? È pazza ragazzi Dimmi che non sono buone le patatine Mi sta andando tutto lentissimo Allora Ecco un'altra cosa Alcune Io ancora trovo difficoltà a distinguere a colpo d'occhio le Le varie strutture diverse Perché ci sono le case Che sono simili a Serme Praticamente le caserme sono case senza il tetto sopra Abbiamo i magazzini che Anche Tipo degli avamposti Delle casette Non si capisce che un magazzino guardando Lo sto facendo una fatica È quello che diceva Sermè di mettere un'icona sopra Sotto No no ma proprio neanche dal menu di costruzione Ci metto un quarto d'ora Prima di decidere qual è la Vabbè ma poi non c'è lo fai In modo automatico Non penso Ho capito che impari Però volevo dire che Dal punto di vista Proprio anche Legislativo Esatto Soprattutto il legislativo No anche un pochino estetico Diciamo Non è che sia molto chiaro Quello che stai facendo Ecco tra virgolette Sembi drogato Ti impasticca il gioco Un pochetto si in realtà Comunque Volevo che dice la verità Ovvero minchiata Ma la verità è una gran minchiata Le frasi sue Hai visto? È quello che sei a dire Che devo dire Comunque Il rally point viene messo Tipo un quarto d'ora Dopo che io premo Non c'è una statistica player Eh l'abbiamo già detta questa cosa Ah scusate Io ero manducare Eh no lo so Ma infatti è una delle varie cose Appunto secondo me da fixare Perché dai la statistica giocatori È fondamentale Cioè Cioè Devi impanicarti Prima ancora di vedere Le nemiche Esatto Cioè tipo io avrei sorrendato Prima di Cioè se avessi visto subito Il punteggio di Sparta Ma anche io probabilmente Avrei sorrendato da un pezzo Non fai neanche più Quello che devo fare Adesso Ma qua c'è uno scout Di qualcuno Qualcuno lo Lo prenda Mi prego Ah bravo Chi deve prendere cosa? Ah ok Perché non sta facendo niente La lentanza C'ha la lentanza Non è l'est No È lento Il meme Ti ricordi il meme Il meme Che dobbiamo fare il logo lento Purtroppo sì Un giorno lo faremo Sarà bellissimo Ma io l'ho fatto Per lei Non so se ti ricordi Forse è meglio Tra l'altro C'hanno pure scritto Ma non sta neanche Il buddo dice Sembra OE2 Con la grafica cartoon È il buddo Praticamente È il plaggino di Age2 Con la grafica cartoon È plug-in È il plug-in di Age Quella droga Oh ma sono stati ammalati Porche Eva Eh stiamo morendo ragazzi Oggi proprio Sarà la primavera Che ti devo dire Lava come lava Comunque mi lagga In una maniera Norma Secondo me Perché non posso fare il mulino Scusa Perché pulsi Eh beh A parte quello Ma Non so se esiste il mulino Non c'è il mulino Esiste Esiste No i francesi Se non sbaglio posso Ah ma è proprio diverso In città Delle cose un po' diverse Sì sì Infatti per quello Di paragono più a mitologi Che hanno Ah ecco perché Non ci capivo un cazzo Perfetto E le ricerche Che mi faccio Le ricerche Tecnologiche Oddio Non andando ricerche tecnologiche Queste cose Oh no E ora? No Per la ricerca tecnologica Economica Devi fare un edificio a parte Eh non ce l'hanno questi qua C'è qualcosa Si chiama tipo poteri workshop Una cosa così Eh non c'è Tu è sicuro Sto guardando qua Adesso l'albero I tree tree Tecline Non ce l'hanno C'è strano Non dire Non dire Prolaccio Eogu What? Cosa sono questi rumori? Sono io che sto per la venire Ad aiutarti Non è vero Ma io sono già Era due Sono Diciamo quattro E Cioè Detto in modo Personcina di un certo livello A grandi linee Allora Da Ducano Ti sta laggando come lo schifo Ma a me Io c'ho tutte cose ultra Ma che è una meraviglia Maestro bigliano Beh Ragazzi io vorrei dimurare il nostro avversario Perché non mi fa Tipo Passare Cioè Fare altri Tc Ne puoi fare solo due Così ha detto sparto Ma che ne puoi fare Hai un limite Non credo sia due Capissimo Ma Devi aspettare Cioè ne puoi fare uno A fase civica A fase civica? Sì È la prima Il libro Tutti stupi No Fase economic Tutti quanti Fase civica Fate un mercato Come si pinga? Contro Alt più Per click Marchetto Salve belli Se non sta scherzo Alt più Alt più click Fai un mercatino Eh vabbè Poi cos'è questo sto ammino Ah comunque Il mercato Può andare Può commerciare anche con In cento città Come mitologi Esattamente uguali Oh p Però io sono Classico Sono liceale Così a caso E non so se sia un bug o meno Ma se fate due mercati I vostri Possono commerciare I due mercati Non riesco a cambiare Il rally point Del centro città Oddio il mercato interno Ma il mercato interno Esattamente Ma non potessi Mentre con Ofici Io qualcosa C'è l'uomo Ti giuro Non hanno potenzialmente Econoci questa cosa Perché io se clicco Sul potenziamento militare Non me lo fa Anche se ho le Se Cioè lo premo Non succede niente Ma perché si impalla sto gioco Perché lo stai giocando tu Non mi sono Non è logico Molto alternativa come cosa Questo Sto passando Non c'è Cosa stai dicendo Non mi confondere Che già questo gioco Ci pensa di Ma io l'ho già risposto A voce Ti ho detto Timbastik Ah scusa No Stronza Adesso La paga Va bene All'ultimo sangue Però non tramite il gioco Tengo a trovare Vieni qua Va bene Scendo io dopo a Roma Quando c'è il comicon Romics Non siamo così fortunati Di avere un comico No Io mica vengo a Roma Scusa Vado Altro passo a Roma E vado a Raffoli Perché devo venire a Roma Non capisco Ah ok ok Però queste marce Su Roma Non mi piacciono Sospetto Sì Dove ti dico E' riuscita la ganga Anche me Stavo C'era Ma forse Io faccio Dei potenziamenti Che penso Possano servire Beh Se no Non li farebbe Non li farebbe Certo Non li farebbe E beh Comunque no Veramente Una cosa Che vorrei chiedere Allo sviluppatore Ti prego Ottimizzalo un pochino Mamma mia Ma tutti sappiamo Che è più difficile Ottimizzare Che programmare E beh Sì E' vero Questo Però Però Non c'entra niente Cioè Non è che Il fatto che sia Che non sia Una cosa semplice Vuol dire che Può essere Trascurata Insomma Altrimenti Girerà soltanto Su hardware Veramente potenti E per una differenza Magari è come Se metto tutto al minimo Mi disabilita qualche fettino E magari va anche meglio Ma secondo me Il fatto è che Non puoi fare una cosa del genere Cioè non puoi Cercare di tagliarti del pubblico Perché è importante Se tu vuoi Eh capito Esatto Sono passato solo Per un saluto veloce Purtroppo ci vediamo Su Discord Sempre Sasuke Eeeh Va bene Grazie mille Intanto per essere passato Perché ci fa sempre Molto piacere Eeeh Tanto ci vediamo Come hai detto te Su Discord Ciao Allora Facciamo il tempio dei preti Dunque sono troppo simili Generiamo i spiagni No Assurdo Io non ci sto capendo Allora Oh guarda come muoiono Le mie unità Oh che bello Aspetta Aiutalo Demon Sì sto manando Le truppe Eh le mie unità Sono morte male Ma sbaglio Non c'è un suono Tipo Eh questa è una cosa Molto importante Oh no Ma veramente Già mi stanno entrando Stiamo scherzando Ma poi questo Non prende i comandi Gli ho dato il comando Un quarto d'ora fa Non lo prende Ragazzi Per me è ingiocabile Non riesco a dargli i comandi Non mi da retta Non riesco a spostare le unità Perché sto di costruire una cosa Un'ora fa E non me la sta facendo Probo Perché è notte Però è un po' troppo Fassilioso La macchina Troppo Troppo pesante Anche me Stai lagando tanto No Cioè non riesco a spostare Questi cittadini Mi li sta massacrando tutti Non riesco a spostarli Tè Al santo Muoiono tutti Ma le mie ciupe Eh tiè Mi ha distrutto il centro città Vabbè Ciao Ciao Ma è impossibile Dai così Però Non riesco a giocare Mi dispiace Mi pingate dove si trova il fellone Da me Da me Da me Aspè Ressing in progress Ressing in progress What? Non mi era mai capitato questo Penso che si stesse sintronizzando Non sono io? No Non sono io No Tutti mi sono No anche io Quindi No Non sono io Che sto laggando La partita forse La partita mi sa Secondo me non hanno accolto bene le tue Le mie cavaliere Ma vedete che va avanti il gioco Se vede No Perché a me No Sono soltanto le animazioni Ma Cioè le animazioni vengono ripetute Ma di fatto non sta andando avanti Il tempo di gioco In tutto questo segnale Che è un errore di battitura Process Ma se tu vedi che puoi selezionare Comunque Eh non posso farlo Io posso selezionare Ma in realtà non sta succedendo niente Ah è vero Mi sa che l'abbiamo perso sto game Qua ha vinto la maggioranza Esatto Non è più truppe Mi spiace Sparta Ma non è vero Ma è la vita Che facciamo? Eh usciamo Alt f4 Eh mi sa che La denazione Il momento Play game E play and parts apart safe mode Cosa vuol dire? Dovrebbe essere la modalità Con meno Teorie effetti speciali Cioè per farla girare Pure su un macinino Dove essere Tipo modalità provvisoria Diciamo Sì 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 Ah nel senso magari Boh Non lo so Non lo so Essendo una beta Probabilmente Free Però ecco Diciamo che io Se devo dire Non lo so Forse potrei fare Forse potrei fare L'edificio Forse potrei fare l'edificio più bianchi Ma chi se ne frega Start up Allora Che vuol dire Ani Sto rientrando Adesso metto Le impostazioni al minimo Comunque Forse è meglio Vado spettatore Io No no Guarda Io Mi piace anche Giocarci Però Non mi voglio Impegnare Infatti Facciamo tre contro uno È la cosa più equilibrata Che stile Allora Abbassiamo un attimino L'anti-aliasing Che magari è un pochino troppo Ok la stanza è creata l'esto Ok Mettiamo dettagli Come li mettiamo Mettiamo Hig invece che ultra Dai Mettiamo un pochino più Multiplayer Vai Qua è 1v1 No È fatto Aspetta La lobby ce l'abbiamo Non ti vedo Sì sì A giorno A giorno Non ti vedo Ti sto invitando Fai join Guarda che si legge Il chat sta cosa Ok Eh qua Deve essere bravo Lo stai Fa il bravo No Niente non mi fa entrare Allora rifaccio Anche perché qualcuno Fa battute troppo poche simpatiche Non dovrebbe Ma Con gordo Vero demo Noi lo banniamo Quando lo troviamo Sì sì Sono d'accordo con te Non ti dà troppo la corda Però eh Eh demo Ok Dai La stanza è aperta Ha scritto niente spam A caso perché Non sapevo che titolo dare Perfetto Trovato Sì Ok Ok Perfetto 3.3 Ok Team Achieve Team Odise Sparte si mette Franchi Non lo so Non so Provare Non lo so Cos'altro Sì E poi ti ridà la stessa di prima Probabile Però senza abitanti Vedi per esempio Ah Saladin Neanche Troppo te Copper a fare Redia Sì sì Stavo provando a vedere una cosa Nemmeno mi fa scegliere l'eroe Eh sì Perché Non c'è ancora Eh lo so Sì È quello che stavi dicendo prima Non mi ricordavo Non crederebbe l'albero Tecnologico All'inizio Però Cioè Tipo Sai quando Esatto Come age Sì Come age Che tu lo puoi Lo puoi vedere Senza entrare in gioco Perché giustamente Tre sta in gioco Che parlo Bisogna ripartire Da un zero Sono un uomo di pocafere No Resync No Non può essere Ma è strappiando Oddio Lizzo Non so Da cosa si è dovuta Sta cosa Ci stanno tracciando È vero Stacca Stacca Ci stanno tracciato Stacca Stacca Ok Ho fatto il mio Per me Per dire Sta bella cosa No no Bello Sono rovesciato Facendo rubare i figli È vero È bloccato Sì Staccato il server Perché mi ha portato male Del gioco E allora È possibilissimo Sti stronti Stanno facendo pubblicità cattiva Stacca 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 Proviamo Mai provata Quindi Sì esatto Quello che dicevo Prima Perché Sì Era la 0.9 La Dai ragazzi Ma dove è la safe modere È all'inizio Quando fai play Su steam Ti comparo Su steam Dei fare play Ah ok Ok ho capito Steam Libri Empire Empire Part Magari Empire No è la stessa versione Ma chissà cosa No sì effettivamente Anche le impostazioni Sono uguali A quelle che avevo Magari graficamente Proprio in campo Ma non lo so In genere La safe mode Dovrebbe essere Col motore Ai minimi settaggi Buono Dove le differenze No perché dal punto di vista Guardate Per esempio Dei menu Dello stile È veramente molto bello Cioè Molto elegante Però Secondo me Si perde un pochino dopo Non lo so ragazzi Non mi ha dato Delle sensazioni Veramente Le edifici secondo me Sono un po' troppo scure Cioè io le farei un pochino più bianche Perché così si capisco che sono degli edifici Tipo Cioè Dio riconosce che sono degli edifici Sì ma no Proprio in generale Sa un po' di Già visto Non capito che voglio dire No ma anche Anche un pochino per dire Gli assunti Cosa diversa Capito Ma hai fatto che per esempio I per esempio C'erano sei risorse Capito Sì ma non solo quello C'era tutto il fatto delle epoche Che erano di più C'era il modo di aggiornare le unità Che era diverso C'erano Ma c'era la CR in mezzo Stiamo parlando di una multi Cioè Non so Sì sì No sono d'accordo Posso dire una cosa senza Io penso che sia Un bel gioco Io non ho provato I joff empires online Ma penso che possa essere Più o meno sulla stessa falsa riga Forse anche meglio Può darsi pure meglio Con la verità Pronti Però mi sembra un po' un compitino Detto proprio Capito Comunque coperto con questo però Mi ricordi troppo la pubblicità Di sai cosa Cosa E pensaci dai Però però Sicuro è sicuro Ah in quel senso Vabbè No no Non so se hai visto la seconda parte Sì Sì ho capito Sì 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 Ok Mi l'hai ricordata Perfetto Sei preciso Sei preciso Eh però 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 Hai ragione È uguale Non è che Guarda con il seno del poi Non è che questa pubblicità Sia servita molto Però 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 Appunto Vedi però Eh viene a po' Sì Ci hanno fatto Non lo faccio apposta Però Basta Basta Esatto Uguale Ti prego 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 Fare cose strane Guarda sta funzionando Io non lo so Eccolo ha detto Copse Siamo spacciati Siamo spacciati No non è vero Sta funzionando Sì maledetto Maledetto No non è maledetto Lei l'hai detto Adesso È male Non si può fare una battuta No Il boar è di spiaggere Io Ma perché Isole Ma ecco perché Buar Eh Hanno ucciso tre pecore Hanno ucciso Le tre pecore Chi sia stato Non si sa Chi Chi Juga Vole vuoi Vole vuoi Vole vuoi Vole vuoi danse Ja 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 Molto finlandese Lascio perdere Molto finlandese Guarda come specifico lui Ja Ma se non faccio una casa Praticamente io sono morto Eh povero Vabbè non l'hai chiesto io C'erano Potevi pensarci prima Dov'eri tu Quando servivano le case Condoni edilizi Eh 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 Stavano facevano pure gli incentivi Dov'eri eh Dov'eri esatto Passo zero Te le regalano le case Te le inviano via apposta Via a me con la raccomandata La pecca che le inviano Ragazzi con noi Dove fare il po' E una dopo l'altra Che diventa tipo un unico blocco Più lungo no Molto bello Sì 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 Molto figo A me piace Questa cosa è figa Sì questa cosa mi piace Credo che sia fatta apposta Credo non lo so eh Scannati pauri annati Ragazzi come si chiama le case coi mongoli Ah non puoi devi fare I mongoli non hanno caso mi pare Eh cosa come faccio allora a fare le case Devi costruire altri edifici Gli edifici valgono popolazione Vabbè LOL Eh i mongoli non sono facili a giocare Un fabbro un fabbro viviamo la dentro Viviamo la dentro Attenzione Non possono raccogliere cibo Non posso far fottori Scusami I mongoli Bello questa è una cosa bella Il cibo lo prendi con la legna Cioè tagliando gli alberi C'è anche il cibo Ma che cazzo Ma mangiano la corteccia Ma c'è la corteccia No è assurdo mai così No è assurdo mai così Ma che si Vatt come dice copper 12 vatt Vatt Ti barco da Vatt È circunnavigabile a piedi Circunnavigabile Sì è il menterraneo Mare Nostrum Algo queste cose politiche però Io ho cercato di Di metterle in modo esplice Ma tu proprio apertamente no Infatti Non parliamo delle cose politiche Perché Stavo dicendo delle cose prima Sicuro Ma non posso fare così Mi sa che non ci hanno pensato Eh poi Cosa Eh lo sa Demon Però Però Eh però Però Eh però Sembra la tarantella Voglio Voglio Eh mamma Siete cinesi Ah ma l'oro Manca l'oro Oh no Un po' Serve più oro Serve più legname No si One two One two Quello da molto tempo ormai Uuuuh, una bozza Hai ragione Non so di certo che altro Ma hai ragione Non ha senso questa cosa Perché? Qual è il cittadino inattivo che non lo vedo? Qual è? Ah, ok Io devo uccidere i miei abitanti per fare posto e fare le case Se no non posso fare strutture per fare i miei abitanti No, io pensavo che stai per dire Devo fare e uccidere gli abitanti Fare posto le case Così, eh? Il mio cervello stava Il mio cervello stava andando in lupo Ma è così, eh? No, no Non hai capito No, tu non hai capito, signor Beh, cosa sto giocando No, io devo una cosa malata Eh, beh, così, eh Nel mio caso Mi so che lui intendeva proprio la cosa malata Ma è anche un po' fried Ecco, vedi come tutti si stanno zitti Solo perché ho mal di gola Solo perché sono triste Così? Il mood di oggi è basso Sì, sei restato malissimo Non riesco a pensare Eug al ciclo Povera 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 Si, volevo dire col ciclo Poi ho detto vabbè dai, troppo cattivo Poi ho detto no Poi ho detto povera Poi ho detto povera Narvid da trasporto Narvid Narvalo da trasporto Navire Narvalo da trasporto Narvalo da trasporto Cos'è questo degrado Degrado simulator Ma cosa vai dicendo? Ma che è sta roba? Potteri workshop Ma che è? No, perché il mio esercito sta andando dietro a un tizio? Ma dai I comportamenti predefiniti Dio santo Dovrebbero essere illegali i comportamenti predefiniti aggressivi E invece E invece E invece E invece E invece E poi pure io Daemon è il carrapipano E il? Carrapipano Carrapipano Allora c'è una città che si chiama carrapipi dalle mie parole Ah, ok Ora sì che è tutto più chiaro Staccategli la spina E' stato particolarmente esplicativo Complimenti Quindi più legname ho più gente alla legna e più raccolgo cibo? No, no Non hai ne fattorie quindi quando fai legna ti dà 15 o 13 Basta 10 credi Ha un'aura potentissima Sapevo che per costruire gli edifici bisogna un sacco di quei mulini Buttende, buttende Ha un'aura immantinente Cosa? Daglie Daglie forte Ma non prende Ma quando ci sono altre opportunità non prende più Non prende il telefono Perché avete dei puntini rossi in mare? Ah sono i pesci Sono aggressivi eh? Sì Che cosa mi mangiano? Il legno C'è già gente che mangi il legno Sono i tarli Tarli acquatici Tarli acquatici Mamma mia Pensa che abominio Sì Vabbè ma Questa era il greci Morti Aiuto regami Penso che mi sto andando a Trasciare Pinga Sto ipotizzando Perché gli sto affondando la flotta di mercantili Affonda la flotta Fai bene Sì ma non si fa la violenza Come no? Tu mi hai sempre giusto violenza Quando non vuoi La violenza Non è importante È l'unica cosa che conta What? Non è importante È l'unica cosa che conta Sì Esatto Error 404 No questa era una citazione Ah Il denaro non è importante È l'unica cosa che conta Comunque Perdona la mia ignoranza Ok agora market Ah market ok Town center Facciamo un altro town center qua dietro Per perdere Ma cos'è Ma la nave che fa lo scaldabagno non mi piace Town center Comunque Cosa Le pubblicità La gente si diverte con un po' Ma sì Sì vabbè ragazzi Non chiedete Non chiedete Mi piace le mongoli Beh ne hai uno qua Perché Non fanno danno Non mi prendono più i comandi Adesso inizio ad andare tutto lentissimo E non riesco più a comandare alla gente quello che devo fare Perché mi rispondono tipo un quarto d'ora dopo Sì è un dativo di tetore Ma quant'hanno di armatura Oddio Hanno 5 d'armatura e le frecce Ma che schifo è Troppo No Io non riesco più a giocare ragazzi Non mi da più retta ai comandi Ti posso anche quittare ragazzi Non sto scherzando No Mi imparò con l'unale di coppers No no guarda Io da un quarto d'ora ho dato un sacco di comandi Non è stato eseguito nemmeno uno Ma non dire menzogne È vero Adesso si sta muovendo Dai veloce Ho preso un quarto d'ora Tutto cappato perché non riesco a costruire una casa Guarda no non prende no basta Io esco ragazzi mi dispiace No 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 mi sto incazzando dai non riesco a giocare Sempre i migliori se non è Mi si è bloccato tutto Eccolo qui Arriva in base Dove? Da me In base Pinga Guarda no è che lag Eh ma non li vedo io dove sono Ah ok Beh si è cieco Eh non li vedevo dopo solo centro città Sicilia città ok Vabbè ma sono morti tutti scusa E' detto sono morti tutti Eh grazie mi sono difeso Con cosa non è nulla Con le picche Ah Hai capito se lui è una persona Sembra Però in realtà è Eh Eh Mi nasce a ridurre che Ecco sguardo da città Quindi puccia puccia Come la Che in video dice Metacritic No ragazzi facciamo il metacritic dai facciamo il metacritic e ne parliamoci Allora location Location Servizio Ragazzi è pazzo Cioè No 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 ragazzi io non riesco a giocare Ma lagga talmente tanto Che non riesco a dargli i comandi Ma non riesco No è vero Anche me l'ha da ogni tanto No ma tantissimo Cioè guarda C'è gente disoccupata Che io gli ho dato i comandi tre anni fa Disoccupata No è vero Niente di nuovo Vabbè io ragazzi esco Ah no vabbè Non so se voi Faccio resigni dai Quartier militare Che è sta roba Ah Guarda Non mi ha preso neanche il resign Cioè Vabbè Non capisco se io posso fare questa tecnologia Ah ok adesso si È un po' confusato Non capisco se ce l'ho Ah ora posso cliccarlo Perché Ok 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 Comunque A parte gli scherzi Se vogliamo parlare Un pochino del gioco Io direi di fare Veramente Tipo delle votazioni Segrete Tra virgolette E poi facciamo il metascore Le cose massoniche No 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 dai Sarebbe una cosa divertente Che mi dite ragazzi Dai Almeno facciamo qualcosa Perché io un'altra partita Questo non la faccio Non mi funziona praticamente Ma che serve un mulino Purtroppo non ci sono server dedicati Beh no il gioco penso Non lo so perché Fammi pensare Mi sa che è peer to peer Sì Probabilmente è peer to peer Che c'è? Anche se c'è il server sulla lista della lobby E' provato ad usare settings più basse Sì 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 Allora vai verso Mantieni la posizione supporto Comunque non lo so se i server sono dedicati o no Perché in realtà Non è come il vecchio tcpp Nel senso che comunque Tu hosti e c'è come Come nel nuovo age 2 Diciamo la versione steam C'è proprio la lista delle lobby insomma Non so però se viene ostata dal giocatore Ma l'hai fatto un mercato Eh? Hai fatto un mercato No Eh tu l'hai fatto un mercato Fallo se vuoi Ma non ce l'ho un mercato C'è sì Ancora con la grafica Ah! Aiuto difendimi Eh Ci proverò a abbassarla tutta In base Allora Allora Usare In dosi Ritireti Dovanieri Sì Ma non faccio nulla Quella 5 Di armature Contro le frecce di base Eh Credo che Sia un peer to peer Perché tu fai con le cose Che come so io Eh Sia in entrata che in uscita Non verso un unico Server Ma verso tutti gli altri giocatori Credo O comunque verso l'host E poi l'host Fatta server Però La lista Però Basta eh Sto dicendo Comunque La lista delle lobby È in comune Cioè deve essere fatta Su un unico server Ed è C'è un solo server Che tiene Aggiornate Praticamente Tutte le lobby aperte Punto scipa Quindi esattamente Non andare da coppia Non andare da coppia Eh Dove Io sono morto Ma io non posso fare Cioè è un casino Queste cose Perché non Non posso fare case Cioè devo fare Dei cittadini Che occupano spazio Che poi diventano case Tipo zerg Dopo che è finito Ah ragazzi Sì Adesso faccio alt f4 Poi crash Non penso Solo io Che sei lost Proviamo Non mi prende neanche alt f4 Penso un po' Devo fare proprio di task manager Poi tra l'altro È un'istanza di Unreal Engine Che si chiama Impero Perza parte Ah non rinomato Il motore Grafico No hanno Rinominato l'applicativo Che utilizza il motore Grafico Cioè è un'istanza Dell'Areal Engine Va bene Non ne ho capito Vabbè Scusa Non ce l'ho Il dottorato Il dottorato Quello me lo prendo Col corso Comunque si è Unreal Engine No perché sto leggendo Qui su General Non saprei Usare Unreal Engine 4 Sì 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 Assolutamente sì Però ripeto Come sto dicendo prima Non è che utilizzare L'Areal Engine O il Cry Engine O anche Unity Che invece È un Particuramente Potente Significa Automaticamente Fare un gioco Bello Brutto E sono importanti Tantissime cose Soprattutto io Faccio Tanto caso Al game design Quando Devo valutare Un nuovo gioco Quindi A parte Problemi tecnici Vi piace? Eh Io vorrei fare Proprio la recensione Definitiva Perché prima abbiamo Dito un sacco di cose Ognuno ha espresso La sua Comunque Poi faremo il Metacritic Spero che mi passino Questo Piccolo vezzo Che voglio Insomma fare Personalmente Non mi ha impressionato Dico la verità Non è brutto Però non mi ha colpito Particolarmente Sono sincero È il classico Gioco Quello No Il gioco Secondo me Non è malpensato Alla fine C'è un design Dietro Questa grafica Cartoonish Non lo puoi fare L'eroe Ho 18 abitanti Cioè Non Stavo dicendo Non è nulla Di innovativo Sa un pochino Di già Fatto Di già giocato Non so Quanto potrà durare Sinceramente Come gioco In sé Poi Per il resto Comunque È molto Elegante Che se tu Vedi Per esempio Come è fatta La grafica Che è successo Ma anche quella Di menu Che è Resumato E' molto Elegante Allora Peer to peer Però Mi sembra una cosa Cioè Non è proprio Peer to peer È Avevi sicuramente No perché Peer to peer In teoria È come Che praticamente Sanno eseguito L'host Ovunque Rimanete in contatto Voi No In teoria Sì Qui Non sembra Sì è così Ma non qui Sembra Passi È quello Che sto Ok Adesso Ho avuto La conferma Non lo sapevo Ragazzi Lo facciamo Questo metacritic Eh ma cos'è Il fatto che Tu non hai giocato Per esempio Io ho i mogli No L'unque è molto Molto diversa Cioè Sì i mogli Sono molto Difficile Tra l'altro Vorrebbe esserci Immigrazioni Dell'host Non è implementata In questa beta Non so se ci sarà Successivamente Spero La beta Non è implementata No Migrazione dell'host È questa È quello Che è implementata Nel senso Che non c'è No Se tu esci Diventa Un'altra Lezione Diventa Lost Il gioco Non crasha Esatto Ah ok 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 Praticamente Passa Passa La leader Sì Sì Ho capito Cosa Intendi Si Lo Diventa La Lobby Eh Eh Quindi Giochiamo 2 contro 1 Però Non Prendi Mongoli Che lo Sto Usare Ragazzi Io Non Non Penso Di Giocare Io Faccio L'ultimo Mi Devo Fermare Più Che Altro Ah Io Contro Dai Facciamo Io Contro Ete Dai Ma Se Facciamo Una Partita Ai GDA Invece Visto No 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 Fidiamo Adesso Questa Qua Sarai Se Perse Part Che poi Caricheremo YouTube Così Le rate Di Demo Anche Tutte Le cose Con Pervieni E E E Vero Proviamo Proviamo A vedere Se Lo Spettatore Funziona Lo Abbasso Proprio Al Minimissimo La Grafica Così Almeno Non Mi Si Blocca Tutto Allora Guarda Game Video In realtà Mancano Parecchie Cose Io Credo Che La Versione Che Abbiamo Noi Non Sia La Versione Che Più Sviluppata Insomma Che Hanno Gli Sviluppatori Perché Secondo Me Guarda Game Video È Tipo L'italiano Che Segue Il Progetto Da Tipo Da Qua Iniziato Comunque Siamo Lì Quindi Cioè Lui Sa Tutto Di Sa Robot Ah Benissimo Benissimo Cioè Anzi Ma Hai creato La lobby Fa Adesso Chiamo Come Non Mi Non me La Mostra Non me La Trovo Ah Ma Che Cavolo Tipo Sto Facendo Robi Sviluppare Comunque Sì A me Sembra Che Manchi Qualcosina Ehm Che C'altro Manca Un dettaglio Che Quanto Costerà Eh Questo Non è L'ultimissimissima Ma è Abbastanza Giornato Per Esempio Degli Eroi Final Freezer Ma Adesso Sì Oddio Sono Entrati In questa Quella Difference Mancano Per esempio Degli Eroi Stavo Dicendo Il Gioco Si Blocca Una Volta Che Esce Dal Multiplayer Ci Sono Un po' Di Cose Che Vanno Fissate Effettivamente Le campagne Saranno Il gioco Completa Beh Le campagne Ovviamente Questa È Una Demo Per Cosa Sarà È Ideata Però Sarà Medio Immagino 30-40 Euro No Gioco Sviluppato Con la Real Engine Può Darsi Pure Che A parte Che La Real Engine Se Non Va Errato È Gratuito Per L'utilizzo Sotto Un Determinato Budget E Non Credo Di Sbagliarmi Secondo Me Questo Gioco Dovrebbe Costare Meno 15 15 Euro Io avrei Detto 20 Non Non Ce la Fai Non Puoi Per 20 Ti voglio Bene Vi Voglio Bene Ci Saranno Le Campagne Mi Pare Adesso Non No Che In Video Dice Che Non Ci Sanno In Basso Spettatore Più Più In Basso Spettatore Più Ok Ok Allora Hai scelto Allora Niente Come Ho Detto Non Lo So Che In Video Non Lo So Comunque Per Ci Sono Degli Effetti Di Blur Che Mi Piacciano Molto Iberi Guerra È Molto Bella Il Design Sulle Diciamo Di Una Grafica Estremamente Elegante Soprattutto Per Quanto Riguarda E Menù Ma Anche Particolare Diciamo Che Ha Una Certa Personalità Anche Se Semplicistica Diciamo Così Un pochino Semplice Per Quanto Riguarda Per Esempio Gli Alberi Le Texture E I Polygoni In Generale Ci Può Stare Perché C'è Un Design Secondo Me Visuale Che È Molto Bello Visivo Che È Molto Bello Però Sinceramente È L'unica Cosa In Scorgo Un Design Veramente Importante Nel Resto Del Gioco Mi Sembra Che Si Siano Un Pochino Adagiati Su La Falsa Riga Di Age Hanno Aggiunto Delle Cosine Ma Non Sono Determinato Che Tutto Modificato Delle Cosine Bilanciamenti Sono Un po' Diversi Gioco Molto Più Rapido Questo Può Essere Carino Da Questa Di Vista Perché I giochi Moderni Sono Un po' Più Veloci Quelli Dell'epoca Però In Generale Boh Non Mi Ha Di Una Persona Che Ci Ha Giocato Tre Minuti Come Stavo Dicendo Prima Non C'è Neanche Il Tutorial Quindi Nemmeno C'è 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 Sì Ma Non Non È Io C'ho Prato Applicare Non Funziona Non Non È Implementato Io Ho Visto Che C'è La La Minima In Pace Secondo Me Il Prezzo Sotto I Trenta Anche Per Favorirne La Guarda Io Sono Critico Sappiate Che Io Comunque In Generale Sono Estremamente Critico Ma Anche Sui Giochi Quelli Di Bluff Li Blasto Tutti Per Io Non Faccio Testo Va Bene No Allora Io Sono Diplomatico Dunque Secondo Me Il Scorso Che Per Motivi Di Maggi Eccezze Dovrebbe Sare Su Intimo Gioco Comunque Così Però Il Problema Che Cosa Demon Volevo Dirti Volevo Vedere Come Sono Messo Di Parlare In Modicente No Era Una Battuta La Mere Eh Battuta Di Faccia Per La La Tua Faccia Divendere Una Battuta Con La Mia Mano Con Cosa La Mia Mano Bella Battuta Questa E Ma Si Possono Una E Cinghiale Chiedo Vole Chiedere Al Video No Ci Sanno Delle Sfide Per Farti Conoscere Varie Civ Per E Sf Francesi Ci Sarà Un Piccolo Scenario Che Può Vincere Sono Con La Carica Dovrei Imparare Usare Anche Queste Sono Belle Cose Perché Non Sono Quei Tutorial Un Pochino Sterili Del Tipo Prendi Le Unità Movili Che Sono Un Pochino Più Situazionali Quindi Può Sere Una Bella Cosa No È Veramente Una Rattura Di Palle Pazzesco Cosa Ci Ho Giocato Alla Campagna William William Wallace Penso Ci Abbiamo Giocato Tutti Io Ho Giocato Ma Lo So Però Le Premissioni Fino A Metà Una Rottura Di Cavolo Mamma mia Ci sono Delle Missione Completamente Inutili Non ti fanno Fare niente Capito Dove E' bello E' la campagna più bella di tu Sbaglio o non c'è il Il vantaggio della collina Non c'è No non credo No non c'è Sto guardando io Sono sulla collina E' Entrambici Facciamo Quattro di danno Allora Abolitele No 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 Un po' Un po' difficile Lurare le pecore Lurare le pecore Sì Ok Quartieri Qui di care Dice Il menu ci sarà Nella versione Il tutorial ci sarà Nella versione Completa Il menu già presente Beh sì è ovvio Ehm Game video Non c'è Vantaggio Intendi sia al punto di vista Della visuale Che Delle frecce A parte che io Non ho mai fatto arcieri Ci stanno gli arcieri A proposito Sì sì Ok ok Sono io che non ci sono arrivato Ok Eh queste sono cose Che secondo me Un pochino incidono Hai la real engine Capito Secondo me Dovresti puntare Fortemente Sulla fisica Su queste cose qua Io vorrei capire Vorrei chiedere Che invito Non è tipo Che Destiny Pit Alla fine Composto solo Da Da engine C'è Il ragazzo Che C'è Solo che Ho visto Questo programmare Ah tu dici Che sia Una sola persona Beh se è una sola persona Che ha fatto tutto Questo chapeau Perché Cavolo Credo sia me in tre In tutto Non sono sicuro Beh se sono in tre Comunque è un bel lavoro È un bel lavoro Se sono in tre persone Vabbè ma tanto Il copper Io faremo Il Geoff Empire Cosa? L'ho detto Il mondo intero Mi spiace Eh Cosa Che vuole fare Il Geoff Empire No Ok io il copper Faremo il Geoff Empire Quattro Ah Ok Ah sì che io e lui Programmerremo Il Geoff Empire Quattro Dai che con gli array Si va Il nucleo di sviluppatori fisso È composto da tre persone Dice che è in video Beh sì Ok Allora Molte di queste piccole problematiche Che ho espresso Sono più che giustificate Sicuramente Beh È un indie Fatto da tre persone Quindi penso che più di 15 euro Non possa giocare Non è che stanno pagando dipendenti No ma In generale È il comandante No io mi basso anche su quello che non ho visto Quindi facendo una stima Mi basso su quello che non ho visto Questo è bellissimo Eh Chiudete il youtube No Il twitch No 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 So che Non ho visto tutto il gioco Quindi so che quello che non ho visto Potrebbe non essere tanto Diciamo così Tra virgolette Capite quello che voglio dire No Sì sì Non ho capito Che si è espresso un po' di Non so cosa però Eh non mi lasciate finire di parlare No No tu d'età Avete capito? Cioè vuol dire che hai fitto di parlare Non mi fate continuare Non mi fate continuare Siamo dei cattivi ragazzi Lo sviluppo di questo gioco è stato molto dinamico E credo che continuerà a esserlo Quanto tempo è che è in sviluppo? Questo è un po' di anni Credo Considerando che la base già c'è Con un paio di ottimizzazioni Possono risolvere Qualche problema di giocabilità E poi possono espanderlo a bestia Quello sì Quello sicuramente Sì certo Se iniziassero a espanderlo a bestia Potrebbe Potrebbe diventare una cosa carina Sicuramente Per grafica Suoni Modelli Eccetera Sono stati contattati altri professionisti Ho capito Sì Ah forse i modelli Quindi sono semplici Anche per questo Beh è vero che sono stati fatti Anche in parte apposta In maniera Sicuramente Semplice Sono dei modelli Molto poligonali Che si vede proprio apposta E sono fatti in maniera semplice Però forse è azzardo Dire che Come ho detto prima Non so se è giusto Che magari Sono stati fatti così Anche per Perché è più facile Per risparmiare un pochino di tempo Non lo so Chiedo eh Chiedo Chiaramente Per fare un Volto Estremamente Complesso Ci vuole molto più tempo Che a fare Quattro poligoni Squadrati Insomma Comunque Per rispondere alla tua domanda Ho giocato 11 Stasera E complessivamente Mi piace Spero Sperto perché è un progetto italiano Che abbia un buon futuro Ovviamente Ce lo auguriamo tutti Vedrò il prezzo Il 29 maggio E vedrò se Comprarlo Comunque ci sono tante persone Che vorrebbero giocarlo Ma non hanno avuto la chiave La loro pagina facebook È piena di gente Che la vorrebbe Ai tempi non si aveva Nemmeno la prospettiva Delle remaster di Aoe Quando è stato Ah Quando è stato iniziato Lo sviluppo E certamente Questo fa la differenza Perché questo gioco Chiaramente È ispirato Ad un Aoe Se fosse stato fatto Recentemente O almeno A una base Come dire Age of Kings Come se fosse stato Fatto in maniera Più di più recente E quindi il fatto Che ci sia stata Non tanto la remaster Più che altro La No Remaster Remaster Scusi Diffici Sì L'HD Insomma C'è Proprio Quasi Beh Ma Tipo Quattro Anni È stato Fatto Prima L'HD D L'inizio Dello Scusso Di Questo Sì No Non penso Non so Sì a voglia 2013 Vabbè E allora Sì sì Vediamo come si svilupperà Intanto Perché sicuramente Magari potrebbero aggiornare I tech tree Aumentare un pochino Le cose che si possono fare E potrebbe diventare una cosa molto interessante Sicuramente Ci sono le macchine a sedio? Sì Arieti Bombarde E catapult Beh tu le hai perché non tutti ce ne hanno E questo discorso Io Io so che ci sono Accadere del 2013 Ok beh sì Infatti È vero Ridendo e scherzando C'è là un po' di anni Basta Di Persa parte Iniziato nel 2015 Ok Solo che sai Mi dà molto Di quel tipo di gioco Tipo Che ne so Zero ad Non so se Ce l'avete presente No Questi Tipoli Ma no Ma sono tutti fighi Perché dai Diciamo la verità La formula di gioco funziona Cioè non è che Se la sdoganata Per prima Jaws empires Poi tu La metti su un altro gioco E fa cagare Perché non è vera Una cosa del genere Cioè Se la formula di gioco funziona Funziona Ok Quello voglio dire Però Mi dà un pochino Di questi giochi Un po' cheap Non so come dire Scusate Già prefatti Sì Un pochino Perfatti Come disse L'apparenza Esatto Il 2017 Annunciato Howe 4 Tutte le definitive edition Speriamo che non siano Disastrose Come la Age Di Di Giù Insomma Perché Veramente Mi fa venire I brividi Quella cosa lì Con con l'app Che grida vendetta Sull'acqua Bellissima L'app Ah Questa l'acqua L'acqua No 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 L'app 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 Il fatto che è un app Sul windows store Che grida veramente Pietà e vendetta Sì Ah ecco la cosa del resit Automatico è molto bella Quella mi è piaciuta molto dal punto di vista Comodo Perché devi andare sul culino Dover vedere ogni volta Che punto stai con il Che tu metti in coda No Le fattorie Quindi ogni volta che punto stai Quante fattorie hai già caricato Eccetera eccetera Comoda Scomodo il fatto che Potrebbe toglierti il legname All'ultimo secondo Quando non vorresti Che lo facesse Però Quello devi essere bravo Ad accumularne un po' di più Non so se mi sono spiegato Alche qua Mamma mia Non so spiegarti Infatti No niente Volevo dire che Quando tu Su Age of Empire 2 E metti che ne so Quattro fattorie In coda Puoi risparmiare legname E fare altri edifici Sì sì Lo so cosa intendi Eh ok Ti sto trollando Invece così C'è il rischio che lui Ti consumi da solo Più legname Quando magari ti serve Vuoi impurre Il gioco Esatto Magari aspettavo La fattoria Aspettavo un minuto Mi devo costruire Quella roba Veramente importante Invece non lo posso fare Quindi Diciamo Carino Però sarebbe bella Anche la doppia modalità Quella che magari Ti permetta Di mettere anche in coda Un numero determinato Tipo La modalità pro Sì 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 In realtà No Però non la usano tanto Quella cosa Non mettono in coda Le fattorie La usano poco Perché hai bisogno Sempre appunto Di legnano Le scosse che hai fatto tu Hanno bisogno del legname Sì però Se tu sai Che hai un margine Di sicurezza Tipo sai che Quattro fattorie Per esempio E mille di legname Quattro fattorie Le fai Alla stragrande Anche se dopo Di costruire Un impero No hai fatto che Tu hai bisogno Di fare truppe Non c'è Con le risorse C'è Lo so Vabbè Sì Hai ragione Se uno volesse fare Proprio il pro Al massimo La disattiva E ciao Certo C'è tu contro Esattamente Quando fare Le 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 fattorie Ecco il discorso Va bene Questa sera Vi saluto Notte Carissima Va bene Grazie mille Sare stato con noi Grazie a voi Ci vediamo Prossimamente Spero che Tu ci sia ancora Spero di non morire domani Vabbè Intendo di dire Anche per le altre serate Anche te maege Ovviamente E Vabbè Dai ci vediamo Ciao Ciao Buonasera Ehm Quanta di pop Come hai detto Eh Oi Non ti risponde Ah Sai che non ti risponde Notte Ti riferisci a lui Spero che non ti ne stia andando Anche tu che è in video Vero Riferisci a Sparta Forse vorrà salutare Sparta Sparta Infatti Speriamo Sì 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 Implementare Sarebbe Tipo un contatore Che ti dice Tra quanto tempo Torna il giorno Solo per bellezza Ah sì Tipo una Come zar No Una clessidra O un mondo Che ti dice Tra quanto tempo Torna il giorno Quando c'è la notte Comunque Comunque questa cosa Comunque questa cosa della notte Secondo me dovrebbe dare Dei Non so Dei malus Sarebbe una cosa carina Questa Penso del Relentamento Sì magari che ti fa vedere Di meno Quindi hai più nebbia di guerra No io sarei più della nebbia di guerra Che dei malus Perché se no troppo sbilanciato Sì ma anche una cazzatina È giusto una cosa però per dargli un senso Se no sembra un pochino fino a se stessa Un'altra cosa veramente sgrava Che si potrebbe fare Ma questo manderebbe in pappa Penso parecchi pc Sarebbe proprio Il sole che si muove E poi Guarda che non ci vorrebbe tanto Basta mettere uno spot fisso Dove sta la telecamera E Intorno a questo spot Mettere un offset E ho capito Quelle ombre Ci dovete In modo Al tempo reale Non ripeti Guarda che le ombre Io credo che siano già Comunque generate in tempo reale L'unica cosa è che Sarebbero Si sposterebbero Cioè in poche parole Io credo che in realtà La tecnologia per farlo Si è già stata implementata Nella real engine Cioè nella loro Implementazione Nella real engine Credo che in realtà Ci sia uno spot luminoso Che genera queste ombre In tempo reale Anche se i cittadini Infatti non ce le hanno Ed è una buona cosa questa Perché altrimenti Si impallerebbe anche l'anima In questo gioco Capito che voglio dire? Che io credo Penso che l'unica cosa Sarebbe Che bisogna Implementare Soltanto il movimento Del sole Si si ho capito Così Perché altrimenti Non si spiega Perché è così pesante La grafica alta Giusto per giustificare Eh perché è alta Si è pesantuccio Guarda Si Il cimio è al massimo Ma io non capisco Le fattorie Quando si rinnovano? Dopo che finisce il cibo Dopo un po' di tempo Eh no Io ho tipo Mille di legno Ma non me lo fa Non me ne fa Non me ne fa Non lo so A me è capitato Dice il ciclo Giorno-notte E' fatto proprio come si deve Anche se la notte a volte E' un po' troppo scura Concordo Concordo pienamente Si Devo dire che Il ciclo Tutto è fatto bene Appunto Accetto questa cosa Delle ombre dinamiche Eh Aspetta un attimo Ma in realtà Stanno cambiando direzione Hanno cambiato direzione Quindi è implementata Sono delle nuvole Mi sa Non pensare No no Sono proprio le ombre Lentamente Ma stanno cambiando direzione Non so vici tu Dove non sei Sì sì Sono sicuro Sono sicurissimo Prima Erano tutte orientate Verso sinistra Erso ovest Adesso sono orientate Verso est Ah per l'ora Tipo che c'è il sole Che gira Sì sì Quello intendevo dire Infatti Quindi è già implementato Ok adesso Già si inizia a spiegare Un po' Il motivo per cui Inizia ad essere Diciamo pesantino Il gioco Mi spiegati qualcosa Del mercato Che non l'ho capito Che ci si può commerciare da solo Devi premere il tasto verde Alto a sinistra Eug Dice per la rimpostazione Dei fattoria Penso che tu già lo sapessi No Cosa devo fare? Ah non lo sai? C'è A fianco ai cittadini Idol Ci sta Una roba verde Vedi Con le freccette Verdi Se tu premi Quello ti ottiva Il residuo automatico Dele fattoria Ok No Questo non lo sapevo Ah pensavo che l'avessi capito Eh no Non lo sapevo Cioè Tu l'avevi fatto già prima? Sì sì Ma tutte le unità costano quindi oro? Non lo so sinceramente Non ho ancora imparato Non è come AOM Forse vuol dire Che è AOEO Forse vuol dire AOM Che non Non scadono mai Ah no Che il commercio è È tra mercato e TC Ok Ok AOEO Sarà per online Suppongo ok Non ci sono anche No ci sono Anche trash units Dice sempre che in video Ti sta entrando male Io te lo dico Sì ma Non capisco Bene Un po' di cose Però Sì ma Tutto Allora Ah Un Un Ann Comunque si è molto rapido rispetto a Age sicuramente Io non capisco perchè non posso fare 300 città questa è una cosa che detesto Non ti puoi espandere più di tanto Forse dipende dalle dimensioni della mappa può darsi No c'è un tipo delle cose strane non capisco Rip Ripperino Ma lui sa giocare la società io non la so giocare No è vero c'è la terza partita che bizantini però ti mongoli gli arabi tutto Bizantini Eh quello che è cosa sono Ah non è che ti francese Ma qui non sto facendo manco potenza Boh Puoi fare un centro città nel livello 0 però poi aumentano uno per ogni livello Nel primo livello economico puoi farne un altro Eh non so questo io sono al massimo c'è nel stesso Ho tutto ricercato Eh allora c'è il cap ragazzi c'è il cap Di quanto? Di 3? In totale di 4 dice Perché nel secondo livello economico puoi farne altri due Così dice in video Ho vinto Io ho cominciato di perderla Ah? No papà Ah? Comunque io ho cominciato a commerciare Ah? Ecco Comunque il commercio interno è figo ma Tipo guadagniamo 7 a carreto Ecco per esempio adesso è finita la partita E io che sono spettatore non ho ricevuto l'informazione Mi si è bloccato il gioco e basta Ti è finita la partita è finito Alta F4 e sono dovuto uscire così Sì mancano queste cose Io spero che siano state implementate E che non ci siano soltanto beta Eudo mi hai fatto schifo a livello di me Che è una cosa tremenda se no Cosa? 15 minuti economico livello 2 Sì perché non ho fatto le fattorie tipo Io ho fatto 5,8,6,12 Bravo Sei forte Ma allora me la posso tirare Guarda di vincita Tu hai fatto un sacco di cibo Più legna Ma i bicchieri I bicchieri questo loro scusa? No Ah ok allora easy Io vado Come vai? Ah scappo No scappo Mi taglia le gambe Vabbè quindi questo è vinto anche per me Ho sto vinto anche questo Vabbè chiudiamo in questa line Sì dai Ben dottore La nostra impressione Allora ragazzi Diciamo così voto a caldo Voto Allora Sicuro sicuro Vabbè ragazzi se non volete non lo odiamo Non è quello Mi sarebbe piaciuto finire questo piccolo salotto con una conversazione appunto tecnica delle virgolette Con voi anche Vabbè molti problemi li avete visti anche voi Tipo vabbè In video non te ne andare un secondo un secondo un secondo Finiamo questa cosa a due minuti Allora Diciamo Allora In realtà voi non so se avete provato altre civiltà E per esempio i mongoli È solo un casino Cioè per dire È proprio un'altra tipologia di gioco Nel senso che potete fare Non potete fare le case Ma avete bisogno di tizi che fanno Sono tipo degli abitanti che poi si convertono in case Più o meno Anzi no Gli edifici contano come case Perché è proprio un stile totalmente diverso E quindi per esempio le civiltà effettivamente hanno uno stile un po' particolare Una cosa è che secondo me non basta forse per Diciamo essere così appetibile Voglio dire Un'altra cosa Gli edifici sono troppo scuri E io li farei più chiari In modo tale che sono più visibili Ma anche tipo Anche le torri per esempio Diferenziare che sono le torri Le mura Che ho visto nei video Non le ho costruite L'avete visto Di una paletta un pochino più chiara Che non si capisce altrimenti Posso dire Io comunque lo vedo costruite le mura C'è una grande differenza C'è il Lo vedi Le mura Sono C'è le torri sono alte Il doppio Il doppio Lo vedi Anche il cancello Anche le palizzate Lo riesce a distingue Tranquilla Io dal punto di vista Difficile No ma non parlo Del fatto che non riesce a riconoscere Hai capito A parte che ho fatto L'università E tipo Ho invece fatto Ho sbagliato Ho fatto un terzo fabbro A caso Vabbè Ma per esempio Il discorso di prima Visto che comunque Sono molto semplici I edifici Non sarebbero Cattivi A fare Una specie di Figi Sopra l'edificio Grosso In modo tale Che ti metti Un fuori di cavallo È una cosa stupida Cioè nel senso Però è nel rts È Cioè è importante Che queste cose Già il fatto che Ci sono unità Così diverse Cioè la forza di Age È sempre stata questa Che C'erano La fanteria leggera Degli alzechi C'era la fanteria leggera Di turchi La fanteria leggera Dei franchi La fanteria leggera Di Dicmer Sempre quella Sono quegli uomini Mezzo scarso Con lo scudino E quello lo riconosce sempre Mentre invece Per esempio Adesso qua Che c'è una più unità È Cioè diventa un pochino Più ostico Perché in realtà Uno può essere abituale Cioè ogni gioco Poi Si impone Nel senso che tu Non hai Diciamo L'immediatezza Di capire Cosa serve Se è vantaggioso Se non è vantaggioso No in realtà C'è scritto Una delle descrizioni Tipo Anti-Archere Io penso che La cosa che uccide Un RTS È leggere le descrizioni Delle unità Ma la prima volta Lo fai Nel senso Adesso io so Per esempio Io faccio Sicuramente Io per esempio Ho ricercato Tipo i cavalli Corazzati Cioè non sono Dei cavallieri Fatto è questo Posso dire una cosa Gli RTS Si dividono in due categorie Secondo me Quelli che hanno Poche popolazioni Molto diversificate E quelli che ne hanno Tante ma tutte uguali Fare un mischiaticcio Tra le due cose Non so quanto sia Una cosa buona Perché Prendiamo per esempio Starcraft Tre popolazioni Estremamente diversificate E ogni unità Ha un suo perché E riesce Con una combinazione Differente Di micro Di meta Di army composition Eccetera eccetera A counterare Le varie Tipologie di attacco Che può fare L'avversario Con tutte le varie Tipologie di popolazioni Che può Con tutte e tre le fazioni Insomma le razze Che può utilizzare Ok Non so se mi spiego Per esempio La zergling È molto diverso Dal marine Per dire Degli zerg Zerg Degli zerg Molto diverso Al marine Dei terran Però Sono due unità Che occupano La stessa fascia Perché Si prestano A delle Combinazioni Differenti Diciamo Di giocabilità Ok Ma più che altro Alla fine Va tutto per questione Di popolazione E costo Hai capito Non lo finire il discorso A parte i costi Cioè Un attimo Non lo finire il discorso Dall'altra parte Invece Hai Age of Empires 2 Dove hai Delle popolazioni Che hanno Tutte La stessa identica Base Tutte le stesse Identiche unità A parte quelle del castello E piccole altre Aggiunte Unità Specifiche Per una determinata Popolazione Hanno tutte Un costo Molto simile Anche se non identico E le piccole differenze Stanno soltanto Nei buff Della popolazione Perché questo Perché se tu fai Tantissime popolazioni Differenti Devi per forza di cose Dare al giocatore La possibilità Di riconoscere Immediatamente Avere facilità di gioco Capito Che voglio dire Riconoscere immediatamente Il tipo di esercito Che sta costruendo Che cosa serve Cioè Per counterare cosa Per combattere cosa Ok E poi Tu sapendo che hai I franchi Sai che se fai La cavalleria Stai più avvantaggiato Per dire Rispetto A un'altra popolazione Ok Questo è il discorso Quindi o le fai poche Ed estremamente diversificate Per creare Un meta Differente Oppure Ne fai tante Molto simili E Baffate in modo diverso Con piccole aggiunte Qualche unità Eccezionale Unica Per la popolazione Ma Specifica Fare Comunque Quante sono Sette Fazioni Mi pare Sette Circa E tutte quante Diverse Anche se poco Ma diverse Secondo me Getta confusione Questa è la mia Personalissima idea Cioè Non ha Pill Gli manca Di Design Secondo me Tutto qua Guarda Ti dico Adesso sono Sul Sono contro Il motto Allora Abbiamo i Mizzantine Che hanno Praticamente Arcieri Cavalleria E Non mi sembra Che abbia un assedio Non è un assedio O zero I francesi Invece Che hanno Cavalleria E vai Picchieri E poi Arcieri Penso Hanno qualcosa Di arco No Hanno solo Hanno solo Coso L'assedio Quindi E cos'è che hanno Gli arcieri Scusa Ma vedi che Le puoi fare Gli arcieri Magari Non so Io l'ho vista La caserma Anche io Ho visto le cose Gli arcieri Non capisco Perché C'è Nei potenziamenti Tre potenziamenti Gli arcieri Non capisco Comunque nel frattempo Che è Obbio Sporreggio Voi Voi Direto Io Non so Magari Potrei andare Con Dice Invece Diversificare La strada giusto Sto leggendo I commenti Ciao Drucker SC Aspetta I francesi Annofanteria Ercieri Un po' Puretti Per il resto Sono ben forniti Sì Fatti Questo funziona Un po' Come age 2 Sai che La posizione È più forte In un determinato Ambito La sfrutti In quell'ambito E le altre cose Magari Ce le ha Però Un po' Più Capito Tipo gli arcieri spagnoli Comunque Infatti Stacraft è l'unico RTS ancora giocato Ok Posso Potrei aggiungere Delle altre cose Comunque Prima Di rispondere A Drucker Parlare Daemon Giustamente Vabbè Innanzitutto Trovo il gioco Graficamente Maglia di questo Allora A livello di gameplay È quella La base è quella Penso che Si modificherà Più poco Relativamente Per quanto riguarda Le civiltà Ho trovato Una scelta Abbastanza carina Di fatto che Ci sono civiltà Come i bizantini E poi civiltà Come i Che sono vissuti In dei periodi Differenti Dunque ci sta Tipo Azzatechi Vuoi dire Sì Sì Cos'è il genere Dunque Parlando invece Del gioco Li vedo Leggermente Cozzati È un po' Una citazione Referenziale A Alla prima Espansione Di Age of Empires Conquerors No? The Conquerors Vabbè 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 Questa è una cosa Assolutamente personale Non significa niente Eh sì Allora Praticamente La livella di gameplay Ovviamente è tutto molto carino Davvero Mi piace Le case Come ho detto Gli edifici Le animazioni Blur Tutto Tutto molto figo Ho visto anche Le trucche Sono fatte Bene Sono Disegnate bene E Ora io non ho giocato I mongoli Io ho giocato Soli di frattamente Però Da quello che ho capito I mongoli Sono veramente Così diversi È una cosa Troppo figa Perché Vuol dire che È realistico Perché effettivamente I mongoli Erano una Tutta a parte Proprio È chiaro che Il modo di giocare È diverso Perché tu Stai scegliendo Un'intera Civiltà Diversa Posso capire Che magari ti fai I simili Che ne so I persiani I bizantini Più o meno Più o meno Comunque Un conte farti Dei mongoli Un conte farti Se riescono a valorizzarle Valorizzare Se non sto dicendo Valorizzare Quindi Equilibrare In un certo modo Si fa una cosa figa Perché Tu giochi Con un altro In un'altra maniera E Certo Questa è una cosa Che Per me Questo Guarda Se ci riescono Fanno un capolavoro Perché se riescono A differenziare Rendere Come posso dire Speciali Tutte e se le fazioni E a non generare Confusione Nei giocatori Allo stesso tempo Bilanciare Ragazzi Questo è un capolavoro Assoluto Magari Cioè io me lo auguro Per loro Che ci riescano Per me C'è un grosso problema Però È un problema Di design Questo Cioè se riescono A superarlo Così brillantemente Cioè io mi prostro Guardate la live Un secondo Guardate la live E guardate Io adesso in questo momento Ho i mongoli Come Si stavo guardando La live infatti Allora guarda Questo è quello che hai i mongoli Cioè tu in tutto il gioco Tutta la partita Puoi fare quelle unità Sono quattro Uno due tre Quattro Quattro unità puoi fare E E poi ci sono E i vari potenziamenti Cioè il potenziamento No corrispettivo Quindi Sono quattro unità Di base Più quelle potenziate Questi sono i potenziamenti Del fabbro Basta Cioè Allora Ok È bella l'idea Però secondo me Manca un sacco di roba Cioè nel senso Ok Eh è fatto Cioè nel senso Tipo Cioè per fare tante popolazioni Diverse E poi non tanto Cioè diverse Ma non Capite voglio dire Manca un sacco di roba Allora Perché sono troppo diverse Per essere Diciamo tutte quante giocate In un modo lineare Io penso Allo stesso tempo Troppo per essere Facili da apprendere Secondo me Allora il problema È che per esempio Secondo me Io per esempio i mongoli Io ho perso Perché per esempio Ho fatto un po' di arciere A cavallo No? E E però Qual è stato il problema? Il problema è stato che Non Io mi sono trovato contro I Così Nei francesi O Quegli lì Di base Aveva un 5 D'armatore Contro le frecce Cioè nel senso What? Lì li facevo il solletico Cioè lì Non potevo vincere O tipo Ho capito Che devo essere aggressivo Immagino all'inizio Bla 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 Però Comunque secondo me Dopo Per perdere un sacco Per riposere La paretta si installa Cioè È automatico Che non potrei Non potrei mai vincere In sostanza Se l'altro riesce Sì E quindi Se non è Per esempio Il fatto Ecco Un'altra cosa Prendere il cibo Dagli alberi Non ha senso Cioè piuttosto Ti dai un bonus Tipo Il cibo preso Dall'armale Dura Cioè Viene quadruplicato Il cibo Della pesca Cioè Non lo so Magari non fai le fattorie Però tipo Ci spugli Ti danno Tutte le fonti di cibo Ti danno 400 di cibo E riduci al minimo Il costo di cibo Delle truppe Cioè Hai capito Cioè C'è Ma questa cosa L'unica cosa Io l'ho trovato Abbastanza giocabile Dal mio punto di vista Che non Sto prendo Da quello che ho visto L'unica cosa Che manca Per rendere Questa meta Giocabile A parte I bug Che dovrebbero Aggiungere assolutamente Il feedback Ovvero In Age of Empire 2 Quando vedi Un campione Che si sta menando Con un'altra truppa Proprio lo vedi Cioè Non so E' più Capabile Te ne stai accorgendo No? Senti anche il rumorino Hai Firo Qua Aspetta Forse Il fatto Che Qua si squagliano In un secondo Su C'è I combattimenti E' uno E' uno Scuola In termini Sono d'accordo Cioè Se tu hai 10 Unità da una parte Lui ne ha 11 Un'unità sopravvive Ti mena Praticamente Cioè Non so come funzioni Non so come funziona Però sto dicendo Che manca il Fini Ancora ci sono troppo Stato attaccando Poi Si va bene Non nel senso Che fa poco danno Che è asfaltata Non in questo senso Poi un'altra cosa Che a livello economico Si potrebbe fare Questi Questi notifiche Queste cose qua Posso dire una cosa Delle Delle fattorie Vabbè E' quando viene attaccato Se fanno queste cose Io sono Desti di Bit State parlando male di me Ciao Desti di Bit Ciao E' chi è Desti di Bit E' il Il programmatore Cioè Penso che sei l'accanto Del Di Engine In questo momento Se vuoi venire In Discord Ti trasciniamo Anzi Più che volentieri E' magari Anche riuscire Sì a rispondere A delle Io mi prenderò Tanti di quegli Insulti Estremamente motivati Da parte sua Che Ma Io non capisco una cosa Questo progetto italiano Si Si Ok E lui è uno Di tre programmatori Eccolo L'ho portato dentro Ah ecco dentro Pronti Ciao carissimi Ciao Non so se hai visto La live finora No Mi è venuto Mi è venuto Mi è venuto in mettere adesso Infatti sono arrivato Stavate parlando male di me Ma mi stanno bombando No 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 Solutamente Mentre Ditemi un po Che ne pensate ragazzi Senza Io Parlo per ultimo Vai Demo Vai Demo Vai Demo Devo andare Veramente Vai Tiro Demo Demo Va Veloce Veloce Dai Engine Innanzitutto io vi consiglio Cioè io ho toto Figo Però vi consiglio Di Di mettere i feedback Nel senso Quando Mi scadono le coltivazioni Mettere un pomorino Che si senta Quando le truppe si manano Altrettanto Comunque Quando viene attaccato Soprattutto Una trombetta Un La notifica c'è La notifica di attacco Tranne se Stai guardando Tranne se Il combattimento È di fatto Nello schermo La notifica c'è Può darsi che il suono Non sia squillante Ma c'è Prova ad attaccare Prova ad attaccare Il cinghiale Guardare altrove Con la telecamera Vedrai che c'è La notifica O comunque A farti attaccare Vedrai che la notifica c'è Interessante Voi Un ping sulla minimappa C'è C'è La modalità di pingare Sì c'è anche lo smart ping Se ti attaccano Sulla minima Ah sì sì Certo Secondo me sì c'è Secondo me dovrebbe essere Più luminoso Ma c'è Sì sì Compare sia sulla minimappa Che in maniera Audio certo Ok Comunque L'ultima cosa Io non ho giocato I mongoli Comunque Ho capito che c'è Molta differenza E' sta cosa è molto figa no Però Io c'ho Allora Ho trovato delle difficoltà E' fino C'è Magari che ho Che una beta Però Si è riuscito a trovare Il modo di Diferenziare le varie civiltà Perché effettivamente La civiltà dei mongoli Realmente era diversa Dalla civiltà francese Proprio E' le usanze Completamente diverse Quindi Ci sta che il gameplay Cambia radicalmente Perché Ti dà la sensazione Di giocare Un'altra Un'altra Però Se riuscite a Differenziare Ma allo stesso tempo Bilanciare Quindi Non so Magari I mongoli Sto facendo Ad esempio Stupido Distruggi la casa Di danno il legnano Di spingere a casa nemica Tipo razzia Di spingere a razziare Sto facendo un esempio Potrebbe essere figo No? Bilanciare una cosa del genere Non è fatto Sì C'è già Ha fatto un esempio Sì sì No per carità Ma C'è già moltissima Una differenzazione Tra le varie civiltà Questo è figo Cioè io Non so onestamente Quanto tempo avete passato Col gioco Però Secondo me Ciascuna delle civiltà Va esplorata abbastanza Io l'ho provata un po' Tutti In un certo senso Perché ho provato un po' Infatti ho fatto schifo Con tutto Però No ma Cioè ci sono anche Piccole finezze Cioè nel senso Tipo l'economia cinese Completamente diversa Rispetto all'economia francese Avendo accesso All'overseer Che i francesi non hanno Però per esempio I cinesi non hanno Gli upgrade economici Eccetera eccetera Scegliere di andare Economia Piuttosto che militare Eccetera eccetera Ogni civiltà È veramente diversa E si può giocare In maniera differente Anche due civiltà Apparentemente simili Come Pizzantini E francesi In realtà Sono abbastanza diverse Nella maniera in cui si giocano E poi Per arrivare ovviamente Ai mongoli Agli aztechi Che sono in assoluto Pizzanti E fanno Preti e cosli I guerrieri Che hanno 5 livelli di guerriere Ho visto prima Sì hanno i guerrieri Che si evolvono Con l'esperienza Hanno i preti Hanno gli skirmisher Che sono molto molto forti Con l'esperienza Secondo me È una cosa fondamentale Che potrebbe essere C'è una cosa che manca In giochi come per esempio I jove in parts Ma anche tipo Starcraft Tipo C'è magari C'è scritto l'uccisione O però Che fastidio Ci ha scritto Ho fatto 20 kill Però questo qua Ha semplici Sessi poteri Invece è una cosa Che è una cosa Che come Ficcio Sì esatto Per loro E quanti prigionieri Facevi Eccetera eccetera Era così che avanzavi Nella società E infatti Gli aztechi Anche nel nostro gioco Possono catturare Pigionieri E possono Possono sacrificarli Per avere delle tecnologie Oppure per evocare L'eroe Oppure per convertirli In villager Adesso nella prossima patch Arriveranno delle novità Anche per gli aztechi Praticamente Ogni volta che colpiscono In capture stanza Si rallenteranno i nemici Ci sarà un'unità nuova Per gli aztechi Insomma Il gioco è ancora In continua evoluzione Però potete vedere Come La base Cioè voglio dire Se uno viene da age Lo guarda in tre minuti Sì Poi dopo Dopo cinque minuti Ah no aspetta È un'altra roba A partire dal fatto Che il ritmo è diverso La velocità è diversa Sì la velocità è molto diversa Assolutamente Sì È più veloce Ah ma il rally point Sulla risorsa Ti fa raccogliere Quella risorsa Questa non lo capisco Sì certo Sì 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 puoi fare il rally point Sulla risorsa L'unica Che non capisco Quindi non capivo Se se la prendesse Primo Aggiungere D'altri civiltà Guarda Se c'è senz'altro La volontà di farlo Noi speriamo In un buon lancio Noi contiamo di farlo Chiaramente Diventerà poi Dalla salute del gioco Guarda Almeno Qualche altra civiltà Dovrebbe arrivare Mettiamola così Poi da lì vediamo Ma come DLC O come patch Come DLC Come DLC Contiamo di patchare il gioco A rotta di collo In maniera gratuita Per aggiungere mappe Certo Che che non spostano Di fatto il gioco Sarà interessante Per dire Metti che Cosmetic Cosmetic Esatto Spenna Ecco Adesso vorrei Vabbè No Finisci Se vuoi Perché È arrivato Un commento Per i drugrsc Che stava Diciamo continuando Un discorso Che già stavamo Facendo Prima del tuo arrivo E dice Bisogna marcare Le differenze Tra razze Al massimo In questo caso Al massimo Anche se ricamente Devono essere diversissime Che è quello Da quello che ho capito Su cui state puntando Effettivamente Ora Quello che stavo Un po' dicendo Prima Che Insomma Che tu arrivassi Con loro E questo Tutte le volte Che ho visto Un rts Dove Le civiltà Sono completamente Differenti Tra di loro Alla starcraft Per dire Insomma Sono soltanto poche Massimo tre Ok Quindi abbiamo Delle unità Che pur Essendo sullo stesso Tire Diciamo sullo stesso In generale Sulla stessa fascia Ok E' la sua popolazione Marine Zergling Per fare un esempio Sono estremamente Riferenti tra di loro E creano delle combinazioni Cioè creano una Giocabilità Per quella razza Estremamente Differente E bilanciare Questa roba Qui sono dolori Ok Che non è facilissimo Ora Dall'altra parte All'esatto opposto C'è Age of Empires 2 In frattempo Che ha tantissime Civiltà Tutte quante Estremamente simili Con unità Simili E non uguali Uguali Praticamente L'unica differenza Che sono abbaffate In modo differente L'esasperazione Age of Empires Esatto Che non ha nessunità Qualche piccola Unità Diciamo in più Unità specifica In più A seconda della popolazione Ok Sì E la differenza Grossa la fanno i buff Tipo i francesi Sono forti in cavalleria I goti Sono forti in fanteria Quindi tu Vai di conseguenza Ok Certo Ecco in questo caso Noi praticamente Abbiamo Un esatto intermezzo Che sarebbe Un numero Elevato Ma non elevatissimo Di civiltà Sei Mi pare Sei Sì Corretto E Però Abbastanza Differenti Tra di loro Ma non Così tanto Secondo me Da essere Considerate Notevoli Da essere Differenziate E caratterizzate In una maniera Proprio Lampo Come in Starcraft Che tu vedi I Zerg Sono insettoidi Capito Immediatamente I protos Sono quegli alieni Del futuro Col plasma Negli occhi Capite Voglio dire Sì E non solo Anche per giocabilità Anche per Macro Micro Army Composition Countering E difesa Da Un esercito Che ti può Counterare Beh ma Starcraft Comunque Allora Quello che voglio dire io Non è che si rischia Di perdere un pochino Il punto Nel senso Con sei civiltà Farle tutte quante Estremamente Differenti È complicatissimo E bilanciarle È complicatissimo Non è come farne tre Capito No ma il discorso Guarda Il discorso nostro è questo Noi volevamo fare Un gioco medievale E questo ti vincola Da un certo punto di vista Al tipo di gameplay Che puoi creare Perché Il plasma Non salterà mai fuori Le frecce sono frecce Le spade sono spade Io penso che Siamo riusciti a trovare Un compromesso accettabile Tra come dicevi tu Il bilanciamento E differenziazione Della civiltà Perché Aztechi E francesi Non si giocano Assolutamente La stessa maniera Però C'è Un diciamo 40-50% Della partita O comunque del gioco Che tu già conosci Cioè In Starcraft Faccio guarda Ne parla l'altro giorno Perché in Starcraft Skippi la parte I tuoi Spearman I tuoi Spearman si evolvono Con la Con l'esperienza Il tuo prete rallenta La cavalleria Eccetera Diciamo Un tot di cose le sai Un tot di cose le impari Questo ci permette Il prete cinese Conosce il confu E' tutto quello che serve Che serve Che serve Esatto Il prete francese Benedice Il prete mongolo Benedice Però ti dà la possibilità Di scrivere gli attacchi Il prete Azteco rallenta Il prete arabo converte Eccetera Eccetera Ok allora Questa è una cosa Molto bella Secondo me E questa cosa Secondo me Dove si dovrebbe Un pochino Valorizzare meglio Per esempio Durante il caricamento O durante la lobby Cioè Magari sembra stupido Mi ho avuto in mente E' sembrato in mente Quando Age of Empires online Durante il caricamento C'erano dei piccoli tip Quale il caricamento E' totalmente diverso Però Secondo me Fare tipo Non lo so Mentre c'era il caricamento Da qualche parte O durante la lobby Fare tipo Andare in Sai con le bubble Cioè Tipo sai Il messaggio che compare Il scorrimento E ti puoi dire Tip del giorno Tip Certo Ricorda che i monaci Sono forti per combattere Cose così Random Chiaramente E secondo me Comunque Cioè Tu nel senso Stai aspettando Quello che è Però tu lo leggi E il tuo cervello Lo memorizza E quindi Quando tu per esempio Vai a fare La cimentata E tu dici Ma io mi ricordo Che da qualche parte I monaci I cinesi Sono forti Perché combattono Quindi tu vai lì Già E poi che riparti Con Anche se lo stai giocando Guarda Nel gioco finale Ci saranno Delle challenge Che saranno Delle mini missioni Mini Perché proprio Vengono giocate Su una mappa 24x24 Quindi incredibilmente Microscopica Che praticamente funzionano così Se ne sono sei per civiltà E ti mettono davanti A una situazione Senza dirti niente Tipo Una challenge Che stavo usando prima Per testare una cosa È una challenge In cui tu parti Con l'ingegnere cinese E un cavaliere leggero cinese Contro 5 cavalieri Bizantini Il gioco non ti dice Ok allora devi cliccare No ti dice Ok vinci E quindi tu dici Ah Ok vediamo E praticamente Con questo sistema Stile puzzle Ti insegno delle meccaniche Uniche di ogni civiltà Non solo Ti insegno anche a giocare agli RTS Ad esempio c'è una C'è una delle challenge Mongola Con un arciere a cavallo Contro uno Spearman E lo Spearman ti insegue E tu devi micrare Esatto Quella challenge ti insegna a micrare Certo C'è una challenge Uber complicatissima Io le sto tenendo nascoste Perché non le voglio spoilerare Però c'è una challenge Mongola In cui Tu parti Che hai 4 settler E sei inseguito Subito da della cavalleria Allora tu scappi Scappi Usa un settler Per costruire uno storage La cavalleria comincia ad attaccare lo storage Con gli altri settler Fai una barca Metti settler sulla barca Scappi Eccetera eccetera Quindi insomma Avremo questo Per cercare di differenziare le civiltà Eccetera eccetera Poi speriamo che Di avere la possibilità Di fare anche dei video Che mostrino Poi tutte le civiltà Quello che fanno Spero che queste cose Però in generale Che tu stai dicendo C'è la cosa Aspetta Vedete che c'è Un attimo Fisso subito Vedete comunque Che c'è un design Che c'è un pensiero dietro Spero soltanto Che queste cose Vengono viste Esatto Così io ti giuro Non le ho capite Io giocandoci È vero che non ci ho giocato tanto Però non le ho capite E la gava Non mi sono arrivate Un'altra cosa Secondo me Questa cosa è un attimo La cosa della challenge Dipendenti in segni Delle meccaniche E degli RTS Ed è una cosa fantastica Ehm A voglia Sì Mi piace Sai qual è il discorso Che ci sono giocatori Molti Che fa C'è il gioco Vanno online E si perde molto Capito Perché tu dici Eh niente Questo gioco Niente Tu dici Ho capito Va bene È stupido Cioè Mentre dentro Uno pensa Vabbè è stupido Che non vuole imparare Però secondo me Allora bisognerebbe Fare in modo Di veicolare L'attenzione Su queste challenge In un qualche modo Ecco A stupido In modo tale Che non vengono perse Ecco Capito Certo Certo Sì sì Speriamo Guarda Speriamo sia il caso Speriamo Speriamo di averne Azzeccate Un paio Comunque Engine Soprattutto Vi consiglio una cosa Veramente Soprattutto Per Comunque Che questa cosa Risulta Utile Sia ai giocatori Che sperti Che soprattutto Quelli che non hanno Appena compratto il gioco Ovvero Che nella lobby Quando Lobby proprio game Quando c'è L'unico giocatore Quanto C'è l'opzione Di guardare Le Albre Generologiche La Generologica Albre Sì Deve Tecnologie Certo 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 Come c'è Suo Jovempire 2 Perché Uno dice Prendi Franchi Ma Sì Dai Giovanna Dark Mi sta Simpatio C'è Se invece Uno Ci sono No Gioco C'era Senza Campagna Forse No Un'altra Cose Ora vado Ho apprezzato Che nel castello Francese ci sono I cavaliari Questa è la chicca storica Che io Non ho sentito Non ho sentito nulla Perdonami Ti ha tagliato Ho apprezzato Che nel castello Francese ci sono I cavaliari Templari Ah sì 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 È una chicca Che ho apprezzato Davvero tanto E lui è passato Storico C'è Il nostro Ma se vedi C'è C'è tanta storia Nel gioco Tutte le meccaniche Sono Prendono Anche Numi Cioè Si vede Che ci sono Circa Accurata Dietro E Una cosa Che non so Forse Di stile Comunque C'è il nome Della struttura Tipo Nome tipico E il nome Della struttura Che è Realmente No Sì Forse Dico A me sta bene Anche così com'è Però forse De fare il contrario Capito Sì ho capito Guarda Però forse si perde Però forse si perde Ma guarda Non escludo che Domani possiamo mettere Un'opzione per invertirli In modo tale Che quello grosso Sia il nome Della classe Tra virgolette E quello piccolo Sia il nome Unico Della città Eh perché Io mi trovo Schietti qui Non penso Oramai Cioè Ci devo arrivare Un po' dopo Ok C'è proprio Io che so Un gioco L'ho giocato Da quante Orette e mezzo Massimo Di ore Si tricipa Un sabato No Sono che anche Pesano Immagina anche Il casting Tipo la gente Che C'è 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 Di Che Magari Conunce Non è C'è Ma guarda La gente Chiamerà Poi Le cose Come Come Vuole Chiamarle Ma Penso Che la pronuncia Sia l'ultimo Dei problemi No Vabbè Ma Tu Di Che Diavolo Fa Quell'affare Sì Magari Ecco Piccola cosa Visto Che gli edifici Cambiano Comunque Tra una civiltà E l'altra Sono Qualche modo Differenziati A parte Quello Che dice Che ha detto Prima L'imperatore Che secondo me Sacro Santo Mettere anche Un simbolino In basso A destra Che ne so Qualche parte Per dire No La barracks La caserma Ci metti Le spadine No Così si capisce Subito Immediatamente Anche se ti cambia L'icona Sì Guarda Ti dico Secondo me Fra un'ora Fra un'altra Ora di gioco Questa non sarà Più un problema Anche Perché ti accorgerai Che più o meno Tutti gli edifici Anche se Sono di civiltà Diverse Hanno una Medesima Base Architettonica Non proprio Uguale Però tipo Le barracks Più o meno Se io te la mettessi Tutte una fianca All'altra Diresti Ah sì Ok Adesso lo vedo Che sono tutte simili Come Age 2 Che alla fine Cambiano le texture Un po' Però Si assomigliano Sì Della stessa categoria Diciamo Sì Non così tanto Non così tanto Simili Però Diciamo C'è C'è Quello studio Dietro Ecco Dice Druger Qui un commento Che è arrivato Che secondo lui Non sono Molto differenziati Lui vede gli edifici Dove sta scritto Gli edifici Sono scarni E poco Rappresentano La razza di appartenenza Lui dice questo Ovviamente Un commento Personale Per carità Io non Non è nessun Non è un problema Io Cioè Lo stile del gioco Comunque low poly Quindi ci sono Alcuni Cioè Spesso e volentieri Gli edifici Sono volontariamente Scarni In termini di dettagli Ti dico A livello storico E a livello di rappresentazione Della civiltà Secondo me Non abbiamo nulla Da invidiare a nessuno Cioè Se guardi gli edifici arabi O se guardi gli edifici bizantini E se sei un appassionato di storia Anche apri un libro E dici Ah cacchio Sì L'architettura è quella E ogni singola civiltà Ha tutti gli edifici 100% differenti Cioè Lo vedi che c'è una C'è una certa C'è una certa ricerca dietro Sono Sono molto fiero del lavoro Che ha fatto il team Su Da quel punto di vista lì Poi Secondo me Ci sono alcune civiltà Che sono un po' più belle Delle altre Gli arabi sono fantastici Dal mio punto di vista I bizantini sono molto belli E poi È questione di gusti Però Comunque Grazie Comunque Imperatore Giusto? È stato un piacere Sì sì È stato un imperatore Grazie Grazie Ciao 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 Ok È morto È morto un imperatore Se ne fa una Dice che bisogna accentuare le differenze Sempre Drucker Ma in realtà Si sta ascoltando Ma guarda per me È un discorso È l'unica cosa che vorrei dire a Drucker Se lui ha visto un'ora di gameplay In un'ora di gameplay Non riesce a scavare in una civiltà Cioè Scusami Senz'altro non riesce a scavare in sei civiltà Soprattutto Sì certo Senza Senza volerne a voi Voi non conoscete il gioco Se io facessi vedere il gioco E lo facessi vedere in mezz'ora In mezz'ora ti faccio vedere sei cose uniche Che hanno sei civiltà Voi chiaramente È la prima volta che aprite il gioco Quindi ok Vediamo come funziona questo E quindi procedete in maniera molto più lenta Quindi se lui è arrivato E magari voi avete provato due civiltà Dice Non so Qui non c'è tanta differenza Se io potessi arrivare Dice sì Ah guarda Hey Lo sai che le università arabe In realtà funzionano in maniera completamente diversa Non so se le avete toccate per dire L'università arabe Però gli arabi hanno le università Che praticamente Generano Generano una risorsa al loro interno Che si chiama conoscenza E praticamente hanno delle ricerche Tu puoi costruire questa università Dove vuoi E fornisce dei bonus agli edifici attorno a sé Tipo l'area Sì sì E funziona anche con gli alleati Supponiamo che il tuo alleato Ha 5 barracks Tu gli metti un'università dietro le barracks Cominci a accumulare conoscenza Quando arrivi a 50 di conoscenza Puoi fare la prima ricerca Le ricerche sono Riduci del 30% Il tempo di costruzione delle unità Negli edifici vicini Aumenta di 2 Più 2 più 2 l'armor Delle unità prodotte negli edifici vicini E il terzo è Aumenta l'armor degli edifici Degli edifici vicini Quindi Ok E questa è una cosa che hanno solo gli arabi E non ha nessun altro Quindi tu capisci come Puoi usare gli arabi per giocare in team Dici Ah Figata Io mi metto in pocket Spargo università come se piovesse E voi spammate come Come dannati Giocate gli aztechi Se ne frega Sono super squishy Però io vi do armor con le università E andiamo così A fianco a me c'è uno francese Che benedice l'unità E quindi gli da armor anche lui E abbiamo Degli aztechi Che costano 40 cibo Che vanno in giro Con il 3p3 armor E così via Quindi insomma Diciamo che alla fine È un problema un po' Di tutti i varii RTS Ovvero che È molto difficile Chiaramente Cioè avere La conoscenza immediata Ecco la cosetta Sì sì No niente Per concludere Scusami Vai vai C'era Drucker che diceva Lui si riferiva a un discusso estetico Alla Tsar Quella di Rer2 No Camelot Quella roba Sì Ok non so se Lui dice così Alla Tsar Se capisci esteticamente Parlo Poi vorrei aggiungere Una piccola cosa Io personalmente Adesso non so se Engine condividerà con me Però Visto come È stato organizzato Dal punto di vista Dello stile Proprio il gioco Quindi molto minimalista Molto cartoon Io ho l'impressione Che quello che vuole dire lui Sia che mancano Magari dei dettagli Cioè che Gli edifici sono Comunque abbastanza Ben costruiti Sì Però Semplici Diciamo Alla fine Forse è questo Quello che vuole dire lui Ma penso che dipenda Da uno stile Proprio scelsissimo In questo modo Sì È lo stile del gioco Che è volutamente Noi lo chiamiamo Stilizzato low poly Quindi Cioè Se guardi Se guardi la sabbia Se guardi gli alberi Eccetera eccetera Questa cosa è Consistente dappertutto Ma per esempio Sugli alberi E sul terreno Magari ci sta Perché anzi Troppi ghirigori Insomma Troppe queste cose Magari dà anche fastidio Cioè È importante Io sono un amante Del dettaglio Per me Se c'è Proprio il brì Intento Se è chiaro Poi sono io Che lo disattivo Se mi dà fastidio Però questa è una mia Personalissima opinione Però voglio dire Il concetto È che Chiaramente Lo stile È uno stile È molto minimale Ma anche elegante Per esempio I menù Mi sono piaciuti Tantissimo Perché È vero che Transizioni Con quelle Semitrasparenze E quel bianco Che quasi Ha caratteri stampati Forse Non fanno Tantissimo Medioevo Ma un qualcosa Di un pochino Più moderno Forse Però Ci sta benissimo Nel contesto Low poly Sì Questo è quello Che voglio dire Cioè alla fine È una sorta Di guerra sintetica Tra virgolette Perché i personaggi Pupazzetti Li sono fatti tutti A poligoni Quindi è medievale Ma è come se fosse Virtuale Proprio Certo Però Devo dire Che in generale A me Personalmente È dato un pochino Low poly Ecco diciamo così Con questo Questa grafica Cartoon Estremamente Con dei colori Estremamente accentuati Una palette Molto Molto Accesa Soprattutto durante il giorno Ha dato un pochino La sensazione Di giocattoli Che combattono Tra di loro Purtroppo Questo devo dirlo No guarda Non è Una cosa personale Sì Non è fuori dal mondo Come Come critica Un sacco di persone Un sacco di persone Sono attratte dal gioco Puramente per la grafica E poi c'è un altro Eh sì E poi c'è un altro C'è un altro subset Di persone Che invece dicono Guarda Se non è realistico Io non lo voglio giocare E a quel punto Io alzo le mani Dico Dice vabbè Quello è una questione personale Tipo Quei pochi Che gioca A Supervision Io sono più Per il realistico Sono sincero Sì Ti dico Guarda La scelta di farlo Non realistico Viene anche dal fatto che Se l'avessimo fatto realistico Riconoscere le unità Sarebbe stato un dramma Forse non ti è Forse non ti è così semplice Immaginarlo Però te lo assicuro Immaginati lo stesso gioco Ma ultra realistico Allora In primis La griglia Andrebbe fuori dalla finestra Perché Col fatto che le unità Sono Un po' astratte Nel loro stile grafico Tu ti puoi permettere Di avere un omino Che di fatto è grande Un ottavo di un town center Ho capito Sono molto grandi Gli omini In real Se lo stile fosse stato realistico Sarebbe stato ridicolo Perché tu Dal momento in cui Lui si mette a fianco Un edificio Dici No Questo edificio Non ci entra nessuno Non funziona Cioè Lo stile si romperebbe subito E questo è un conto Ma il conto peggiore È anche che Bastava fare il resize Degli edifici Cioè volendo alla fine Sarebbe stato un resize Sarebbe stato un altro gioco A quel punto Cioè stiamo cominciando a parlare Di un altro gioco A questo punto Perché se gli edifici Diventano più grandi Le meccaniche cambiano Le dinamiche cambiano Eccetera eccetera No 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 Certo certo Anche solo Cioè Io sto guardando adesso Lo stream Vedo che c'è un cavaliere Un cavaliere Un cavaliere pesante Un francese Un chevalier No un jeddard E Ok E lui lo riconosci Lo guardi da lontano Vedi la cosa Dici Ah ok Lui il cavaliere pesante Francese Benissimo Se lui fosse stato Oltre realistico Con le normal map Tutto tirato a balestra E lo metti in mezzo A un ambiente realistico Con la sabbia Che vola Che frutta Come dire Erba Eccetera eccetera Lui si perde Se lo metti a fianco Uno spearman Realistico Lui si perde Cioè Cominci a Cominci a Entrare in problemi Di Riconoscibilità Delle unità Anche perché Lui ha delle proporzioni Che non sono umane Sono più che umane Cioè La spada che ha in mano È gigante Rispetto a una Cioè Non sarebbe Una persona Non sarebbe in grado Di sollevarla Però perché è così grande La spada Perché tu da lontano Devi essere in grado Di dire Ah Cavaliere pesante Stessa cosa Con qualsiasi altra cosa Nel gioco Se fosse stato Tutto realistico Sarebbe stato Tu avresti dovuto dire Ah quello è Ah ok Cavaliere pesante Fichissima È bellissima È la migliore Cavaliere pesante Che abbia mai visto Ma faccio fatica A vederla Ho capito Ho capito Beh sì Avete deciso Proprio di Stare dall'origine Il gameplay In questo modo E quindi in qualche modo Avete accompagnato Anche con una grafica Che vi permettesse Di farlo Ma allo stesso tempo Fosse 3D Non 2D Per esempio Come quella di Age 2 Per dire insomma Lì è più facile ovviamente Sì perché Con gli sprite È tutto più facile Insomma Da un certo punto di vista Sì Ma infatti Loro barano tantissimo Infatti È una cosa che Spesso e volentieri Quando streammavo Lo sviluppo del gioco Facevo notare alla gente Facevo vedere Guardate come Age of Empires 2 Può permettersi di barare Col fatto che loro Non hanno prospettiva Certo Allora Le loro Come sapete Le loro cliff Le loro colline Quelle pesanti A strapiombo Non sono colline Cioè Non è il terreno Che è sopraelevato È solamente uno sprite grafico Che ti blocca L'andare lì Da noi le colline Sono vere colline Ma una cosa Sì perché c'è il 3D C'è il motore Esatto Una cosa Sì Io ho visto prima Che Adesso Switch o in pass No sai che Molti anche Giochi Allora io ti devo dire una cosa Ultimamente sto giocando Molti giochi per cellulare Quelli gratis Sì RTS Che Un po' di tutto Insomma perché Boh perché Se mi piace giocare Quindi ok E E molti C'è comunque sempre Il rispetto Del fatto del danno Cioè che se tu sei Sopra una collina Fai danno bonus Eccetera Qua Prima Abbiamo combattuto Io ero su una collina C'era l'altro avversario Che era sotto Ma in 3D C'è un impatto di danno E se non so se magari Ho svolto io qualcosa Cioè No no Non c'è Non c'è Il bonus damage Come c'è in Age of Empires Il motivo è semplice Allora Detta molto francamente Cioè Guardiamoci negli occhi Age of Empires 2 È un gioco bellissimo Non c'è tanta micro In Age of Empires 2 Cioè l'unica micro Obiettivamente Che nel gioco c'è È evitare I mango nel shot E Mettere gli omini Su Insomma Il gioco per l'altezza Cercare di stare in alto E avere il bonus Il bonus damage È tutta lì La micro che c'è In Age of Empires 2 Non è Non è un gioco Fortamente incentrato Sulla micro In Empires a parte C'è molta più micro Hai preti Hai preti aztechi Che castano cose Puoi schivare i proiettili Puoi fare un sacco di cose Eccetera eccetera Se avessimo introdotto Un ulteriore aspetto Di Ok Oltre a tutte queste cose Che devo tener conto Devo anche tener conto Del fatto Che devo stare in alto E mettici sopra Il fatto che le mappe Sono generate random Quindi dove staranno le colline Non si sa Quindi io potrei essere Molto favorito rispetto a te Eccetera È una cosa che mi hanno deciso Di tagliare dal gioco Perché sarebbe stato Tra virgolette Un pensiero inutile In più del giocatore Con cui lui Avrebbe dovuto fare i conti E che magari porta a Porco cane Ho perso sta partita Perché la tua base Era su una collina La mia no Ma anche nel Voglio dire In Age 2 Alla fine C'è effettivamente Il danno Da Posizione sopraelevata Certo E c'è anche Il motore procedurale Che compone le mappe In un certo senso Basterebbe bilanciare Tale motore procedurale In maniera tale Da creare delle mappe Dove le colline Sono Messe in modo E più distante O comunque Facilmente raggiungibile Da entrambe Magari le fazioni Che si stanno contendendo Cioè alla fine È più una questione Di come è costruita La mappa Che della feature in sé Capito? Ma secondo me In questo caso Mi trovo d'accordo con Coppa Non è male Secondo me Come idea Insomma implementarla Più cose Difficoltà Ci sono Secondo me Cioè nel senso Che c'è Differente Nel senso Che è vero Che tu dici Giustamente Che ci sono Un sacco di No Cioè inizio in pers L'unica cosa Che puoi fare Se i monaci Possono convertire E basta Mentre invece Instacraft O altri giochi Alcune unità Hanno dei poteri E quindi Lì la micro È esasperante Che tipo Devi micrare Sì quella È esagerata Infatti No 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 È va bene Ok Se ci stiamo Scusate ragazzi Sto Laggando tantissimo Entro dal cellulare Che dovrebbe Non laggare Ok Cambio Cambio device Al volo Ok Va bene Date una texture A quella stalla Ma no Stavo leggendo Eh Questa cosa Delle texture Molto semplici Pure Guarda Io sono sincero Sono d'accordo Con drugger Dal punto di vista Aspetta Che è rientrato Engine Ma soltanto Per una questione In stile Non è uno Stile Ma questo Un altro discorso Eccoci qua Ok mi sentite Stavamo commentando Dietro Drugger dice Questo sembra Una bozza Insomma Date una texture A quella stalla Eh Sapessi Mi rendo conto Che non è una bozza Perché Perché So che Qualcosa Non ho mai sviluppato Ancora un gioco Però so Più o meno Come funziona So Più o meno Quali sono i passaggi Pello sviluppo Di un gioco E quali sono Grosso modo Le problematiche Che si possono incontrare Di design Sia dal punto di vista Del game design Che anche Del graphic design Quindi so che Non è una bozza Questo è Certo Però chiaramente È uno stile Molto molto Esasperato Come stavamo dicendo Prima Quindi o ti piace O non ti piace Magari uno stile Più inclusivo Sarebbe stato Più Come dire Più appetibile Per tanti giocatori Diversi Un giorno Uscirà una mod Che riuscirà A trovare una combinazione Tra La semplicità E dettaglio Eccezionale Perché non ci abbiamo pensato Prima Sì sì Per carità Vedremo Con me Un pochino più Di dettaglio Ragazzi Perché ci sono Alcune cose Stove Allora Se è un discorso Di concettualità Ok Non serve Il dettaglio Serve un aggiunta Tipo io Come dice Come Guarda che non piace A tutti Eug Cosa Quello problema Cioè Questo stile Molto Molto Va bene Ho capito Ma è come dire Semplificato Diciamo così Molto stilizzato Può Sembrare un pochettino Forte Ho capito Il problema è che Comunque piacere a tutti È una chimera Cioè Non ci arriverà mai nessuno Sai quanti Non toccano I Geof Empires 2 Perché dicono No che schifo Grafica di 15 anni fa Esatto Io non so come fanno a dirlo Però va bene Cioè nel senso C'è di tutto Non è C'è gente che guarda Crysis E dice No questa grafica fa schifo Io non so Come facciano a dirlo Capisci Mamma mia Vabbè Oppure anche Che guardano Cuphead Dicono Questo gioco è orrendo È bellissimo Cuphead Ma cosa Cuphead Ragazzi è un capolavoro È un capolavoro Certo Però sai C'è di tutto Sì però C'è gente che Esatto No 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 Ma perché Non piace Non piace Lo stile cartonesco Perché C'è gente Perché C'è gente Che magari C'è io I cartoni Sono cose Tra bambini C'è magari Lo giocano No no Quello che Stavo dicendo Sembra di vedere Un pochino Di pupazzoni Di plastica Che si menano Questo sì Questo Va detto Ma allora Perché guarda Io penso Starcraft 2 Non abbia uno stile Alla fine Troppo diverso Da questo In un certo Se per Fammi fine il discorso Poi dopo ci pensiamo Voglio dire Starcraft 2 Se tu lo vedi Alla fine Non è uno stile Ultra realistico Se tu Zoomi sulle unità Sono delle unità Abbastanza Cartoonose Cioè Hanno una palette Di colori Molto Tutto colorato Non sono troppo Dettagliate L'unica La differenza Grossa Che cosa la fa La fanno le texture Fondamentalmente Non ti dico di metterci Gli effetti Particellari Della madonna Che mi crasha il pc Ma le tue Si però Le texture Per me Un pochino di più Non tanto Ma un pochino di più Si Guarda Lo stile E qui per rimanere Quindi Al momento Questo sarà Se un giorno Faremo in paesa Part 2 Ne parleremo Vuol dire che le cose Sono andate bene In primis E poi Certo E poi ne parleremo E vedremo Che cosa fare Ecco Non sono d'accordo Sul discorso Di aggiungere dettagli Perché È come dire Ovviamente È un estremo Dire Eh ma minecraft Non è troppo cubettoso Minecraft è fatto così Cioè hai capito Un po' Quello discorso Eh ma c'è tanta gente Che non gioca a minecraft Per questo motivo Quindi io Quando sento Quando sento la critica Non dico Assurdo Lo capisco Non sto dicendo Il discorso è che Allora Per esempio Il fatto di edifici Se magari Ci sono persone Che hanno Problemi A Individuare Bene Gli edifici È anche importante La prima impressione Perché se tu guardi Un gioco Tu dici Eh non capisco Bene gli edifici E ti allontani Per te uno Perda anche una Ecco anche lo stesso Warcraft 3 Per concludere il discorso Anche quello lì Cartunoso Perché non mi puoi dire Che non è cartunoso È un altro stile È quello È lo stile Blizzard Che solo Blizzard Sa fare Tanta gente ci prova Ma solo Blizzard Sa fare E poi lo stesso stile Di Warcraft E lo stesso stile Di Overwatch Da un certo punto di vista Che hanno questo Sì È un po' diverso Aspetta È un po' diverso Certo certo No però Diciamo Alla base C'è sempre Texture painting Proporzioni Esagerate Non usano mai Linee dritte Cioè diciamo Tutti i giochi Blizzard Più o meno Hanno una certa Base Da cui partono Tutti quanti Indipendentemente Dallo stile Da Diablo Anche Diablo 3 Infatti è stato criticato Da questo punto di vista Però da Diablo A Overwatch A Warcraft Se tu li vai ad analizzare Dal punto di vista stilistico Ti siedi e dici Ok vediamo effettivamente Come è fatto Gli americani dicono Come è fatta la salsiccia Vedi che tante regole Tante regole sotto Sono le stesse Ti metti a guardare Gli edifici di Warcraft E vedi che Hanno usato stesse regole Per fare la grafica Di Overwatch O stessi stili O stesse Tecniche A sinistra e a destra Anche se magari Non è immediatamente evidente Però è un altro stile Cioè lo stile Blizzard Solo Blizzard lo sa fare E tra l'altro Richiede uno sforzo Incredibilmente più grosso Ci credo No no Ci vuole un team E beh io ovviamente Per dirvi che cosa farei io Però mi rendo conto Che siete persone Fondamentalmente Ti dico in questo momento Non è scontato Guarda ti dico In questo momento A finire questo gioco Siamo in tre Quindi Per darti l'idea Della dimensione del team Quindi Cioè Di quello che c'è su schermo In questo momento Nella partita Le animazioni dei cavalli Le ho fatte io Le texture del pavimento Le ho fatte io La mappa Le ho fatte io Le unità Cioè capisci Se cominci a dirti Questo l'ho fatta io Questo l'ho fatta io E' tantissima roba Blizzard sono Sono un battaglione Non so quanti siano 500 300 Non so quante persone Siano in Blizzard Ma sono Fantastiglioni Quindi Quando noi saremo Blizzard Ti inviterò nei nostri uffici A vedere Il paese a parte Sarà un onore Perché io ti giuro Allora Io voglio studiare Per diventare game design Allora Di dove sei? Allora Il discorso è questo Io dico semplicemente Io riesco comunque A trovare sempre Molte compromesse Nel senso che mi piace È nella mia natura Trovare compromessi Quindi È un politico lui No no Io sono diplomatico Di natura Allora In pratica È molto importante Non va tanto di moda La diplomazia Se è capitato mai No è molto importante È anche la prima impressione Perché come stavo dicendo prima Prima che copermi Mi interrompesse Vai vai Se magari uno Si è lontano Subito all'inizio È un peccato Perché magari Questa persona Che è stata lontana In quel momento Magari Se avesse avuto Non lo so Qualcos'altro Che avesse magari Tenuto ancora Attaccato Qualche minuto in più Magari Poteva diventare Un cliente Cioè Un compratore Quindi io Una proposta Che dicevo prima Che Copper ha detto Che in realtà Con quello l'avevo detto io Poi non so se anche lui L'ha pensato No non lo so Quella di mettere Per esempio Una piccola icona Sopra Tipo Il tetto No? Dei palazzi Non so come A lato No io non parlavo del tetto Io parlavo del menu Di selezione No no Io parlavo degli edifici Perché gli edifici Si diceva Che erano molto semplici E che magari Non si riconoscevano Allora Questo comunque condivido Sono d'accordo Eh sì È quello che è stato detto Prima Prima che vi arriva a Sanjai Ma sai Se li vuoi fare Anche non esattamente Appitticata sopra Potresti fare tipo Una bandiera Che sventola Come il simbolo No 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 La bandiera Non farla Non farla Non mai Non una bandiera Ma no Guarda ti dico Al momento Ti dico Il problema di riconoscere Gli edifici Per il momento Non c'è stato Nessuno lo ha L'ha evidenziato No 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 Si ma io dicevo Eventualmente Potrebbe essere un'idea Cioè Non penso che sia No no guarda L'unica cosa che dico io è Fatevi un'altra oretta Col gioco E ditemi se il problema esiste ancora Se esiste ancora Allora è un problema Altrimenti Magari è soltanto Abituarsi a un A un mondo nuovo Perché di fatto È un mondo nuovo Poi io Cioè Io sono troppo vicino A questo prodotto Quindi non riesco A essere Troppo A rendermi conto Però Non so esattamente Per un giocatore Di Age of Empires 2 Ne conosco tantissimi Però Oggi ne conosco Altri due Di nuovi No E dico Ok io non so Come può essere per voi Il salto Tra Age of Empires 2 A questo Cioè Quanto Quanto è diverso E quanto Riconoscete Quanto Cioè Per dire Una cosa stupida Però a volte Vedi giocatore Di Age of Empires 2 Che per la prima volta Giocano su gioco E partano E fanno casa Casa E dico Oh è vero Che teneri Perché Perché loro sono abituati A quello Allora partono Con casa Casa Perché c'è la Build order Io invece Non so Sì sì No Certo Era un esempio Generico Io invece Io non l'ho fatto Prima volta Non l'ho fatto Perché Ero più interessato A vedere Che cosa Che cosa Sì Anche io In questo caso Non ho fatto Casa a casa Non mi è venuto Spontaneo Anche perché A differenza di Age C'è una piccola Subito vicine Le case Le due case Si fanno Per esponare Questa è una cosa Che mi è piaciuta Le pecore vicine Mi è piaciuta Per Sfigato Non ce l'hai Nel raggio visivo Sì Ma infatti C'è tante delle cose Però il bello Di Age Posso dire una cosa Al bello di Age È un gioco Pure un pochino Imperfetto A un certo punto È vero Che Age È venuto bene Perché Non Si è una Strale Che Che l'ha fatto Venire Un lavoro Forse Nemmeno previsto Dagli sviluppatori Era una Una serie Di casualità Diciamo così O di Di RNG In generale Di Di come sono Fatti i buff Delle popolazioni Non saprei dire Comunque Una serie di cose Che lo rendono Interessante Cioè ogni partita Non è mai scontata Non è mai tutta uguale Anche le mappe Possono essere diverse Appunto Vai alla ricerca Della collina Vai alla ricerca Della tattica Perché voglio dire Tu devi giocartela Meglio come una Scacchiera Piuttosto che A stare a guardare Al monaco Di quella popolazione Che è diverso Da quell'altra Cioè come tu Mi hai detto Per esempio In 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 Infatti No Infatti hai ragione Cioè nel senso Da un certo punto di vista Age of Empires 2 È più simile agli scacchi Di quanto lo può essere In PSA Perché C'è molta più simmetria Da un punto di vista Puramente di design È vero Age of Empires 2 Essendo più simmetrico È più simile Agli scacchi Di È più tattico È proprio tattico Non ti direi Che automaticamente È più tattico Assolutamente no Cioè Sì Perché Cioè Non mi sentirei di dire Che Age of Empires 2 È più tattico Di Starcraft Non mi sentirei di dire Che è più tattico Cioè Capisco che è il vostro bambino Ok Io la vedo Da un altro punto di vista Age of Empires 2 È uno dei miei giochi preferiti Di tutti i tempi È secondo me È secondo me Uno dei giochi migliori Di tutti i tempi Io lo chiamo Perfettamente imperfetto Perché ha chiaramente Dei difetti Ma Sono i difetti Forse che lo rendono perfetto Da un certo punto di vista Però Riesco a mantenere anche Devo Soprattutto per il mestiere Che faccio Mantenere un certo Certo Diciamo un certo Digitarsi Sì Un certo Devo poterlo giudicare Per quello che è Distacco Esatto Quindi Non riesco a dirti Sì È più tattico Di Starcraft Non lo è Possiamo dire Che Ha comunque Le sue cose È comunque affascinante Per altri motivi No Tattico Nel senso Come posso dire Che devi cercare La collina Come Sì Per carità Per girare le mura Per fare Magari Per fare uno scout rush Il fatto che Quel senso lì È più tattico Sì Sì Per carità Ma sono tutti RTS Voglio dire Certo Di che stiamo parlando Insomma Certo Certo Però noi saprò adesso Sempre di Cioè Nel senso Secondo me La tattica È un concetto E Voglio dire In un RTS In un certo senso A volte La tattica Si perde Perché Devi essere Rapido Diventa una roba Di velocità Esatto Quindi Secondo me Se devono parlare Veramente di qualcosa Di tattico Devo andare su altri titoli Cioè Se voglio proprio Entrare veramente Nella tatticità Tipo Giochi a turni Che è il mio campo Sì Sì Poi Entriamo anche In un discorso Di semantica Di che cos'è Tattica Che cosa è Staticia Eccetera Ma questo è bellissimo Cioè Mi piace Sapice un sacco Adesso parlare qua Cioè Non ho avuto mai l'occasione Purtroppo Perché Io devo scrivere Mi ricordo che Quelle volte ti invita A venire a giocare con noi Però dice Ogni tanto mi inviti Sto strimando Sto strimando Sto strimando Sto lavorando Ragazzi Noi non potevamo Non potevamo Non potevamo averci pensato Comunque perché Sicuramente Queste problematiche Queste domande Le avevi già incontrate Perché è venuto a trovare Una soluzione Sì sì No Per carità Poi comunque A me fa sempre piacere Spiegare come è fatta la salsiccia Di nuovo Per usare la stessa espressione Che usano gli americani E poi comunque Sentire anche Che cosa ne pensate voi Perché da un certo punto di vista Questo gioco è fatto per voi Perché Una volta ieri ero voi E giocavo a Age Basta Cioè basta no Però giocavo Tantissimo Nel mio tempo ludico Era passato su Age Dissero Porco cane Ma questo gioco è così bello Però mancano Cioè Tutte le civiltà sono uguali Cioè a me piacciono i bizantini Io gioco solo a bizantini Però porco cane Non sono bizantini Cioè È la stessa civiltà Con una salsiccia Cioè con sopra Un condimento diverso Quindi Insomma E poi organizzare le partite Poi desinca E poi qui E poi qua Poi chiaramente Age of Empires 2HD Ha fatto alcuni errori Che All'epoca Si sentivano parecchio E Quindi Da lì È nata la volontà di dire Cacchio Porco cane Io vorrei Ne vorrei un uguale ma nuovo Si può avere Sicuramente è una bella Una bella sfida Quindi Non lo so Sì Vai 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 Io intanto interrompo Non perché voglio interrompere Ma per prendere Prenoto il turno successivo Ma cosa? Sarà un casino Pazzo No no volevo dire Allora il cheat di Inot Uno dei vostri No non credo No no L'unico L'unico dei nostri Qui che vedo È Game Video Ma Non gli vuole bene nessuno Quindi Lo ignoriamo Mi dispiace Game Video No ma lui è Inlesso da tantissimo tempo Fu uno comunque Dei primi membri Per cui Ah mi dispiace per voi Eh annaggia Comunque Il cheat di Inot Dice Secondo me Per essere un gioco Creatato da tre persone E' fatto bene Ecco questo è vero Perché io Certe volte Ma penso che Non solo io Chiunque stia guardando In questo momento Possa pensare che Sia stato effettuato Da un team Di ben altre dimensioni Almeno 10-15 persone Sinceramente Il fatto che Comunque realizzato Con la reale engine Cioè dà un'idea Di professionalità Anche se È stato realizzato Da un team Scarno Comunque complimenti Per questo Tanto ricappello Questa sarà una piccola Rentesi che ho aggiunto io Comunque Tanto ricappello Per il fatto Di aver creato Tutto senza prendere Da terzi I moveset Almeno così mi sembra La grafica Non la vedo come un fattore negativo Perché è uno stile Lettamente diverso E c'è a chi piace A chi non piace Come ho già detto Secondo me Non va distrutto Solo per la grafica Anzi Secondo me Bisognerebbe scenderlo Completamente Da Aoe2 Che secondo me Un po' di secondo me È simile Ma allo stesso tempo Diverso Dice Poi Manticorei Ne sto facendo un po' di lettura Perché ci sono dei commenti Aoe2 è un tattico Uscito in un buon periodo Ma per fare un paragone Ora City Skyline Può darmi quelle emozioni Che avevo avuto Con sensi di 2000 o 3000 I cambiamenti Ci stanno Ma basta girarci attorno Se vi piace Caciarare Caciarare Ok Però qualcuno Vuole avere anche idee O conferme Su cosa fare o no Non ho capito bene Che cosa ti riferisci Neanche io Non ho capito bene il commento Però ha fatto Ha fatto un paragone Con City Skylines Che non è Lui ha detto È un po' come dire Che Tra Age 2 E questo gioco Passatemi Non so se è giusta L'interpretazione È la stessa cosa Di dire Tra Sim City 2000 E City Skylines Cioè emozioni simili Anche se in epoche Diverse Diciamo di gaming Diverse In salse diverse Guarda Se quello è effettivamente Quello che voleva dire Sono completamente d'accordo All'epoca Il nostro Il nostro paragone Quando dovevo spiegare il gioco Non so se conoscete Pillars of Eternity Sì L'RPG L'RPG Stile Baldur's Gate Sì sì Però è rinnovato Noi dicevamo Noi dicevamo Vogliamo essere Quello che è Pillars of Eternity A Baldur's Gate Noi vogliamo esserlo Per Age Vampires Quindi Portato all'epoca moderna Stesso Diciamo Stessa base di partenza Ma poi Andiamo a costruirci Sopra qualcosa di nuovo Che sia familiare Ma che sia nuovo Sì Guarda Io adesso Non so Penso che ti hanno già fatto Questo nuovo discorso Dunque adesso Un altro Diciamo Concorrente Direi Che però Mi sembra che sei grato Non so se fosse La pagamento È 0D Che Sì Diciamo È l'altro Titolo Che Scusa Che devo dire Che personalmente A me non è piaciuto L'ho provato C'è Come stile Visivo Che in un certo senso È sempre 3D No Sì Che mappa Quanto grande Online Offline La mappa era per Per 6 Mi sembra Eramo 4 online Ok Tutti con la fibra Penso siamo Sì Sì Assolutamente Non era un problema Dipingere Proprio Problema Di ottimizzazione Il pc mi stava esplodendo Non ce la faceva più Guarda ci sono alcune cose Di ottimizzazione Che possiamo Che dobbiamo ancora Tunare Eventualmente Comunque Insomma lo sappiate Perché questa è una cosina Un pochino Pesante Diciamo Dal punto di vista Tecnico Sì Sì Guarda Da un certo punto di vista Alcune cose le possiamo Migliorare Dall'altro È comunque un gioco Abbastanza Demanding Dal punto di vista Delle prestazioni Cioè Non è un Age of Empires Che lo giochi Sul tostapane Di tua nonna È un gioco moderno Fatto con un engine moderno Quindi Ha delle richieste La real engine Ha proprio E su Potreste ottimizzarlo In una maniera Allucinante Penso vi servirebbe Un team più grande Questo sì Sì Da un certo punto di vista Sì Ecco un'altra cosa Ma Il sole Io ho visto Che c'è il ciclo Giorno notte Sì Ma Le ombre Sono dinamiche Certo Guarda Ho visto C'ho ragione Og La maniera La maniera migliore Per vederlo È andare nella modalità survival Dove il giorno dura Dura soltanto due minuti E vedi Vedi le ombre che si muovono Ma anche adesso Se tu fermi la telecamera E ti metti a guardare Ti concentri forte forte Su un albero Un'ombra cambia lentamente Lo stavo vedendo Ma cosa cambia Tra i giorni e notte Adesso magari Non ho visto Dunque vedrai che Il raggio di vista Si cala Del 30% Quello si Ok E poi ci sono Alcune unità Che interagiscono Con la notte Ad esempio C'è la spia Azteka Che all'inizio della notte Ritorna invisibile Ah E vedi Quando attacco Perde Esatto Quando attacca Perde l'invisibilità E all'inizio della notte Ritorna invisibile Però ti dico La notte è piuttosto interessante Ad esempio Quando giochi Quando devi Rushare Raidare Eccetera Se raid di notte Con tipo Delle unità melee Vuol dire che Riesci magari A passare Attraverso A passare Non visto Dal tuo avversario Eccetera C'è Si ci sta Ci sta Cioè Non è così Non è così banale Poi ovviamente C'è la notte Survival Dove di notte Ti attaccano i nemici Eccetera Se vuoi Anche questa Esperienza e notte Potrebbero essere Gli ottimi Punti di forza Se vuoi da sfruttare tantissimo Secondo me Dovete marcare Di più Tutte queste belle idee Di concetto Di design Devono essere Un pochino più marcate Io almeno Ci ho giocato Quanto vuoi Per carità Non è che ti sto dicendo Che l'ho analizzato Nel singolo bit Questo gioco Però tutte queste cose Che tu mi stai dicendo Io ti credo sulla parola Ma non sono riuscito A Cattarle Guarda Ti ripeto Non so quanto C'è visto Posso dirti Proprio Sinterizzando Visto da lontano Cioè tu lo apri Ci fai una partita Due partite Così a buffo Tipo due skirmish Così Senza impegnarti Troppo E concentrarti Sulle meccaniche Sembra un pochino Il compitino Del solito clone Di Aoe Ti dico Ti dico solo una cosa Faccio solo una Perché ne parlavo L'altro giorno Con Resonance Che ogni tanto Della gente ci dice È il solito clone Di Age E io dico Ok dove sono i cloni Di Age Ditemi lì Perché li voglio giocare Perché non li vedo Perché Cioè Dipende La cosa consideri I cloni di Age Ok Tipo Zero AD Per me non è un cloni di Age Quindi Comunque Per dirti Tu sai Non so se sai Il discorso Del Infatti faccio Un'analogia Che può sembrare strana Segui il mio ragionamento Nel cinema Il cinema Funziona A 24 Barra 25 Fotogrammi al secondo Non a 30 Non a 60 Non a 120 Lo so Lo so Perché In modo tale Che il tuo cervello Possa andare a Riempire i buchi Tra virgolette E dove riempie i buchi Il tuo cervello Cerca di metterci Cose E quella è un po' La magia del cinema Se il cinema Fosse a 60 fps A 120 fps Sarebbe strano Diverso Sì sì ho capito Io penso questo Io penso questo Venendo tu da Age Ed essendo un esperto di Age Tu guardi Tu guardi In Paesi a parte E Con l'ottica di Age Lo riempo con Age Proietti Proietti Age Su In Paesi a parte Dici È lo stesso gioco Per me Per fare un esempio Anche Con le dovute Pinze In un certo senso Se prendi Che ne so Anche Empire Earth Che è completamente diverso Nelle fasi avanzate Del gioco Ma nelle primissime fasi Sembra un po' Anche il primo Empire Earth Non il secondo Può sembrare Per esempio Un clone di Age Ce ne sono tanti Giochi molto simili Voglio dire C'era quello di Star Wars Che mi diceva Lo stesso Era proprio fatto Con il genie engine Quello era proprio Quello è un reskin Sì Quello che si chiama Non proprio le skin Le meccaniche sono Un pochino cambiate Però comunque Il proprio clone Cioè Il fatto è che Age of Empires Ha avventato un genere Adesso io non so Prima ancora Però Lo ha raffinato Mettiamola così Ma guarda Non ha creato un genere Da un certo punto di vista Comunque dovremmo risalire Addirittura a Dune 2 Per il genere T.S. Eh ma prima di Gio In Bossa Cosa è che c'era? Parlo del primo Prima di G1 Cosa è che c'era? Eh arriviamo a C'è Dune C'era Dune C'era Comando di Conquer Sì ho capito Ma C'è nel senso Che devi raccogliere Allora Come un quale C.E.C. Non ho in mente Non ci ho mai giocato Purtroppo Come se È bello vero Quindi purtroppo Non ho quel paragone Però Dune ho visto Qualche video E non mi sembra Che ci siano Quattro risorse Che ci sono Le case No no Ma infatti C.N.C. E' lo sviluppo di Dune Sono proprio Genere Diverso È un RTS Ma È per quello Che sto dicendo Che Particiamo in Pulse È Quello Voglio dire io È che ci stanno Tanti Age E pochi Dune Per fare un esempio Dico una cazzata Ti faccio Ti faccio questo esempio Qui Ti faccio questo esempio Qui Non puoi paragonare Allora Call of Duty E Due fps sì Ma implementati in maniera differente È la stessa cosa di dire Common and Conquer Age of Empires Ok Il paragone corretto Sarebbe dire Che Age of Empires È Unreal Tournament E noi siamo Quake Tu lo guardi Sì 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 Il cittadino Che prima avevo scambiato Per un'altra persona Poi ho capito Questa sciaga Insomma Dove Stavo dicendo Lui Ha scritto Guarda Copper Questo proprio No Non puoi dire Che un gioco Abbia dei soci A meno che Non siano copiari Dalla Alla Z Per quanto Un gioco Possa essere simile Sarà mai Non so perché ci sono un sacco di cose diverse Se positive Che negative Qui dice Ma infatti Io stavo parlando Di tipo di RTS Cioè quasi tutti gli RTS Cioè no Quasi tutti gli RTS No Però ci sono un sacco di RTS Anche minori Tu mi dici Quali sono i croni di Age Che li rigioco Sinceramente Alcuni nomi Alcuni nomi Non me li ricordo neanche Io mi ricordo che ne ho giocati tanti Secondari Trovati tipo in edicola Due euro Ne ho giocati un sacco Però no Io ti dovresti dire I nomi e i cognomi Non me li ricordo Perché sono giochi Che sono un po' Che sono scomparsi Perché comunque non hanno avuto Esatto Sono nati Il giorno dopo Sono morti Proprio Certo Questo è il problema Vero Eeeh Aspetta un attimo Fammi riconcludere il discorso Perché mi sono un attimino distratto Tranquilla Troppe cose Perché voglio dire tante cose Poi mi dimentico E niente Praticamente E mi ha messo Porta puttana Stagione Un concetto Leggi qua il commento Intanto No 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 Questo qua era quello Del commento Del cittadino Ah intanto Drucker dice Ma l'avevano già annunciato E4 quando Avete iniziato il progetto No No E4 quando Quando noi abbiamo cominciato A lavorare Noi abbiamo cominciato A lavorare In paese Ah ecco si E' solo recuperato Ma i casazzi Ha detto la parola Chiave Sashka Si stavo dicendo Che però Ho notato Che c'è Tissimi Quasi tutti Gli rts Vedente Che hanno 4 risorse E questo modo E sono tutti quanti Fatti Diciamo Spesso e volentieri Antichi o medievali Con gli cittadini Che vanno lì A prendere Il legname Che vanno lì A prendere Le fragoline Lì per Per E pochi Per esempio Fatti Alla cnc C'è Cloni di cnc Non ne vedo Tanti Anche di starcraft E' difficile Fare una roba del genere Non ne vedo tanti Per esempio Uno che amo tantissimo Io in una maniera folle Che glielo dico Ogni tre giorni E loro non mi stanno Dietro purtroppo Total Annihilation Per fare un esempio Non so se lo conosci Si si certo Che è pazzesco Secondo me Quello lì E' una roba Pazzesca Mai raggiunta Supreme Commander Era al seguito spirituale Non è un clone E' proprio il seguito spirituale Perché è stato fatto Dallo stesso designer Non ci è mai riuscito Arrivare a quella roba lì Ma per esempio Una cosa di terze parti Fatta per bene Di quel tipo lì Parte progetti open source Scadenti Perché ce ne sono Scadentissimi Mod Che sono veramente belle Ma si basano ancora Sul vecchio engine Eccetera eccetera Cioè uno nuovo Fatto nel 2017 E' un 2018 Insomma Che abbia quelle meccaniche lì Con la fisica La balistica Da una parte All'altra della mappa Con le risorse Che si Che si E' come dire Che sono tipo Dei serbatoi Invece che essere Con il numerello Che avanza Sono tipo serbatoi Pieno vuoto Sì 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 Con l'entrata Ogni secondo Quante entrano E quante escono Oppure una roba Per esempio La netstorm Che è un rts atipico Se non l'hai mai visto Fatelo vedere Che è una cosa stranissima E' particolarissimo Non esistono rts Di quel genere lì Secondo me Potrebbero essere Dei giochi Veramente Interessanti Perché Sono Partono da un'idea Che è buonissima E non sono mai esplosi Perché in quell'epoca Non riuscivano ad esplodere Non c'era il mercato indie Come oggi Ok Certo E quindi non riuscivano Ad avere L'efficienza mediatica Che avrebbero dovuto avere Quello che dico io Cioè Quello che avete fatto voi Sicuramente è un bel gioco Però è Sa leggermente Già visto Per la sua natura Non è una colpa vostra Non voglio essere chiaro Non è una colpa vostra E che è un design Che è stato preso Già molte volte Verrà interpretato Altrettante volte Ma è un design Abbastanza noto Già per fare esempio Stronghold Già è diverso Cioè è sempre una roba medievale Ma è diverso come design Capito che voglio dire Sì sì capisco Una cosa Che abbia quel guizzo in più Non il monaco In sé che ti rallenta le truppe Ma proprio Una roba di meccanica Di 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 Meta Di Allora Il discorso è un po' come Tipo se tu iniziassi a sviluppare Un MOBA Ok E tipo Appena Sviluppiti Eh ma ecco un altro Clone di League of Legends O di Dotto Quello che è Bravo Bravo Bravissimo Stessa cosa Tu lo puoi fare diverso Quanto ti pare Ma finché tu lo fai Nei parametri del MOBA Sarà sempre un coole di LOL Guarda Quello che ti dico Posso dire io È che Noi siamo partiti dal fatto Che Cioè il vero motivo Per il quale ne abbiamo fatto E questa parte Che di fatto RTS All'epoca non ce n'erano E È vero Perché sono un momento un po' morto Non ce ne sono neanche oggi Non ce ne sono neanche oggi Perché Di fatto Se dobbiamo fare la lista Ne stanno uscendo Sì Però Andiamo a vedere effettivamente Che cosa sta uscendo Northgard NRTS Sì Diciamo di sì La serie di 8-bit 8-bit Tu non hai giocato a Command & Conquer Ma 8-bit È fondamentalmente Una reimplementazione Di Command & Conquer In salsa Grafica Minecraft Mettiamola così Ok E Tra l'altro Hanno fatto lo stesso gioco Quattro volte Per me Secondo me Loro sono dei geni Io per me Per me Sono dei geni Perché sono riusciti a fare E vendere lo stesso gioco Quattro volte A 20 euro Una volta Geni Perché hanno fatto Tattiche commerciali Perché praticamente Hanno fatto lo stesso gioco Che si chiama 8-bit In quattro salse diverse 8-bit Normale 8-bit Armies Che era la versione Diciamo moderna 8-bit Fantasy Tipo E eccetera E tutti questi giochi Avevano tipo Una fazione luna Quindi vabbè Comunque Lasciamo perdere Cioè il discorso che Dal mio punto di vista Cioè se io apro Steam Se io apro Steam Oggi E guardo I giochi usciti Nell'ultimo anno E dico Ok I concorrenti E poi questa parte Sono questi Faccio fatica a trovarne Nel senso Ok Forse in questo momento Sì ma sai perché Perché proprio In generale L'attenzione verso gli RTS È morta Dopo il 2010 È calata Sì è calata molto È proprio morta Starcraft 2 È stato l'ultimo RTS Acclamato Di una casa grande E con un grande comparto Perché c'è la mamma Blizzard Che ci butta su un sacco Di fotografici Dopo di Sì sì Però non è che le altre Sono morte Voglio dire Dopo il 2010 Cos'è che c'è A parte Starcraft Cos'è che c'è di RTS È uscito un cavolo Cioè scusa un attimo Eh ma il motivo Cioè il motivo è semplice Che tra l'altro Le console Che altre espressioni Delle console No vabbè Cioè allora I motivi in realtà Come Come qualsiasi cosa Nella realtà Sono molteplici Non è solamente un motivo Però Volendo essere Cioè volendo fare Un certo tipo di discorso Ti posso dire che Fare Gli RTS Sono uno dei generi Più complessi Da fare In assoluto C'è un concetto C'è un concetto Di Bilanciamento No 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 Nella produzione di un gioco C'è un concetto Di minimum viable product Che cos'è il minimum viable product È Tutte le feature Che ti servono Affinché il tuo gioco Sia effettivamente Quel gioco lì Facciamo un esempio Super Mario Qual è il minimum viable product Di Super Mario È un livello Dove c'è un quadrato Che salta Premendo il tasto Che si muove avanti A sinistra e destra E in cui ci sono nemici Che arrivano Si muovono a sinistra e destra E se tu ci salti sopra Loro muoiono Questo è l'MVP Minimum viable product Di Super Mario Ok Benissimo Per arrivare a un minimum viable product Di un RTS Ti serve Selezione delle unità Movimento Path finding Risorse Raccolta delle risorse Gestione della costruzione Gestione della costruzione Degli edifici Edifici Creazione delle unità Gestione delle unità Gestione dei danni Gestione delle armature Cioè Vai a Cioè Soltanto per passare da zero A Ok facciamo una partita A un team Di centinaia di persone Serve forse Uno Un anno Uno due anni Cioè Ci rendiamo conto Quindi Essendo poi tra l'altro Un genere Che vive solo su PC Il motivo per il quale Non si fanno più RTS È che Per arrivare a un RTS Per arrivare a avere un prodotto Decente Devi spendere Lira di Dio E poi te lo comprano In quattro gatti Perché sei su PC E il grosso Viene fatto su console Quindi Capisci perché Il genere Fa vita Da un certo punto di vista Infatti Questo gioco È un piccolo miracolo Cioè Il fatto che noi In così pochi Siamo riusciti a fare Un gioco Così valido Perché Con tutti i suoi difetti E in paese a parte È un gioco valido Cioè Io vedo solo difetti Quindi per me È molto difficoltoso Parlare di in paese a parte Perché Da un certo punto di vista Lo guardo Sono come Michelangelo Gli dico Perché non parli Però Però È comunque un prodotto valido Per essere fatto Da un team così piccolo Certo Certo Quindi Io Non so come andrà Però Non sono così preoccupato Dalla gente che dica Eh ma ce ne sono così tanti Perché non Non mi risulta Ecco Magari fosse il caso Perché vuol dire Se davvero fosse il caso In paese a parte Non sarebbe uscito Perché io starei andando Starei giocando Con i giochi lì E in questo momento Starei facendo un altro gioco Non so quale Però Insomma Ma allora Diciamo che Sanzialmente ci sono due categorie Di persone C'è gente che Conosce i giochi in pari Si ha giocato No? E ci gioca In senso modo attivo Più o meno Come giocatori che hanno provato Vorrei essere tutti questi qua no? Che hanno provato Anche Tato Viste che ha fatto un video Un altro stream spagnolo Che è Mayors Gaming Che l'ha provato Eccetera Si E poi c'erano quelli Invece proprio zero Che magari hanno giocato A che ne so Con love duty Tutta la vita E magari non so Quella volta Vogliono cambiare Ehm Genere Perché Magari è uno stesso fatto Dice Vogliono cambiare Vediamo cosa c'è Ah c'è questo gioco Mediovane Eccetera E quindi loro però Non conoscono Age Ben parto Quindi in un certo senso Bisogna pensare Da quel punto di vista In senso laterale C'è nel senso Pensare C'è anche questo Eh? No no Dico c'è anche questa possibilità Effettivamente Perché noi non ci pensiamo Pensate con Age Però è vero Quindi Cosa potrebbe Allora Io ti faccio un altro esempio Adesso ti parlo di Clash of Clans Ok? Che ci sto giocando Perché In questo video Sto giocando un sacco di giochi Feel to play Perché Motivi personali Vabbè Ehm Clash of Clans Non devi Non devi giustificare Non è un peccato Sono dei miei giochi Allora Adesso C'è Senza Non è che lo nasconda Nel senso I giochi Free Mobile Fanno Al 90% Cagare Cioè Ditto Parlo di giochi No parlo di giochi strategici Non sono d'accordo però No parlo di giochi strategici Quelli che si chiamano Forge Vampire Quelle cose La verità è che Non ci sono giochi strategici Sono bai Esatto Non è possibile Farne con una precisione Esattamente Perché vengono chiamati strategici Ma non lo sono Cioè Sono praticamente Una evoluzione di Travian Sì Esatto Perché travian Poi Hai preso proprio E poi E poi ci aggiungi Non lo so Poi ci aggiungi Del suo In modo Nell'altro Adesso Io per esempio Clash Clash Come si chiama Un primo Clash Non ho mai giocato Perché mi sono rifiutato Vabbè Invece Clash Royale L'ho provato Clash Royale è un capolavoro Esatto Se non fosse uscito Overwatch Sarebbe stato il gioco Dell'anno 2016 Perché è un gioco Che non ha alcun diritto Di essere così bello È un gioco incredibile È un gioco Veramente incredibile Perché Cioè C'è un ingegno E c'è una qualità Di produzione Dietro Clash of Clans E soprattutto Un'onestà Nella maniera In cui hanno implementato Le meccaniche di free to play Che non avrebbe alcun senso Perché loro sono quelli Che hanno fatto Clash of Clans Hanno miliardi Che gli escono dal naso Nei bagni Penso che abbiano le banconote A 100 dollari Al posto della carta igienica E poi fanno Un gioco Incredibile Pazzesco Hanno fatto un gioco Pazzesco È un gioco incredibile Clash Royale Influenzerà giochi Per anni a venire Perché Infatti ci sono un sacco Di copie Però loro hanno fatto Tipo Sono stati come Age of Clans Cioè Lo strategico Più pseudo strategico Del mobile Loro hanno impostato Un ritmo Di gioco Come Travian È stato un ritmo Di gioco Per i vari Pseudo strategici Che tipo Fa la fattoria E impieghi 9 minuti E prendi il premium E fai subito Cioè Come Travian Invece Invece Loro hanno inventato Un nuovo Categoria No Come tipo Overwatch Ha inventato Oppure Non lo so Ha rinnovato Perché magari Già esistiva Qualcuno Overwatch Ha fatto La migliore Implementazione Della Dello shooter Esatto Esatto Cioè Sono queste Le Allora Quindi In questo caso Di imbarsa parte Che Trovando secondo Il mio discorso O si Vanno a toccare Quindi già persone Che Già conoscono il gioco Sto leggendo i commenti Sto scendo il mondo Comunque Continua Eh Sì Eh Dopo Dopo Ledi Sì 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 Vai Cioè Cioè È un'occasione Di parlare di gaming Poi con lo sviluppatore Cioè Si cavoli Non capita tutti i giorni Eh E Quindi Quello che sto dicendo È O avvicinare Quindi Quelli Che Papo Zero Non sanno nulla Come dicevo Che magari Ha giocato Fino al giorno prima A FIFA Ok Sto sguanando E vogliono provare qualcosa Di nuovo Magari Gli piacciono i combattimenti Perché vedeva Che ne so Il cartone Di Rear 2 Sto sparando E poi Vogliono provare In Paris Part E eccetera E in altri invece Bisogna anche Quelli che già Sono degli esperti Quindi Già sono un pochino Più maliziosi Quindi Vogliono Certe meccaniche Sono già abituate A certe meccaniche Quindi Vorrebbero che Insomma Vengano in un certo senso Rispettate Cioè Non sono rispettate Comunque C'è quella categoria Come tipo Clash of Clans Tutti ci prendi un gioco Clone Diciamo così Tra virgolette Certo Tu dici Eh questo Ma il più bello Clash of Clans Fatti nei commenti Dico spesso Dici Il più bello Clash of Clans Guarda ti dico Fare giochi È tutto un altro Paio di maniche Rispetto a A giocarle Sì Sì Lo so Lo so Immagino Cioè Ti dico Nell'ultimo anno Ho Ho avuto modo Di interagire con persone Di tutti i tipi Cioè Da quello che ti dice È troppo simile Age of Empires 2 A quello che ti dice È troppo diverso Da Age of Empires 2 A quello che ti dice E lo voglio più Tipo Starcraft A quello che ti dice Lo voglio più Tipo Age of Empires Online A quello che ti dice Cioè C'è gente che ha Opinioni Estremamente differenti Tipo una Una grossa Una cosa che sto notando È che chi viene Age of Empires 2 Dice Gli edifici sono troppo deboli Chi viene da qualsiasi altro gioco Dice Gli edifici sono troppo forti Ehm Certo Perché è Terrato su quel bilanciamento Sì Quindi poter Insomma Accontentare tutti È un casino Io ti dico Io non so Non so come andrà Perché non ho la più pari idea Di come andrà Dal mio punto di vista È un prodotto Più che dignitoso Ehm Che noi contiamo Di continuare a migliorare Ehm Che secondo me Ehm Cioè io Onestamente Detta come va detta Tanta gente Lo gioca E si diverte E lo trova divertente Perché va A far riempire un buco Che Ehm Che mancava Ehm Di 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 gente Che è stanca Di Age of Empires 2 Perché tanta gente È stanca di Age of Empires 2 Ehm Nonostante lo continui a giocare Come in realtà Il problema è un po' Il generale degli RTS Cioè un sacco di gente Gioca Gioca al proprio RTS Ma è stanca Del proprio RTS Cioè io conosco Della gente che gioca A Starcraft 2 E Odia Starcraft 2 Ma gioca a Starcraft 2 Perché è l'unico RTS Competitivo Certo Che loro riescono a stomacare Diciamo No no ma Di RTS competitivi Bene Anche Magari un occhio Agli online Al competitivo Alle ranked Non ce ne sono tantissimi nuovi Mi ricordo che è uscito Grey Gu Qualche tempo fa Sì Però Anche quello lì Simpatico Ma non mi ha mai Determinato Chissà che cosa E Grey Gu è più Sullo stile Starcraft Marra Sì però non ha quella La Verbe Perfezione Nelle Nelle meccaniche Non c'è quel Verbe competitivo Comunque Non lo so Non so come andrà Io mi auguro che Gente come voi Lo giochi E lo apprezzi Se non è così Abbiamo sbagliato Da qualche parte Però Dico noi siamo stati a Londra Tre settimane fa A una fiera Che si chiama PC Game Weekend Era farlo giocare alla gente E un sacco di gente Si è seduta Ha detto Cacchio Questo gioco è fico Ma Hai sentito una domanda Gente che non aveva mai giocato A strategici Tipo le Game Pass Suppongo Vex Guarda Questa per me è una cosa Che rimarrà Che non me la dimenticherò mai Due anni Tre anni fa Milano Games Week Eravamo lì Con l'indie Con lo stand indie E c'era in persa parte Nella sua primissima Incarnazione Si siede Si siede Ragazzina e fa Ma questo è tipo Clash of Clans Sì 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 Oddio Vabbè Da qualche parte Deve pur partire Il ragazzino E Non ha giocato Sì sì no Ma tu vedi che io sono Sbiancato Guardato Cioè tipo Il mio sguardo Si è piantato Nel nulla Tutta la vita Passarmi davanti Tipo Sliding doors Sì sì E poi Mi sono ripreso E ho fatto Sì Sì È tipo Clash of Clans No ma cosa No Sì sì Possiamo dire Perché cosa vi faccio Gli dico che il gioco A cui gioca lui Fa schifo No Possiamo dire Che è tipo Clash of Clans Alla 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 Lutissima distanza Sì È un altro gioco Ma insomma Quindi Sono rimasto un po' interdetto E poi ho detto Sì dai Diciamo di sì Ogni tanto mi sveglia la notte Ricordando questa casa Comunque Ci credo Guarda Adesso cose brutte Ma Ma infatti tipo Ma lei fa i commenti Se la secondo No no Stavo leggendo Stavo rispondendo io Sono Quasi tutti i commenti E parte in topic Parte off topic Diciamo in generale Sugli rts C'era Drucker Che diceva Aspetta un attimo Dove stava La blizzard Adesso decide di sfornare Solo un picchiaduro Dopo aver parlato No Non sarà così Non sarà così Scrivitelo Drucker Da qualche parte Il prossimo A tirare fuori Un picchiaduro Sarà Riot What Riot? Sì Scrivitelo Da qualche parte Il prossimo A tirare fuori Un picchiaduro Sarà Riot Blizzard ti posso assicurare Che non hai Comunque poi gli ho detto Guardami a contentare Di un Warcraft 4 Gli ho risposto io E tra l'altro Ho letto questa notizia Che dovrebbe Tra un mese 8 Non so quando esattamente Dovrebbe Il prossimo BlizzCon Probabilmente Uscire una notizia In merito Al franchise Warcraft Ora noi sappiamo Che World of Warcraft È terminato Perché Blizzard Ha detto Come ha detto Per Starcraft Che è terminato Quindi attualmente Warcraft Che è il principale IP di Blizzard Rimarrebbe vacante Perché non sarebbe Continuato World of Warcraft E allo stesso tempo Starcraft Che era La IP RTS Cioè l'unica IP RTS Ancora in piedi Allo stesso tempo Sarebbe morta Quindi il principale Genere che è L'RTS Di Blizzard E la principale IP Che è Warcraft Sempre di Blizzard Sarebbero tutte e due Disponibili E questo farebbe pensare Secondo degli insider Delle descrizioni interne Che si potrebbe avvicinare O una remaster Di Warcraft 3 O addirittura Un Warcraft 4 Perché dovrebbero esserci Dei leak Delle cose Delle indiscrezioni Insomma Su questo C'è sempre il discorso Che Blizzard Stampa denaro Loro hanno una tipografia Sul retro Quindi finché Finché Loro sono così Possono Prendersela Con moltissima calma Quindi Vedremo Io Sì Però adesso Hanno due IP morte Starcraft E Warcraft E in più Il genere RTS Che era Un genere Che Praticamente è stato Il loro cardine Finora Andrebbe a mancare E dato che Parlare di Che ne so Di MOBA E parlare di League of Legends Sono quasi sinonimi Praticamente Parlare di Blizzard E parlare di RTS In questo momento Che Westwood Non esiste più Che l'AEA Si è disinteressata Che anche a Microsoft In questo preciso momento È ritornata Forse Su Age Su Age 4 Vediamo come andrà Ma finora Pure lei Era morta Praticamente Sono rimasti I soli I palladini Del genere E praticamente Il genere RTS Con Starcraft 2 In un certo senso È quel gioco Starcraft like È diventato Capito che Voglio dire E quindi È come se La Riot Ha il MOBA In pugno E la Blizzard Ha l'RTS Quindi per me Un altro RTS Uscirà Non so se sarà La Blizzard Guarda che i giochi Più giocati Della Blizzard Sono Sono L'ATS Sono Overwatch Che adesso È un po' in calo Perché sono uscite Adesso Fortnite E PUBG Ma Overwatch Guarda che un gioco Veramente fatto bene Però anche quello lì È sulla falsariga Di Team Fortress Fortnite Queste cose Qui Ho capito No io sto dicendo Adesso dicevo Semplicemente Che adesso La Blizzard I giochi di Puta Sono Hearthstone E E coso Oddio L'ho appena detto È Overwatch È Overwatch Sì Guarda Comunque c'è da dire Che Dal mio personalissimo Punto di vista Il genere Dei strategici Per Blizzard Sarà sempre Non dico Un hobby project Ma quasi Nel senso che Ricordate sempre Che loro sono Activision Blizzard Ok Quindi le decisioni Le decisioni Finanziare Le prendono Quattro mai Starcraft 2 Ha fatto 5-6 milioni Una cosa del genere Come vendite Qualsiasi altro Dei loro titoli Sfonda Quella cifra Ok Quindi Ritorna a quel discorso Che ti facevo prima Di Quanto costa Fare un RTS Soprattutto Quanto costa Fare un RTS A Blizzard Considerando che Detta tra i denti Blizzard spende più In una cutscene In quello che noi abbiamo Speso nel fare il gioco Molto probabilmente Cioè Quindi Perché se lo può permettere Sanzialmente Perché certo Perché loro Perché chiaramente Loro ragionano Da Da Punto di vista Diverso Loro ragionano Dal punto di vista Siamo Blizzard Dobbiamo avere Le cutscene Da 5 milioni Ma è così Il PC Sto facendo tipo Un sacco di story Sì sto notando Sto notando È un problema noto Della Yi Che a un certo punto Impazzisce Comincia a fare storage A rottati call Poi li distrugge Perché Vedi che tu C'hai gli omini vicini E dice Oh cacchio Cosa sto facendo Comunque Non so Che cosa accadrà Vedremo Guarda Secondo me L'hanno pubblicizzato Un po' male Rispetto a Ti dico la verità Perché se tu gli butti Un RTS Con Warcraft Solo il nome Warcraft Ti fa vendere Uno sbrago Poi magari Gli dai una meccanica nuova Ascolta Ma sai Allora Sai qual è il problema Che secondo me È che Adesso il futuro Cioè È in mano A Le nuove Gli RTS Loro non li hanno visti Lo so Esatto Ma per questo motivo Che se tu ti aziende RTS È fatto bene Fai il voto Perché Oddio che è sto gioco No non è così Purtroppo non è così Cioè Non so se voi siete giocatori Di World of Warcraft Ma Io ho avuto modo Di prendere in mano World of Warcraft Molto dopo la sua uscita L'ho giocato E ho detto Cacchio sto gioco è stupendo Non ne faranno mai più Uno del genere Perché È un gioco Veramente bello Ma che ha una complessità Tale Che il pubblico Di oggi Non lo digerirebbe più No ma perché Non c'è il tempo Non c'è il tempo È lo stesso motivo Per il quale Nessuno gioca Tra virgolette Nessuno È lo stesso motivo Per il quale Gli RTS Sono un genere Di nicchia Perché Hanno una complessità Richiedono uno sforzo Tale Per cui sono diventati Un genere di nicchia Quindi Un RTS È fatto bene Se domani Se domani Uscisse Starcraft 3 E fosse Gioco sullo stile Di Starcraft 2 Diciamo Starcraft 2 Fatto meglio Non vedrebbe più Di Starcraft 2 Vedrebbe Le sue 5-6 milioni Di copie E finirebbe lì Però devi capire Che loro ragionano In ordini di grandizia Diversi Ok Cioè loro ragionano Che Overwatch Ha fatto 35 milioni Di copie Allora quando si siedono Al tavolo E dicono Ok ragazzi Facciamo uno shooter O facciamo uno strategico Assoluti Capisci Capisci che Dicono Ma ci fa schifo Ci fanno schifo I soldi o meno E Blizzard Può essere Tranquillamente In una posizione Di dire I soldi A noi ci fanno schifo Facciamo uno strategico Perché Sono Blizzard Quindi possono fare Quello che vogliono E possono dire Vabbè raghe Sapete che c'è Noi facciamo un RTS Perché è quello Che vogliamo fare Faranno sicuramente Profitto Perché sono Blizzard Non faranno Milionate di profitti E ne faranno Un po' meno Ma alla fine Torneranno a casa Con il loro giocone Fatto Fatto e finito Quindi insomma Sono ragionamenti diversi Quando arriviamo A un certo punto A un certo punto di vista Comunque Io resto Un'altra decina di minuti Poi dopo Sì sì Infatti è pure tardi Stacco che torno Dal team E vedere come siamo messi Complimenti qua L'una di notte Comunque Che volevo dire Non lo so Il fatto è che Ho deciso di buttare To Age 4 Qualche tempo fa Ho letto che La EA Ha acquisito Il Uno dei capi Di game design Proprio di Starcraft 2 E Che tra l'altro Aveva anche Partecipato Alla creazione Di Command & Conquer 3 Tiberium Wars Sempre la stessa Microsoft Ha lanciato Halo Wars 2 E Forse Questa cosa Che l'ho letta Su un giornale Non mi ricordo Se era Multiplayer.it EveryEye O qualcosa del genere Comunque un giornale Abbastanza affermato Che c'era stata Questa Indiscrezione Di un nuovo Workcraft strategico Bisogna vedere Se è remaster Remake Del 3 O un 4 Quindi in ogni caso C'è un riavvicinamento Almeno negli intenti Poi bisogna vedere Verso gli strategici Comunque Per quanto riguarda Ma proprio gli RTS Non strategici Alla civilization TBC Insomma Proprio TBS Ma proprio Capito? Sì 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 No chiaro chiaro Non so che cosa accadrà Dal mio punto di vista Sono un genere Presto per dire Ti dico Dal mio punto di vista È un genere Non morto Ma Da rinnovare No 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 Nemmeno Sono in china calante Perché gli RTS Sono già stati rinnovati Il rinnovamento Gli RTS Si chiama MOBA È già stato fatto È stato un successo Clamoroso E quindi Da lì Da lì Non si è dietro Perché Perché L'industria Va in una direzione Non va in tante Poi ora C'è un altro discorso Che sono No no Certo Sì però Se fino al giorno prima Mangiavi mele Difficilmente Cominci a mangiare carne Cominci a mangiare No Cominci a mangiare lumacchia Cioè nel senso Dubito che Il giocatore medio di COD Domani Si metta a giocare A Elite Dangerous O un gioco Incredibilmente complesso Di qualche altro tipo Solamente perché È la moda Perché Storicamente Non è questa Cioè Difficilmente Difficilmente Non ho mai visto L'industria diventare Più complessa E avere più successo Solitamente il contrario Solitamente è qualcuno Che prende una formula La scientifica All'osso Guarda Clash Royale Che è una semplificazione Incredibile Di Sì ma c'è un limite A quanto puoi semplificare No certo Per carità Però E rendi le cose più eleganti Rendi le cose più Diverse Da un altro punto di vista Ma guarda Io per come la penso Io Ovviamente Non sono Un analista di mercato Tu Hai studiato meglio di me Queste cose Quindi Non mi voglio intromettere In tutto ciò Proprio come la penso io In generale Avremo tra qualche anno Una marea di ragazzini Che avranno giocato Sempre cose molto Molto semplificate Anche magari banali Del tipo Che il gioco È stupido Ma devi comprare Con i soldi veri Le gemme Per essere un pochino Più veloce Che quando inizieranno A vedere quel gioco Più complicato Si aprendono No Gli daranno interesse Che non pensavano di avere Guarda E comunque Una cosa Che voglio Che voglio far notare È che Comunque l'industria Non è un monolita Cioè nel senso Quando io dico Che gli RTS sono morti Intendo Gli RTS sono usciti Dal mainstream Questo intendo Ok Il che significa che Se Blizzard si mette A fare un RTS È perché Blizzard Vuole bene al genere Non perché pensa Di farci soldi Difficilmente io penso Che un'azienda grossa Un domani Si metta a fare un RTS A meno che Non sono riusciti A trovare la formula Tale per cui Riescono a fare un RTS Free to play Senza che la gente Glielo tiri in la schiena Ok Sì È un genere È un genere Inchina calante Detto questo C'è gente Tipo noi Che può fare un RTS Che può piacere A un numero limitato Di persone Lo acquista Un numero limitato Di persone Il gioco costa Meno di quello Che costa un gioco Di Blizzard Costa farlo Meno di quello Che costa un gioco Di Blizzard E l'industria va avanti Cioè comunque Voglio dire I simulatori di volo Si continuano a vendere Cioè i simulatori Di farming simulator Si continuano a vendere No questo è andato in voga Sono diventato un mainstream Sì perché Perché comunque C'è comunque Una certa fetta del mercato Che ha domanda Per queste cose qui Non sono domande Da milioni 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 Di copie Ma sono domande Da magari decine Di migliaia O centinaia di migliaia Di copie Che vuol dire Che vuol dire Che tu vai Impatta E ne fai un altro E quindi Insomma Benvenga Cioè io Quando la gente dice Ah ma l'industria Qui e qua L'industria in realtà Non è messa male Perché sta uscendo Di tutto Vuoi il gioco Mainstream Super figo C'è gioco mainstream Super figo Vuoi il gioco Molto più complesso Ma Indie C'è Quindi È un bel momento Per essere giocatore Diciamo Bella vittoria Con Diarbi Ah guarda Sicuramente Negli ultimi anni Essere Cioè Essere di giocatore È fantastico Sicuramente Con tutte le offerte Che c'è adesso Le possibilità Tipo Anche semplice Fatto Sai Il RPG Maker Sì assolutamente Sì Ti rendi conto Che uno Se ci si mette Uno Proprio zero Non parati Game Maker Che tipo Lì Ci fai Qualche tutorial Comunque Qualcosa Devi studiare Un po' Cioè Devi sapere Le cose Ma RPG Maker Anche lì Ci vuole Molto di meno E ti fai la tua storia Perché Gli assets Sono già lì Fatti Devi solo Non so Penso I trigger Devi fare La storia Non è così banale Cioè La stai mettendo In maniera molto banale No Non ho mettito Come strumenti Sì Sì Perché Una volta Dici anni fa C'è Tu devi sapere Guarda RPG Maker Pure Considera Che Se non programmi È vero che Penso che Senza scrivere Una sola riga di codice Neanche uno script Qualcosina lo puoi fare Però Di scarsissima qualità Ti vai a scontrare Comunque con quelli Che ne sanno di più Ecco Perché anche con RPG Maker Ci sono dei lavori Fatti talmente bene Che Quello diventa un tool Di sviluppo Ma di fatto Il gioco L'hai programmato Capito? Sì 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 Quindi Diciamo che Si è Enormemente Diciamo che Il costo Per la produzione Di un videogioco Casalingo Homemade È diminuito Tantissimo Gli strumenti Sono migliorati Tantissimo E questi sono Linguaggi di programmazione Di scripting Che sono un pochino Migliori Di quelli del passato Prendi per esempio Il Python Che è un linguaggio Di programmazione General purpose Estremamente Semplificato Rispetto Che ne so Al C Per fare un esempio Estremamente Semplificato Ok Stessa cosa Penso che valga Un po' in generale Ora non so Esattamente So che si usa Rubi Perl Altri linguaggi Di scripting Per lo più Di programmazione Quasi sempre Vincolati A un motore Che poi Effettivamente Li mette in pratica Appunto Per lo più Di scripting So che È molto più facile Programmare così Rispetto a Programmare Tramite C Chiamando le librerie Punto H Per dire Include Quella roba lì Che è allucinante Devi fare tutto a mano Senza un'interfaccia grafica Di base Sicuramente Questo sì Però ragazzi Le competenze Di programmazione Sono sempre quelle Cioè i costi Diminuiscono Però Ma anche solo Ci vuole sempre Il design Ci vuole sempre La conoscenza Della programmazione Ci vuole sempre L'ottimizzazione La grafica I suoni Ma infatti Il problema principale Di oggi Non è tanto Il gioco farlo Ma è Poi il gioco venderlo Nel momento in cui Escono 50 100 giochi al giorno Su Steam E tu sei uno di quelli E quindi devi spiegare Alla gente che apre Steam Quel giorno lì Perché devono comprare Il tuo gioco E non Per carità Anche la fuffa Che esce quel giorno lì Perché Col fatto che adesso Tutti possono pubblicare su Steam Tutti possono pubblicare su Steam Però devi spiegare alla gente Perché il tuo gioco sì E gli altri no E quindi E quindi è un casino E quindi sì è vero Puoi fare il gioco con Game Maker Però da qui a che fai i milioni Con il gioco di Game Maker Ne passa Ne passa insomma Certo Esatto Esatto Bravo Bravo Questo era il punto Dove volevo arrivare io Ne passa È tutto qua Lo puoi fare Lo puoi fare assolutamente Se sei talmente bravo Cioè l'idea è talmente geniale Se sei bravo a programmare Che riesci A stare al passo Di quelli che magari Si usano l'engine Zero Eccetera eccetera Ce la fai eh Per carità Però Ne passa Cioè non è così Scontato Che tu sai programmare Due righe di codice E fai un giocone Deve averci comunque Una conoscenza Molto specifica Cioè Il discorso è Deve essere anche Bravo game designer Oltre che è un morto Comunque È sicuramente Molto più facile Magari persone Trovare persone interessate E anche competenti Rispetto magari A 16 anni fa Cioè è proprio Quella rivoluzione Della Della E guarda che non è così Facile però Cioè è vero Che ci sono più persone Che sanno programmare In generale Da saper scrivere Due righe di codice In un linguaggio Di programmazione Presa a caso A saperle Contestualizzare Anche con un Col di sviluppo Ben fatto Che ti semplifica La vita Ma comunque sia In un videogioco Che abbia una struttura Una forma Una ragione D'essere Ce ne passa E non ti credere Un'idea Ma si potrebbe fare Tipo a rallentare L'unità Quando si trano Nella neve Mi è venuta in mente adesso Non so perché È stata una cosa Che è stata pensata Di avere terreni Che modificassero Il comportamento Dell'unità Ma ritorniamo Sempre al punto di prima Con le mappe randomiche Guarda È molto arcade Questo È proprio Molto lineare Quattro regole Becchiare Fizio Senza troppe Dice tipo Le ragioni Di 10 cose Niente colline Niente Che ne so Roba così Esatto Senza cose specifiche Le colline Ci sono più bellezza Per metterle Piuttosto che Per una ragione Di gameplay Insomma Sì di fatto sì È sempre il discorso Cioè Comunque ogni aspetto Del gameplay È stato valutato È messo alla frusta È il discorso Di dire Ehi potremmo fare L'erba alta Potremmo fare No L'erba Sì sì Per carità Però Dal momento in cui Hai le mappe randomiche Questo vuol dire Che potenzialmente Se L'erba Se il terreno È leggermente Verso la tua direzione Rispetto a quella mia Allora è sbilanciato Oppure Significa che Improvvisamente Che ne so Metti i mongoli Sono ingiocabili Su mappe invernali E allora Hai un problema in più È un problema Che i mongoli Magari hanno un problema Sulle mappe marittime E adesso hanno anche Un problema Sulle mappe invernali E capisci Sono complessità Che devi Che devi Che devi aggiungere Con quelle pinze È quello che stavo Dicendo io prima Fare tante popolazioni Sono sei Non tre o due Completamente Differenti Molto 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 Devi fare per forza Di cose Un meta Estremamente lineare È una mappa di gioco Estremamente lineare È infatti Senza È questa la cosa Bisogna vedere se In qualche modo La formula di gioco Diventerà Notevole Cioè che sarà Riconoscibile Tra mille Sì Esatto Noi speriamo bene Comunque Sì Vi ringrazio dell'invito Figurati Grazie per le chiavi È stato molto bello È anche Ma chiama Catartico Sullo sviluppo Di Di un videogioco Che è una cosa Che mi è sempre interessata Moltissimo È che sicuramente Continuerò anche A seguire E fare Forse Chissà Grazie Manticore Per il follow Abbiamo follow Che bello Grazie mille Avete visto Hai visto Vero E già L'immagine Che bello Che bello Bellissimo Dai vi lasciamo andare Buon Vabbè Va bene Grazie ragazzi E niente Divertitevi E fatemi sapere Cosa ne pensate Per quelli che stanno Guardando il gioco Potete ancora Iscrivervi alla beta Manderemo ancora via chiavi Ah piccola Piccolissima cosa Non so se ce lo potrei dire adesso O lo tieni segreto Ma il prezzo finale Non posso dirlo È l'unica cosa Ok Però potete immaginare Che non sarà Che non sarà Da straffarsi i capelli Potete immaginare Beh certo Certo Cioè voglio dire Alla fine Vabbè Ne abbiamo parlato finora Sì esatto Cioè Non è il gioco Scatolato da 60 euro Non è in tripla Non è in tripla Esattamente Questo è il discorso Non sarà un prezzo Da tripla Però sarà Sarà il suo prezzo Un prezzo suo Va bene E niente E quindi Mettete una wishlist Su Steam Per sapere quando Quando uscirà E poi niente C'è la beta Quindi se la gente Vuole provarlo Vuole dirci che fa schifo live Puoi farlo Puoi scriversi alla beta E noi stiamo ancora Invitando gente Quindi Manderemo chiavi Penso Questa settimana Quindi C'è ancora modo Di provarlo Insomma Anche perché Noi stiamo continuando A migliorarlo Il 29 è una data Molto vicina Sì il 29 è dietro l'angolo Infatti non ricordandolo Che sennò penso Mi potrò piacere No perché vedevo Che mancavano degli eroi Sì sì Alcune cose mancano L'avete già pronti Però pronti per essere inseriti Tante cose Sì Quello che abbiamo visto È una demo Insomma Ah ecco una cosa Il TAC3 Sembra un pochino corto Tutto qua No In realtà È una cosa voluta Nel senso che Tante tecnologie Sono state È stato scremato Tutto quello che Secondo noi Non era Perché più popolazioni Quindi meno tecnologie Esattamente Un bordello Assurdo Difficilissimo Grazie ragazzi È stato un piacere Grazie Ciao Ciao Ok Perché lo chiudiamo E se avete qualche Scriveteci pure Stavo leggendo Insomma varie cose Prima Posto direttamente Per iscritto Mi sembrava il caso Di interrompere Mille volte Game maker Vabbè Alcune cose Non le ho lette Sto vedendo Che c'è molta Alacrita Nella chat Sono molto contento Per questo Mi piace La partecipazione Diceva Mantico Rain Che è anche La persona Che si è iscritta Grazie Di descrizione Che se avete tempo Andatevi a vedere Il museo Di videogiochi Di berlino Si può capire Come si sia voluto Questo macro Universo Direi micro Universo Il museo Ma cosa è Quello di roma E le teste Che c'erano E le teste Che c'erano Agli inizi Onestamente Gli influencer Sono il vero Dramma Per questa industria Allora Volevo dirle Sta cosa Allora Il discorso Che è Su Twitch C'è Su Twitch Adesso Quando tu vede Esce un nuovo gioco Tu Ti accorgi Tu non sei nulla Che è uscito Un nuovo gioco Tu Su Twitch Vedi Sui soliti Giochi Che sono tipo PUBG Adesso Fortunatica Ha scalzato PUBG E poi c'è League of Legends Counter Star Sono i top 5 Sono più o meno Quelli ormai Airstone Sono quelli E poi che succede E succede Che c'è un nuovo gioco E allora Vedi che tipo In primo o secondo posto C'è questo nuovo gioco Perché tipo I grandi influencer 3-4 Influencer grossi Fanno Il Già Proprio del gioco Magari con la chiave Che Appunto è stata data Dall'isulpatore In modo gratuito Perché ci sta Come Per dare la loro opinione E quindi È un sacco di gente Piena a conoscenza Di questo gioco Perché c'è l'influencer Che ci gioca Eccetera E per esempio Age of Empires Definitive Edition Il primo giorno Cioè tu puoi capire Che Age of Empires Definitive Edition È stato un flop Sì Perché Secondo me è stato un flop Può fare la recensione Ma è ovviamente Chiaramente un flop Non è gioia E perché Il giorno Su Twitch Quando è uscito C'erano 1700 spettatori Tipo di cui 1500 Erano di The Viper Che tipo Viper Il giocatore più forte Di Giove Past 1 E quindi Stava facendo La Live Pubblicità Spubblicità Poi non ho capito Sì Per interesse Sopera Ti prego Viper Siamo qua Siamo messi di merda Ti prego Dacci una mano Non lo so Qualcosa del genere E quindi 1700 virus Il primo giorno È una cosa tragica Ragazzi Cioè Fa schifo Fa schifo Quindi Beh dovevano Magari Prendere Qualche Quelle Quelle Che ci capisse Di più Di videogiochi Non i soliti Tipo Quelli che giocano Solo a COD Ma Ci sono anche Il panorama internazionale Tantissimi Youtuber Come per esempio In Italia Abbiamo Che ne so Of Rouse Per fare un esempio Come abbiamo Che ne so Sabacono Maiku Dico Una cretinata Tanto per dirla Ci sono Anche nella community Internazionale Degli influencer Più pensati Che sono quelli Che è vero Che hanno meno Spettatori Ma che hanno Un pubblico Più buono Che segue Meglio I loro Campioni Diciamo così Ho capito Ma tu dovresti Mettete in contatto Dovresti parlare Con Certo La Microsoft Lo può fare Quello si Ecco Un'altra cosa Ma che cavolo Basta che ne chiama 10 Non è che Un italiano Uno francese Uno tedesco Uno americano Uno inglese Uno russo Che ne so Uno cinese Uno giapponese Eh Eh La cosa Dili da pubblicità Perché da gioco gratis O boi D'altra cosa E l'altro Ci guadagna Che Provare Guarda che secondo me È stato un casino A livello di marketing Sì Gioco Ma secondo me La Microsoft Se l'è cercata Come d'altrunde Sta facendo In continuazione Ultimamente Fa di tutto Per complicarsi La vita E poi crea Qualcosa che non è Né carne Né pesce Perché vuole mettere Troppe cose Dentro Un prodotto finito Troppe cose E non succede Niente di buono Non è così Per me il problema È stato tutto Di marketing Io sono convinto Che per gli RTS Ci sia ancora spazio Sai perché Perché il PC gaming La cosiddetta PC Master Race Sta riprendendo piede In una maniera pazzesca Mentre prima Praticamente O giocavi su PC O giocavi su console Adesso si stanno Moltiplicando Le persone Che hanno tutte e due Capito Quindi se prima Giocare su console Era praticamente impossibile Giocare un RTS Infatti Quando è che è morto È morto Nella settima generazione Praticamente Gli RTS Ok Perché Perché Ha iniziato a fare Un boom Questi giochi Rapidi Potremmo dire Anche un po' Alla code Quasi tutti In prima persona Comunque sia facilmente Controllabili con un joystick Le console Hanno fatto il boato Capito come Sono diventate Ancora più di massa Di quanto già Non lo fossero Precedentemente E quindi Molte persone Giocavano su console Invece che giocare su pc Perché i pc All'epoca costavano Molto di più Di oggi A parità di prestazioni Una console Tu spendevi un terzo Di quello che valeva Un pc Con le stesse prestazioni Un xbox 360 Erano tipo 300 euro E metà Erano più potenti Semplicemente Erano molto più potenti No Non erano più potenti Erano Enormemente più ottimizzate Avevano una finestra Di prestazioni più ampia Perché anche con un hardware Minore rispetto ai computer Anche molto minore E Come dire Riuscire a fare queste cose Però con meno C'è molto meno salto Tra un hardware Dell'epoca E il computer Relativo allo stesso prezzo Rispetto a quello di oggi Cioè oggi il computer Con lo stesso prezzo È molto più potente Di una console Perché costano molto Di meno componenti Quindi l'ottimizzazione Quasi Quasi Embedded Quasi a livello Proprio di circuiti Della console All'epoca Che avevano quasi Come posso dire Una distanza prestazionale Minore Tra i componenti PC e componenti console Si sentiva molto di più La potenza della console Rispetto a quella del computer Rispetto a quella di oggi Perché? Perché oggi Con lo stesso costo Di prendere un computer Che è potente Che ne so Quattro volte nella console Mentre all'epoca Con la stessa distanza di prezzo Esatto Che era potente il doppio Di una console E quindi l'ottimizzazione Della console È la facilità padrona Allora Mi sta venendo Una cosa Scusi di interrompo Quindi scusami Piccolo Piccola parentesi Fondamentalmente Lì sono esplosi Gli fps Da quel periodo In cui Faceva uscire il suo fps Ah se Tutti vari Tutti vari E lì che Perché sono morti Secondo te Gli RT Perché era impossibile Con il joystick Controllare una roba del genere Non era Non era un gioco da salotto Eh appunto Non era un gioco da salotto L'RTS Ci hanno provato Con Halo Wars Ed è uscito Un giochino carino Un pochino fino a se stesso Che ha venduto Anche così e così Ma che Una volta finito Cioè Che gli manca qualcosa Un bel gioco Ma che gli manca Che si vede Che è un po' castrato Per via della piattaforma Di appartenenza Anche la versione Steam È carina Però è sempre una roba Che è nata su Xbox Per giocare In maniera semplice Col controller Non ha Delle Meccaniche Incredibilmente complessa Dell'economia Eh fatta bene 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 Come i Joffinpires Ok Sì E adesso invece Che stanno ritornando Pesantemente Le PC Master Race Che ormai Eh Un pc Anche Soprattutto i portatili Quanto stanno aumentando Anno dopo anno Le prestazioni Di componenti Miniaturizzati È una cosa folle Ragazzi E quindi Anche una persona Che si compra 600 euro di portatile Oggi è in grado Di fare Magari Non a livelli altissimi Di potenza Diciamo così Però se scala Un pochino Le prestazioni È in grado di giocare Anche a giochi Usciti da poco Capito Se ha un hardware recente Che supporta Vulcan Che supporta DirectX 12 Ottimizzazioni varie Eccetera eccetera Ok E quindi L'RTS Secondo me Non è morto Cioè secondo me Ha tutte le carte In regola Per tornare Ma allora Ti faccio un altro esempio Allora Hai in mente Magic Come c'è un gioco di carte Magic Un gioco di carte Come no Ok Hanno fatto Zami Scusa Zami È una semplificazione Quella che ho detto io Non è che ha le stesse prestazioni Attenzione È Molto difficile valutare Lo scarto di prestazioni Tra Di computazione Grezza Proprio bruta Tra un computer E una console Perché di fatto Sono dispositivi Che sono stati pensati Per scopi Completamente differenti Quindi quello che devi vedere È un pochino La sensazione finale Tra Grafica Risoluzione Frame rate Capito che le voglio dire Non si può dire Che in potenza bruta Siano uguali Il computer sarà Sempre 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 Sovra A parità di prezzo Anche di tanto Adesso D'ora in poi Intendi Cioè Non prima Questo discorso Prima sì Ma di meno Adesso sì E tanto Questa è la grossa differenza Questo stavo rispondendo A Zami Che diceva Oddio Stesse prestazioni Parliamo Nè un conto Un gioco ottimizzato Tocco di una piattaforma specifica Un altro Uno che deve girare Ricordiamoci anche Che ormai Praticamente le nuove console Sono diventate Dei veri e propri computer Hanno sistemi operativi Proprio da computer La PS4 Affili PSD La Xbox One C'è modificata Di Windows 10 Quindi Attenzione Comunque Finiamo la parentesi Torniamo a quello Che stai dicendo te No niente Stavo pensando Adesso A Magic E mi metti Magic Il gioco di carte Ok E praticamente Non so Nel corso degli anni Ci sono stato Un sacco Di versioni Di Magic Digitali Un sacco Tipo Agito Magic Lime Agito Mila Dieci Un sacco di versioni E Il discorso Secondo me Degli RTS È che In un certo senso Purtroppo Per Diciamo Accontentare Un pubblico Moderno Pubblico moderno Di chi gioca Allora La fascia di chi Questo è un discorso Complessissimo Ci vorrebbero Veramente un sacco Di ore Per parlare Sarebbe bello Fare un bar No Sì Adesso ne approfitto Questo là Comunque poi Scrivo nel titolo Tipo Discorsi di gaming Più Engine Insomma Intervista con lo sviluppatore Così insomma Che ci sta Che ha portato I giocatori A faci di giocatori Tieni insieme Chi che gioca Vedo che Dalle risposte Che mi stanno dando Vedo che Cosa Quello sulla potenza È complicato Il discorso sulla potenza Perché C'è una differenza Molto importante Tra potenza brutta E potenza percepita Adesso Ok Dopo 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 Ripare Sarebbe il caso Di parlare un'altra volta Mi sa Sul console Eccetera Quello Io non ci metto becco Perché non so nulla Quindi c'è il manco È una cosa molto tecnica Molto complicata Da analizzare Sì 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 Io non ci metto becco Cioè ho una PS3 Che non tocco da 5 anni E cioè quindi Questa è la mia esperienza Con le console Quindi non mi metto in mezzo Sicuramente Io non posso dire Chi che gioca adesso Ci sono Quelli Penso che Che il tetto massimo Si ha 40 anni circa Ad occhio e croce Che sono magari I vecchi giocatori Che comunque Continuano ancora a giocare Dico in un modo Più o meno costante Non che di qualcuno Che gioca Fa una partita A un gioco così Free to play Sul cellulare Sai Candy crush O queste cose qua Parlo di qualcuno Che C'è Giocatori Come intendiamo noi Tipo Ah che Quello che gioca Call of Duty È un giocatore Ha dei gusti Particolari Ma è un giocatore Cioè nel senso che Fare chi Insomma Gli piace il competitivo Quello è un giocatore Personalmente Uno che gioca A Non so A Candy Crush Lo chiamo Sempre giocatore Ma Sinceramente Non lo chiamo Competitivo Ecco Diciamo questo termine Ma guarda Sì Sfondi una porta aperta Anch'io ci ho pensato molto Su questo Argomento qua Sei per lunghissi Ad affrontare Ma adesso Era solo per dire È molto molto lungo Sì Andiamo avanti Secondo me Più che giocatore Bisognerebbe dargli Un appellativo diverso Perché è talmente Casual Come giocatore Quello di Candy Crush Come tipo di giocatore Poi magari lì ci si chiude Ma il gioco È talmente casual Ecco bra Hai ragione Hai fatto un'ottima differenzazione Che non può Può essere anche pro Che non si può Identificare nel Gamer Magari Lui è competitivo È il primo giocatore Al mondo Di Candy Crush Cioè nel senso che Devi Magari pensare In un modo particolare Perché Insomma Ha delle Meccaniche Si Master Race Eccoli là Attenzione A parte il flash Vai vai Bravo bravo Io ce l'ho Mi raccomando Flamma di brutto No ma no No ma no È l'asquip Non Flamma Si lo so Lo so Ma è No io volevo incitare La gente Non sa perché Se la gente Flamma Sono visual Ma cosa Vabbè E quello che volevo dire È che per esempio Adesso i giocatori Sono Di nuova generazione Hai capito E questi Purtroppo Sono stati viziati Ed è molto difficile Secondo me Ridocarli A Anche se c'è In un certo senso Un ritorno A retro gaming È molto difficile Educare Adesso Queste nuova generazione A A regole vecchie E secondo me È anche ingiusto Nel senso perché Tu ti metteresti a giocare Una campagna Di Joven Bar 2 Tutte le campagne Che sono tipo infinite Sono tipo centone Cioè Io mi spero Cioè Io mi spererei Magari mi faccio Le campagne Di nuovo espansione Ma quelle vecchie Io non me ne giocherò Mai più In tutta la mia vita Quindi Adesso Diciamo Le nuove Nuove esigenze Se imposto Questo standard Tipo di fare Le cose un pochino Più veloci Questo non significa Che non debbano essere complesse Perché appunto Come dicevi tu Kenny Crash In un certo senso Purtroppo È proprio casual Per tutta la definizione Può anche avere Tutte le meccaniche Tipo che Devi fare Che ne so Non so neanche come si gioca Comunque devi fare Le bolle Particolari Che non so Magari può essere complicato Ma comunque Un conto è quello Un conto è micrare Nei giove in pars Cioè capito C'è proprio La parte La differenza proprio di skill Di preparazione Dietro Non si può confrontare C'è un discorso di preparazione Di preparazione Detto questo Detto questo Io sto pensando Adesso a Magic Tutto questo Per il discorso di Magic Magic hanno fatto un sacco di giooposte Online Digitali Un sacco E praticamente Nessuno ha avuto successo A parte Magic Online Per un periodo Ma per il resto È sempre Non è mai riuscito Dei collari Cioè loro Praticamente Adesso stanno usando La complessità Di Magic Perché Magic È un gioco Molto più complesso Di Airstone Cioè Questo non è sempre saputo Però Adesso sono adattati A queste Queste Richieste moderne E in un certo senso È una sconfitta Però secondo me Se il prezzo da pagare Per Restare al passo E far conoscere Qualcosa di bello Come Magic Secondo me È la strada giusta Questo è Quello che volevo dire Portando appunto Ad esempio Un gioco come Magic Che è tipo 25 anni Cioè gioco di carte Viene proprio 25 No 20 anni 93 93 25 anni Sì tipo Credo Boh Non mi ricordo Bene prego 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 No no Ho capito Ho capito perfettamente Comunque in generale Come Engine Penso che Ci sia un limite A quanto si possa Rendere il tutto Giocattoloso E E Semplificato Ok Io A me piacciono gli alberi A me piacciono gli alberi Cioè gli edifici ti dico Non mi piacciono Non riesco a farmi di piacere Cioè Non mi piacciono Cioè io li farei più Un pochino più Con anche due Cioè Questi edifici Adesso li vedo blu Ma fai tipo Due diversi Cioè fai Una piccola Una piccola variazione Anche un blu più chiaro Solo per varia Perché veramente È troppo monocromatico Secondo me Vanno bene C'è struttura semplice Aggiungi un po' di colore Ed è perfetto Gli alberi sono perfetti Mi piacciono Sono belli Tipo legge Dalla grafica Al suono carino Alla meccanica Semplicistica Alle gemmine Che le devi comprare Perché per rendere Un gioco più facile Più veloce Capito com'è C'è un limite A quanto puoi semplificare Come c'è un limite Alle lootbox Che puoi imporre La storia AI Io penso che sia Proprio categorica In questo Cioè sia proprio Determinante Insomma Fa capire Sia uno stato d'animo Hanno praticamente L'hanno fatta fuori dal vaso Come si può dire Sia che Sia arrivati a un limite Secondo me Che difficilmente Sarà superabile Di Di Drogaggio del gioco Di quanto si possa peggiorare La qualità di un gioco Anche soltanto attraverso Meccanismi Forzosi Per guadagnarci Per semplificarlo Per renderlo Più Diciamo Meno hardcore Possibile Ok E Invece Per esempio Mi viene da pensare Esattamente all'opposto A un Dark Souls Un gioco Complicatissimo Dio santo Non capisci niente Quando entri Muori 300 volte È frustrante Ti caccia fuori Dice Disinstallami E invece È diventato Un cavolo È diventato Ed è stato considerato Un capolavoro Assoluto Secondo me A tutte le ragioni Del mondo Per esserlo Oppure Alla Come si chiama CD Project Red Per fare un esempio Che ha detto no A tutte quante Le minchiate Le microtransazioni Le cose drogate Viziate Viziate no Per rendere il gioco Più semplice Più Estrarre soldi Dei giocatori In maniera forzosa Estrarre Una miniera Esatto Sì proprio Sì proprio Estrarre Non è un termine casuale Però è proprio detto Estrarre Lo so Lo so Lo so Lo capito Che li bevano proprio Capito E così via Insomma Che invece ha fatto Dei giochi anche Complicati Anche di qualità Estrema Io non credo Esattamente che Cioè io credo Che il mercato Sia virato pesantemente Verso la direzione Che diceva Engine Ma che allo stesso tempo Quella direzione Non sia più percorribile Perché l'hanno Talmente tanto saturata Che c'è un ritorno C'è un ritorno A quello che è Un pochino più Di qualità Perché si è talmente Piano di monnezza Che di quella monnezza Se tu vuoi la monnezza Non cerchi altro Che la monnezza Non te ne serve Sempre di più Te ne serve sempre di più Di materiale Di altissimo livello Perché Se io voglio una cagata Io Qualsiasi essa sia Mi va bene Perché è una cagata Ok Se io voglio materiale Di alto livello E tu continui A propormi cagate Io prima o poi Mi incazzo E ti abbandono Questa è la differenza Secondo me Importante E quindi per me Nel tempo Si ritornerà Verso giochi più complicati Più Più di pensiero Mantenendo i giochi Più semplici Più Diciamo così Quell'anello annato Tra virgolette O Extremamente Casual Come una Fascia di Videoludica Che comunque Continuerà ad esistere Saranno soddisfatte Semplicemente Tutte e due le categorie Secondo me Funzionerà così Poi magari Devo una cazzata Ma Non lo so E ho fatto lo scientifico Jonah Comunque Vabbè Ha fatto il classico Vogliamo più Cagate Cosa Vogliamo più cagate Ma Allora No Io adesso sto pensando Un'altra cosa Adesso sto giocando Adesso Se starete guardando È carina Come cosa Quindi dove Ragazzi Sono l'una e mezza Io direi No no Dico l'ultima cosa Hai visto questa cosa Della survival Che tipo Devi C'è questo centro Tu sei il centro E ci sono le ondate Che arrivano Ok Io ho senso Secondo me Questo è Sempre per Injale Ragazzi Fate Fate Assolutamente Levo su sta cosa Su questa Survival Mode Perché Ci sono un sacco Di persone A cui piacciono Le tower defense O queste cose qua Le survival A me piace Tower defense Esatto A me Io non sono un patito Un grande patito Cioè Nel senso Ci gioco Magari Mi piace Però Cioè Se devo uscire Io penso Che sia un genere Sfruttato malissimo Che sia un genere Che veramente Potre È molto difficile Cioè Eh ma è là Che è il bello Cavolo La sfida Perché No L'ultimo Difficile da giocare È molto difficile Ah ecco Mi hai fatto ricordare Una roba Che io dicevo 5-6 anni fa Secondo me è bellissima Che nessuno Non lo sento mai Dire Ma secondo me Veramente È importante Ed è la differenza Tra i videogiochi Semplicistici Che Che vanno per la maggiore Adesso In alcuni Non tutti Eh Non in tutti i campi Però In alcuni campi Vanno per la maggiore E i videogiochi Arcade Che c'erano per esempio Negli anni 90 Davanti a un cabinato Che anche lì Andavano per la maggiore Ma E entrambi Tendono a spillare soldi Ma in maniera Estremamente opposta Ora Faccio un pochino Un'analisi breve Entrambi i giochi Sono estremamente semplici Tu appena prendi Candy Crash Sai giocare Appena prendi Metal Slug Sai giocare Perché? Perché tu devi Dovevi andare Adanti al cabinato All'epoca Così come tu adesso Scorri il Play Store Su Google Stessa cosa E devi decidere A chi vuoi dare I tuoi soldi Fondamentalmente Ok? In maniera molto rapida Un divertimento istantaneo Fondamentalmente L'unica differenza Che Negli arcade dell'epoca Era Molto curato L'aspetto Estetico Di gameplay Di qualità Dell'opera Grafico Musicale Ci stanno certi giochi Per Neo Geo Che hanno delle colonne sonore Che madonna santa Manco Skyrim Cioè Non scherziamo Veramente Ma i giochi Sembra una puttanata Ma i giochi Vieno fatti con passione Sì Ma vuoi mettere Ascoltami Vuoi mettere Con un intento Venevano fatti con una progettazione Con un intento Quelli di adesso Sono semplicistici Perché sono semplici Adesso A me evidentemente Stronghold 3 Mio Dio Mio Dio Cioè Io sono morto Quando ho giocato E' fatto con scazzo Proprio Stronghold 3 Quello è il problema Cioè Non Ma anche Stronghold Crusader 2 Ti devo dire Non è riuscito Non è riuscito a prendere Non ce l'ho provato Ma Vabbè Continua Continua No no Quello che stavo dicendo io E' che in realtà Il gioco semplice E' sempre esistito Cioè se tu fai Tipo il paragone Tra un Tra un arcade E un gioco Attuale Alla fine In un certo senso Hanno molti punti di contatto Perché sono entrambi Dei giochi Che tu appena li accendi Sai giocare Ma c'è una grandissima differenza In termini di qualità Questo è il problema Quindi il discorso E' questo Tu se vuoi Puoi sempre fare un gioco Incredibilmente bello Anche se non Anche se non è complesso Il problema è questo Più che la complessità Che può esserci O può non esserci E' la qualità Quella che manca E questa non mi venire a dire Che è un discorso Di giocatori Che non sono avvisi Per esempio In parte a parte Vuole puntare più Sulla qualità Nel senso che Vuole Cioè Sulla semplicità Sì Sulla semplicità Il problema è questo Che la differenza Tra Semplicità Ed esseri minimali Eeeh E' un confine labile E' un confine labile Io ho l'impressione Che Empires Apart Sia minimale Non Semplice Questo è il problema Anche per motivi Diciamo logistici Cioè capito Però sono tre Sono tre sviluppatori Ripeto Sono tre sviluppatori Hanno fatto una madonna di gioco Tre sviluppatori Eh Ma facciamo così Continuo sicuramente Un'altra volta E parleremo ancora di queste cose E salutiamo Tutti i colleghi che ci hanno visto Specialmente Oracolo Che sa Se mi sta ascoltando Sa Che cosa intendo Chi mi sta riferendo Auguro Auguro quindi tutti Una buonanotte Ci sentimo presto Magari con una specie di chiacchierata Magari Venite anche voi Questa è una cosa che voglio fare Da sempre Il Il video bar Il mio sogno proibito Il mio sogno proibito È stata un live un po' D'emergenza Nel senso che Domane Stasera C'è un evento Con Mi piaceva comunque Avere una live Prima degli inglesi Diciamo Anche se In realtà ci sono state già Live spanioli E francese Però insomma Mi piaceva sta cosa Dunque sicuramente Faremo un'altra Prima del 29 Faremo un'altra live E cerchiamo adesso Un pochino più Con l'idea più chiare Grande Non l'ho visto Non l'ho visto E niente Se io stacco Ah infatti anche a me È capitato di vederlo Però ti ringraziamo Va bene dai Ciao Buonanotte a tutti Ciao ciao Ci vediamo Ciao 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 cagari Ciao cagari